1. La storia di Hadley Mi hanno consegnato questi documenti perché ne curassi la pubblicazione. Comincerò quindi con ricordare la scomparsa della nave Stratford, partita un anno fa per un viaggio di studio della vita negli abissi marini per ricerche oceanografiche. La spedizione era stata organizzata dal professor Maracott, il celebre autore di morfologia dei lamelli branchi e di formazioni pseudocoralline. Insieme a Maracott si trovava il dottor Cyrus Hadley, che era stato assistente all'Istituto Zoologico di Cambridge nel Massachusetts e quando vi fu la spedizione era vincitore di una borsa di studio ad Oxford. Il capitano Uvi, un esperto marinaio, comandava un piroscafo con un equipaggio di 23 uomini, tra cui un americano proveniente dai cantieri Meribank di Filadelfia. Tutte queste persone oggi non ci sono più e l'unica notizia che si sia avuta di quella sfortunata imbarcazione ci viene da una nave norvegese che, durante la grande tempesta dell'autunno 1926, vide affondare un bastimento la cui descrizione corrispondeva allo Stratford. Una sciolupa di salvataggio con la scritta Stratford venne rinvenuta più tardi vicino al luogo del naufragio insieme ad alcuni tralicci del ponte della nave, un salvagente e un troncone dell'albero. Tutto questo, unito alla mancanza di qualsiasi altra notizia, sembrò confermare nel modo più assoluto la perdita della nave e del suo equipaggio, il cui destino pare inoltre avvalorato dallo strano messaggio radio ricevuto allora che, sebbene fosse in massima parte incomprensibile, lasciava ben pochi dubbi sulla sorte della nave. Ma di questo ne parleremo più avanti. Invece c'erano parecchi punti assai dubbi concernenti la crociera dello Stratford che provocarono all'epoca vari e disparati commenti. Uno era la curiosa segretezza osservata dal professor Maracott. È vero che era famoso per il suo disprezzo e l'atteggiamento di sospetto che nutriva nei confronti della stampa, ma questo suo modo di fare oltrepassò ogni limite quando si rifiutò non solo di dare informazioni ai cronisti, ma proibì a qualunque rappresentante della stampa di salire sulla nave durante il periodo in cui sarebbe rimasta ormeggiata al molo Albert. Si diceva che alla nave fossero state apportate modifiche molto particolari che l'avrebbero resa idonea ad un lavoro sul fondo dell'oceano, e tali voci vennero confermate dalla ditta Hunter & Co. di West Hartlepool dove la nave avrebbe per l'appunto subito tali modifiche. Girava voce che, grazie a questi interventi, la carena della nave fosse staccabile e il particolare provocò qualche inquietudine agli assicuratori dei Lloyd che arrivarono a stipulare la polizza dopo parecchi tentennamenti. L'episodio, all'epoca dimenticato in fretta, ritrova ora la sua importanza e del destino dello Stratford si torna a parlare con rinnovato interesse. Siamo ora in possesso di quattro documenti che gettano una luce diversa sui fatti. Il primo consiste in una lettera scritta dal signor Cyrus Hadley dalla capitale delle Gran Canarie al suo amico Sir James Talbot del Trinity College di Oxford durante l'unica occasione, per quel che ci ha dato sapere, in cui lo Stratford toccò terra dopo aver lasciato il Tamici. Il secondo è lo strano messaggio radio cui ho accennato prima. Il terzo è una parte dei giornali di bordo della Rabella Knowles che parla della sfera di vetro e il quarto ed ultimo riguarda il contenuto di quella sfera di vetro che può venire considerato o come la più abile delle mistificazioni oppure come un nuovo e straordinario capitolo nell'ambito delle esperienze umane, la cui importanza non va certamente sottovalutata. Dopo questo preambolo renderò nota, grazie alla cortesia di Sir James Talbot, la lettera del signor Hadley mai pubblicata prima d'ora. Porta la data del 10 ottobre 1926. Caro Talbot, ti spedisco questa mia da Port della Luz, dove ci siamo ancorati per qualche giorno di riposo. Il mio miglior compagno di viaggio è stato il capo macchinista Bill Scanlan, il quale, dato che è mio compatriota e ha un ottimo carattere, va molto d'accordo con me. Tuttavia, questa mattina sono da solo, dato che lui, a suo dire, ha un appuntamento con una gonnella. Come vedi, parla esattamente come gli inglesi si aspettano che faccia un vero Yankee, eppure lo accetterebbero subito come uno della loro razza. Soltanto l'impressione mi fa sentire un ospite quando sono in compagnia dei miei amici inglesi. Penso che non riuscirebbero mai a capire che sono uno Yankee, anche se lo volessi. D'altra parte, con te la situazione è diversa, per cui consentimi di dire che troverai solo puro Oxford in questa lettera che ti sto scrivendo. Hai conosciuto Maracott alla Mitra, e dunque sai bene che razza di uomo sia. Mi sembra di averti già detto che mi ha trovato per caso per questo lavoro. Aveva chiesto al vecchio Somerville dell'Istituto Zoologico che gli mandò quel mio articolo sui granchi di mare, e il gioco era fatto. Naturalmente sono felice di poter lavorare su argomenti che mi sono congeniali, ma avrei desiderato che non mi fosse capitata una mummia vivente come Maracott. È quasi inumano nel suo isolamento e per la dedizione al proprio lavoro. Il duro più duro del mondo, lo chiama Bill Scanlan, eppure non si può fare a meno di ammirare una così totale dedizione. A parte la scienza, non esiste nulla per lui. Ricordo come ridevi quando gli chiesi che cosa avrei dovuto leggere per prepararmi all'impresa, e lui rispose che avrei dovuto studiarmi l'edizione completa delle sue opere e per rilassarmi il Planton Studien di Hackel. Oggi non lo conosco certo meglio di quanto lo conoscesse allora, quando lo incontrai in quel salotto di Oxford High. Non parla mai, e il suo viso ascetico, il volto di un savonarola, o forse meglio di un torchemada, non fa mai trasparire allegrie. Il naso lungo e affilato, i piccoli occhi grigi scintillanti, strettamente ravvicinati sotto le sopracciglia cespugliose, la bocca imbronciata dalle labbra sottili, le guance incavate da una vita ascetica e di pensiero, lo rendono assolutamente unico. Maracott vive in una sorta di altopiano mentale, fuori dalla portata dei comuni mortali. A volte credo sia un po' matto. Pensa ad esempio a quello straordinario congegno che ha costruito, ma ho deciso di raccontarti le cose per ordine, e alla fine giudicherai tu. Ti racconterò tutto dal principio. Lo Stratford è una bella nave, anche se piccola, che tiene bene il mare ed è particolarmente adatta al suo compito. Stazza 1200 tonnellate, ha ponti puliti e larghe e solite murate fornite di ogni possibile congegno per scandagliare, sciabicare, dragare e rimorchiare. Naturalmente è dotata di potenti argani a vapore per poter trainare le reti a strascico e di un gran numero di diversi dispositivi di vario genere, alcuni dei quali mi sono abbastanza familiari, mentre altri appaiono alquanto strani. Le nostre confortevoli cabine sono situate sotto coperta con un ottimo laboratorio completamente attrezzato per i nostri studi specifici. Aveva la reputazione di essere una nave misteriosa ancora prima di partire e ho scoperto ben presto che tale voce non era priva di fondamento. Le prime operazioni furono abbastanza normali, virammo verso il mare del nord e immergemmo gli strascichi una o due volte per brevi tratti, ma dato che la profondità media del mare non superava i 18 metri e noi eravamo particolarmente attrezzati per le grandi profondità, sembrò più che altro una perdita di tempo. Come era prevedibile, non abbiamo pescato niente di interessante, a parte un po' di pesce da tavola, gattucci, calamari, meduse e depositi di argilla melmosa. Poi abbiamo doppiato la Scozia, avvistato le Faros e navigato lungo il Wildville Thompson Ridge, dove ci è capitata migliore fortuna. Di qui ci siamo diretti verso sud, cioè verso quello che era il nostro obiettivo, la zona compresa fra la costa africana e quelle isole. Abbiamo anche rischiato di arenarci a Fuerteventura in una notte senza luna, ma a parte questo, il nostro viaggio non ha avuto particolari incidenti. In queste settimane ho tentato di fare amicizia con Maracott, ma ti assicuro che non è impresa da poco. È l'uomo più meditabondo e distratto che io conosca. Ricorderai di aver sorriso quando diede un penne al ragazzo dell'ascensore credendo di trovarsi su un'auto pubblica. È sempre talmente immerso nei suoi pensieri da dare l'impressione di non sapere dove sia o che cosa stia facendo, e inoltre è riservatissimo. Lavora senza sosta ai suoi iscritti e alle sue carte nautiche che nasconde prontamente alla vista di chi, come è capitato a me, va a fargli visita in cabina. Mi sono perciò convinto che quest'uomo abbia in mente qualche progetto segreto, ma lo terrà per sé fino a quando non saremo costretti a fermarci in qualche porto. Questa è anche l'impressione di Bill Scanlan. «Signor Hadley», mi ha detto una sera mentre mi trovavo in laboratorio per analizzare il grado di salinità di alcuni campioni che provenivano dalle nostre operazioni di scandaglio. «Cosa crede che abbia in testa quest'uomo? Ha idea di che cosa voglia fare?» «Suppongo», gli ho risposto, «che faremo ciò che il Challenger e una dozzina di altre navi hanno fatto prima di noi, arricchendo la classificazione dei pesci e aggiungendo dati alla nostra carta batimetrica. E invece non è questo», è stato il suo commento. «Lei dovrà rivedere le sue supposizioni. Mi dica, qual è secondo lei il mio ruolo qui dentro?» «Beh, controllare il funzionamento dei macchinari», azzardai. «Niente affatto. È il signor McLaren, l'ingegnere scozzese che si occupa dei macchinari. No, signore, non è per far funzionare uno stupido motore che la Mary Bank ha mandato il suo miglior specialista. Se mi sganciano 50 dollari alla settimana, sarà ben per qualche cosa. Venga con me e lo capirà». A quel punto cavò fuori di tasca una chiave e con quella aprì una porta sul retro del laboratorio. Arrivammo dopo aver sceso una scala a una sezione della stiva ingombra di quattro casse da imballaggio, a parte quel tanto che bastava per intravedere degli oggetti luccicanti ed enormi. Erano lamiere d'acciaio con bulloni e chiodi lungo i bordi. Ciascuna di queste larga almeno dieci piedi e con uno spessore di un pollice e mezzo. C'era inoltre un'apertura circolare proprio nel mezzo, di circa diciotto pollici. «E che diavolo è questo?» domandai. Il buffo viso di Bill Scanlan, una via di mezzo tra quello di un comico da vaudeville e quello di un pugilatore, ha risposto al mio stupore con un ghigno. «Questa è la mia creatura, signore!» «Sì, signor Hadley, è questa la ragione della mia presenza qui. Là, in quella grande cassa, c'è una base d'acciaio alla quale corrisponde una copertura avvolta che ha un grande anello d'aggancio per una catena o gomena che sia. Dia un'occhiata alla carena della nave. Era una grande piattaforma quadrata di legno a cui angoli sporgevano delle viti, segno evidente che il fondo era staccabile. «C'è un doppio fondo!» mi ha confermato Scanlan. «Può darsi che il tipo sia pazzo oppure che sia più sano di quanto non dia a vedere, ma se ho capito bene vuole costruire una specie di stanza completa di oblò e farla scendere attraverso la carena della nave. Ha fatto installare dei riflettori e ha presumo che voglia farne uso per vedere attraverso gli oblò che cosa c'è fuori. Avrebbe potuto sistemare una lastra di cristallo sotto la nave come fanno nelle barche dell'isola Catalina se questa fosse stata la sua intenzione?» risposi. «L'avete detta giusta!» esclamò Bill Scanlan grattandosi la testa. «Per ora non ne so niente. L'unica cosa sicura è che sono stato inviato qui per obbedire ai suoi ordini e per aiutarlo meglio che posso con quel dannato e strambo marchincegno. Fino ad oggi Maracot non mi ha detto niente ed io non gli ho chiesto nulla, ma cercherò di ficcare il naso in giro e prima o poi verrò a sapere tutto quello che c'è da sapere». E fu così che mi avvicinai per la prima volta al nostro mistero. Navigammo per un po' in acque sporche e torbide dove in seguito cominciamo a fare dei prelievi del fondo marino con reti a strascico a nord-ost di Capo Iuba proprio al limite dello zoccolo continentale prendendo e annotando la temperatura dell'acqua e la percentuale del sale. È un progetto per così dire sportivo questo continuo dragare gli abissi marini con uno strascico di pelle di lontra largo 6 metri per trattenere qualunque cosa si trovi nella sua scia a volte per la profondità di circa mezzo chilometro pescando in tal modo una certa qualità di pesce e altre volte a quasi un chilometro di profondità da dove si portano su pesci completamente diversi. Era come se ogni livello dell'oceano fosse un continente a sé con i suoi propri abitanti. In altre occasioni dal fondo del mare veniva tirata su con la sciabica una mezza tonnellata di gelatina rossa pallido che era la sostanza vivente alla base della vita messa a nudo o forse soltanto melma di pteropodi che sotto l'occhio del microscopio si frammentava in milioni di minuscoli globi cilindrici dalla superficie retticolare pieni di fango. Ma non voglio annoiarti con brutilidi e macruridi ascidi e oloturie polizoi ed ecchinodermi. Puoi comunque facilmente immaginare la varietà di messi dell'oceano e quali diligenti mietitori siamo stati noi. Eppure continuava ad avere l'impressione che il cuore di Maracott fosse lontano mille miglia dal lavoro che stavamo facendo e che altri progetti si agitassero in quella sua strana lunga e sottile testa di mummia egizia. Tutto questo sembrava quasi finzione finché il vero scopo del viaggio non fosse venuto alla luce. Questo è tutto quello che sono venuto a sapere fino al mio sbarco a terra in quest'ultimo periodo di breve sosta dato che leviamo l'ancora domani mattina presto. Ma ora è meglio che vada perché c'è una grossa grana che è scoppiata sul molo tra Maracott e Bill Scanlan. Bill è un'attaccabrighe fenomenale e a suo dire ha un maglio in ogni pugno ma con una mezza dozzina di meticci armati di coltello tutt'intorno la faccenda sta assumendo una brutta piega ed è tempo che mi butti nella mischia per dargli una mano. Riprendendo a scrivere dunque sembra che il professore abbia affittato uno di quei trabiccoli che gli abitanti del luogo chiamano taxi e abbia scorrazzato per mezza isola studiandone la conformazione geologica scordandosi però che non aveva con sé il denaro per pagare il noleggio. Quando è giunto il momento di pagare non è riuscito a farsi capire e il tassista si è subito impossessato del suo orologio come pegno. Questo gesto ha fatto arrabbiare Bill Scanlan che ha fatto partire il suo celebre pugno e sicuramente si sarebbero ritrovati con la schiena a terra ridotti come dei puntaspilli se non avessi sistemato la faccenda con un paio di dollari per il conducente e una mancia speciale di cinque dollari per l'occhio nero che si era buscato. Così tutto quanto è finito per il meglio e ho notato che Maracott si dimostrava più umano di quanto non l'avessi mai visto prima. Più tardi quando siamo tornati sulla nave mi ha chiamato nella sua piccola cabina e mi ha ringraziato. A proposito signor Adley mi chiese sbaglio non siete sposato. No risposi io non lo sono. Qualcuno dipende da voi? No. Bene finora non ho parlato dello scopo del mio viaggio perché per ragioni personali desideravo restasse segreto e tra queste c'era il timore di venire preceduto da qualcuno. Quando le notizie sui progetti scientifici cominciano a circolare può capitare quello che capitò a Scott rispetto ad Amundsen. Se Scott fosse stato cauto come lo sono stato io il primo ad arrivare al Polo Sud sarebbe stato lui e non Amundsen. Per quel che mi riguarda ritengo che la mia destinazione sia altrettanto importante del Polo Sud ed è per questo che non ne ho parlato in giro. Ora però finalmente stiamo per dare inizio alla nostra grande avventura e nessun rivale potrà più rubare la mia idea. Domani ci metteremo in viaggio verso la nostra meta e quale sarebbe? Lui si piegò in avanti mentre il suo viso ascetico si accendeva di un entusiasmo da esaltato. La nostra meta è il fondo dell'oceano atlantico. A questo punto dovrei fermarmi perché immagino che la notizia ti abbia lasciato senza fiato come del resto è successo anche a me. Se fossi uno scrittore suppongo che dovrei fare una pausa ma poiché sono soltanto un semplice cronista posso dirti che sono rimasto un'ora nella cabina del vecchio Maracott e che ho imparato molte cose di cui mi accingo a scriverti prima della partenza del postale. Sì, giovanotto ha continuato lui ora può scrivere liberamente poiché quando la sua lettera raggiungerà l'Inghilterra avremo già fatto il grande tuffo. A quel punto ha cominciato a ridacchiare credo che a suo modo abbia un certo senso dell'umorismo quest'uomo. Sì tuffo è la parola giusta un tuffo storico per gli annali della scienza. Mi lasci dire innanzitutto che sono completamente convinto che la dottrina attuale circa la notevole pressione dell'oceano a grandi profondità sia del tutto errata. È perfettamente chiaro che esistono altri fattori in grado di neutralizzare l'effetto anche se non sono ancora in grado di individuarli e questo sarà uno dei problemi da affrontare. Ora quale pressione chiedo lei suppone che esista ad un miglio di profondità? I suoi occhi mi fissavano come se fossero incandescenti dietro le spesse lenti degli occhiali di corno. Non meno di una tonnellata per pollice quadrato gli risposi è stato ampiamente dimostrato. Il compito del pioniere è sempre stato quello di mettere in discussione ogni risultato. Usi il cervello giovanotto. Lei ha passato l'ultimo mese a pescare alcune delle più delicate forme di vita marina tanto delicate da non poterle quasi trasferire dalla rete e alla vasca senza alterarne la forma. Ha trovato che ci fosse traccia della pressione marina su di loro? La pressione ho ribattuto si compensa trova un equilibrio tra l'interno e l'esterno. Parole solo parole ha gridato scuotendo il capo con impazienza. Ha raccolto pesci dal corpo rotondo del tipo gastrostomus globulus avrebbero dovuto essere piatti se la pressione fosse come lei dice e guardi le nostre reti da scandaglio avrebbero dovuto essere schiacciate all'imboccatura della sciabica e l'esperienza dei sub si è vero rappresentano un punto a sfavore della mia obiezione essi si trovano di fronte ad un aumento di pressione in grado di influenzare quella che è forse la parte più sensibile del corpo umano ovvero l'interno dell'orecchio comunque secondo il mio piano non dovremmo essere esposti ad alcuna pressione scenderemo verso il fondo in una cabina d'acciaio dotata di oblò di cristallo su ogni lato per permetterci di osservare l'esterno se un pollice e mezzo di acciaio con due strati di nickel resisterà alla pressione allora non avremmo nulla da temere il nostro è un passo in avanti rispetto all'esperimento dei fratelli Williamson a Nassau di cui lei è sicuramente a conoscenza se invece i miei calcoli fossero sbagliati ebbene nessuno dipende da lei signor Adley avremo l'onore di morire in una grande avventura ma se preferisce non aderire partirò da solo mi sembrava la cosa più pazzesca che avessi mai udito eppure sai quanto mi sia difficile rifiutare una sfida così ho preso tempo per pensarci su a quale profondità intende arrivare signore gli domandai il dottor Maracott ha indicato con il suo compasso un punto a sud-est delle Canarie sulla carta che aveva sul tavolo l'anno scorso ho fatto alcuni rilevamenti in questo punto e ho scoperto che c'è un abisso di grande profondità circa 7600 metri sono fermamente convinto che nelle carte del futuro verrà indicato come l'abisso di Maracott ma buondio signore ho esclamato non penserà davvero di scendere in quell'abisso no no ha risposto lui sorridendo la nostra catena di aggancio e i tubi dell'aria hanno un'estensione che non supera il mezzo miglio ma vede desideravo spiegarle che attorno a questo enorme crepaccio sicuramente creato da eruzioni vulcaniche molto tempo fa si è formato un crinale qualcosa di simile ad uno stretto altopiano che si trova a non più di mezzo chilometro dalla superficie 500 metri un terzo di miglio sì più o meno ed è mia intenzione scendere su questa piattaforma sottomarina con la nostra cabina pressurizzata e da laggiù procedere a tutte le rilevazioni possibili saremo collegati via cavo con la base per poter dare tutte le istruzioni necessarie e non vedo difficoltà in tal senso quando desidereremo risalire non avremo che da dirlo e l'aria verrà immessa nella cabina ma sarà buio pesto questo temo sia inevitabile gli esperimenti di Fole e Saracin nel lago di Ginevra dimostrano che neanche i raggi ultravioletti giungono a tale profondità ma che cosa importa useremo una potente illuminazione elettrica sfruttando i motori della nave e tale luce sarà cresciuta da 6 pile di L-Sense da 2 volt collegate insieme in maniera da ottenere una corrente di 12 volte e un faro segnaletico Lucas dell'esercito adibito a riflettore mobile farà benissimo al caso nostro ha altre obiezioni se i tubi dell'aria si aggrovigliassero non dovrebbero aggrovigliarsi ad ogni modo abbiamo una riserva d'aria compressa in bombole della durata di 24 ore siete soddisfatto così? verrete anche voi? ammetterai che sia trattato di una decisione non facile a quel punto il mio cervello ha cominciato a lavorare di immaginazione mi sembrava già di veder scendere il nostro abitacolo in quelle profondità primeve sentivo l'aria farsi pesante vedevo le pareti incurvarsi e gonfiarsi udivo il lacerarsi delle giunture mentre l'acqua zampillava all'interno attraverso le fessure che si erano aperte e premeva inesorabile quella che avevo davanti ai miei occhi era la più lenta e spaventosa delle morte levando lo sguardo ho incontrato gli occhi fieri del vecchio fissi su di me con un'espressione esaltata da martire della scienza è uno sguardo che cattura il suo e pur dissennato non è privo di nobiltà e altruismo mi sono lasciato contagiare da quel suo fuoco e alzandomi in piedi gli ho teso la mano dottore sarò con voi sino alla fine lo sapevo non è certo per quel poco del vostro sapere che vi ho scelto mio giovane amico no ha aggiunto sorridendo e neanche per la vostra conoscenza dei granchi marini vi sono bene altre qualità che possono essere molto più utili nel prossimo futuro e sono la lealtà ed il coraggio così dopo questo elogio mi ha congedato il mio futuro è ormai impegnato da una promessa e le mie precedenti convinzioni sono andate in pezzi bene l'ultimo battello costiero sta per partire e stanno chiamando per la corrispondenza non riceverai più mie nuove caro Talbot oppure ti giungerà una lettera degna di essere letta se ciò non accadesse puoi procurarti una lapide galleggiante e lasciarla cadere in qualche posto a sud delle Canarie con la scritta qui o nei paraggi giace quello che i pesci hanno lasciato del mio amico Sirius J. Hadley il secondo documento del caso Stratford è l'incomprensibile messaggio radio che fu intercettato da diversi battelli tra cui il vapore postale a Roie fu captato alle 3 del pomeriggio del 3 ottobre 1926 il che dimostra che fu inviato due soli giorni dopo che lo Stratford aveva lasciato la Gran Canaria e che corrisponde approssimativamente al momento in cui il brigantino norvegese avvistò un vapore che affondava in un ciclone a 370 chilometri a sud ovest di Porta della Luz ecco il contenuto del messaggio nave quasi capovolta situazione disperata già perduti Maracott Eddy e Scanlan circostanza incomprensibile trovato fazzoletto Hadley estremità scandaglio alto mare Dio ci aiuti SS Stratford questo fu l'ultimo strano messaggio che giunse dalla sfortunata nave e una parte di esso era talmente singolare da poter essere imputabile a una sorta di delirio dell'operatore d'altra parte non lasciava addito ad alcun dubbio circa la sorte del battello la spiegazione ammesso che si possa accettarla come tale della vicenda è da ricercarsi nel resoconto finora tenuto segreto relativo alla sfera di vetro e innanzitutto bisognerebbe dar più risalto alla brevissima notizia che fino ad oggi è apparsa sulla stampa circa il ritrovamento di tale sfera cito testualmente dal giornale di bordo della Rabella Knowles comandata dal capitano Amos Green in viaggio da Cardiff con un carico di carbone per Buenos Aires mercoledì 5 gennaio 1927 latitudine 27 gradi 14 primi longitudine 28 gradi ovest tempo calmo cielo azzurro con basse formazioni di cirri alla seconda mezz'ora del secondo turno di guardia il primo ufficiale annunciava di aver avvistato un oggetto scintillante emergere alto sul mare e quindi ripiombare in esso la sua prima impressione era che si trattasse di qualche strano pesce ma esaminando attentamente l'oggetto con un binocolo scoprì che si trattava di un globo o di una palla argentata e che è talmente leggero da fluttuare più che galleggiare sulla superficie dell'acqua mi ha invitato ad osservarlo ed anch'io l'ho visto grande come un pallone da calcio luccicava circa mezzo chilometro dalla fiancata di Tribordo ho fatto fermare le macchine e ho inviato sul posto una scialuppa al comando del secondo ufficiale che ha raccolto l'oggetto e l'ha riportato fino a bordo ad un attento esame è risultato trattarsi di una sfera fatta di un vetro molto resistente e gonfiata con una sostanza così leggera che quando è stata gettata in acqua fluttuava come il palloncino di un bambino essendo quasi trasparente abbiamo potuto vedere al suo interno qualcosa di simile ad un rotolo di carta tuttavia il materiale talmente resistente che incontriamo grande difficoltà nello spezzare la sfera per entrare in possesso del suo contenuto il martello non riesce ad inclinarla ed è stato soltanto quando il capo macchinista l'ha infilata sotto un pistone del motore che siamo riusciti a frantumarla a questo punto mi spiace dover dire che la sfera si è letteralmente dissolta in polvere luminosa sicché è stato impossibile raccoglierne qualche campione da esaminare perlomeno abbiamo recuperato il foglio che conteneva e dopo averlo attentamente studiato siamo giunti alla conclusione che si tratta di un documento molto importante che abbiamo conservato con l'intenzione di riconsegnarlo nelle mani del console inglese non appena raggiungeremo Rio della Plata prima da ragazzo poi da adulto ho trascorso 35 anni sul mare ma questa è la cosa più strana che mi sia mai accaduta e della stessa opinione è ogni uomo che è a bordo di questa nave lascio scoprire il significato di tale faccenda a persone più colte di quanto non lo sia io questo è l'antefatto del resoconto di Cyrus J. Hadley che mi accingo a presentare esattamente come fu scritto a chi sto scrivendo forse al mondo intero ma poiché questo è un indirizzo un po' vago mi rivolgo all'amico Sir James Talbot dell'università di Oxford per la semplice ragione che la mia ultima lettera era indirizzata a lui e questa può essere considerata la sua continuazione sono cento a uno le probabilità che questa sfera se mai dovesse vedere la luce del giorno e non venisse inghiottita da un pesce cane fluttui sulle onde e attiri l'attenzione di una nave di passaggio eppure io tento lo stesso anche Maracott ne sta mandando su un'altra e così in due forse riusciremo a far sapere la nostra meravigliosa avventura al mondo intero che poi il mondo ci creda è un altro paio di maniche ma chiunque guardasse la sfera con il suo rivestimento di vetro e notasse il gas al suo interno capirebbe senz'altro di trovarsi di fronte a qualcosa di straordinario in ogni caso tu non la getteresti da parte senza leggere Talbot se qualcuno desidera conoscere l'antefatto della nostra attuale situazione e quello che stiamo tentando di fare può trovare la risposta in una lettera che ti scrissi il primo di ottobre dello scorso anno la notte prima di lasciare porta della Luz per Giove se avessi saputo cosa c'era in serbo per noi credo che mi sarei nascosto in qualche barca ormeggiata nel porto invece ho voluto restare accanto al dottor Maracott e seguirlo nell'impresa ripensandoci però credo che lo avrei fatto comunque nel momento in cui lasciamo il porto il vecchio Maracott cadde in preda ad un sacro furore è raggiunto finalmente il momento dell'azione e l'energia che egli aveva tenuto in freno fino ad allora esplose con prepotenza prese possesso della nave e di ogni persona e cosa in essa contenute piegò tutti alla sua volontà lo studioso arido e distratto era scomparso e aveva lasciato il posto ad una specie di macchina umana vibrante di vitalità e di grande forza creativa dietro gli occhiali i suoi occhi apparivano accesi e febbrili dava l'impressione di essere dappertutto a consultare e verificare dati a discutere con il comandante portando sempre con sé Bill Scaldman e impiegando me nei più svariati e strani lavori aveva un disegno in mente e lo realizzava secondo un suo metodo assai preciso rivelò un'insospettata conoscenza di elettricità e di meccanica passava gran parte del suo tempo lavorando al congegno che Scaldman sotto la sua supervisione stava montando con estrema cura lo sa signor Adley è davvero uno spettacolo disse Bill la mattina del secondo giorno venga a vedere il dottore è un ragazzo a posto e un meccanico con i fiocchi la mia prima sgradevolissima impressione fu di trovarmi al cospetto della mia stessa bara ma nonostante ciò dovetti ammettere che si trattava di un mausoleo molto dignitoso il pavimento era stato agganciato alle quattro pareti d'acciaio e gli oblò erano stati applicati al centro di ogni parete l'accesso era consentito da una botola che si apriva nel soffitto ve n'era anche una seconda alla base della cabina e questa era sostenuta da una sottile e pure solidissima gomena d'acciaio che scorreva su un rullo azionato dal potente motore che usavamo per le sciabiche la gomena per quanto mi fu dato di comprendere era lunga circa mezzo miglio e l'imbando era arrotolato attorno alle bit sul ponte i tubi di gomma per l'aria avevano la stessa lunghezza a essi erano collegati il cavo del telefono e i fili attraverso i quali sarebbe stata fornita l'energia per la luce elettrica energia alimentata dalle batterie della nave non mancava peraltro un generatore indipendente la sera di quello stesso giorno vennero fermati i motori c'era bassa pressione e all'orizzonte una nuvolaglia spessa e nera annunciava una burrasca l'unica nave in vista era un brigantino che batteva bandiera norvegese notammo che le vele per precauzione erano state terzarolate al momento però la situazione sembrava sotto controllo e lo Stratford scivolava dolcemente sulle acque blu dell'oceano appena increspate dagli alisei Bill Scanlan solitamente di una calma proverbiale mi raggiunse il laboratorio eccitatissimo senta un po' signor Utley esordì hanno abbassato quel congegno in un'apertura della carena pensa che il capo ci vorrà entrare ne sono certo Bill e io lo seguirò ah sì beh allora siete proprio matti voi due e io io sarei un uomo da poco se vi lasciassi andare da soli la cosa non la riguarda Bill e invece io dico di sì sicuro diventerei giallo come un cinese con l'iterizia se vi lasciassi andare da soli la Mary Bank mi ha mandato qui perché badassi a quella scatola e io non l'abbandonerò dovessi seguirla fino in fondo al mare l'indirizzo di Bill Scanlan è lo stesso di quei pezzi d'acciaio e non mi interessa se chi mi circonda è un pazzo oppure no discutere con lui fu inutile così un altro socio venne ad arricchire il nostro piccolo club dei suicidi insieme restammo ad aspettare gli ordini si lavorò tutta la notte per controllare gli impianti finché di buon mattino e dopo la colazione scendemmo nella stiva pronti per la nostra avventura la cabina era stata calata per metà attraverso la carena della nave e uno dopo l'altro scendemmo attraverso la botola superiore che venne poi chiusa ermeticamente non prima però che il capitano Owi con una faccia da funerale ci avesse stretto la mano scendemmo di qualche piede per verificare se la cabina fosse in grado di tenere il mare la prova venne superata brillantemente ogni giuntura teneva alla perfezione e non c'era segno alcuno di infiltrazioni l'argano venne messo in moto e cominciamo a dondeggiare nell'oceano sotto il livello della chiglia vista dall'interno la cabina era una piccola stanza assai comoda e restai ammirato dalla perizia e essennatezza con le quali era stata realizzata la luce elettrica non era ancora entrata in funzione ma dagli oblò giungeva la vivida luce del sole subtropicale che filtrava attraverso l'acqua di color verde scuro in quello scenario simili a bagliori argenti piccoli pesci guizzavano qui e là nella cabina era stato sistemato un divano che correva lungo le pareti in senso circolare e al di sopra erano stati installati un quadrante batometrico un termometro e altri strumenti sotto il divano invece c'erano i condotti d'aria compressa di riserva nel caso che quelli principali andassero in avaria questi ultimi si trovavano proprio sopra le nostre teste e accanto ad essi era stato collocato il telefono a noi tutti giunse chiarissima la voce lugubre del capitano siete davvero decisi a scendere? domandò sì siamo tutti d'accordo rispose con impazienza il professore ci farete calare lentamente e terrete costantemente qualcuno al ricevitore vi riferirò sulle nostre condizioni quando raggiungeremo il fondo restate in attesa finché vi darò altre istruzioni fate attenzione che la gommena da gancio non si tenda troppo fatela srotolare con un movimento lento di un paio di chilometri all'ora senza sforzarla ed ora calate gridò queste ultime parole come un pazzo era il momento più importante della sua vita la realizzazione dei sogni a lungo accarezzati per un attimo fui paralizzato dal pensiero che ci trovassimo nelle mani di un abile convincente paranoico Bill Scanlon dovette pensare la stessa cosa perché mi guardò con un triste sorriso toccandosi la fronte ma dopo questo eccesso incontrollato la nostra guida riprese istantaneamente il suo solito autocontrollo del resto bastava osservare l'ordine la precisione che dimostrava ogni dettaglio intorno a noi per sentirci rassicurati sulle sue capacità mentali ma ora tutta la nostra attenzione si rivolgeva alla nuova meravigliosa esperienza che ogni istante porta con sé lentamente la cabina stava scendendo verso il fondo dell'oceano la luminosità verde pallido dell'acqua cambiava in oliva scuro diventando poi un meraviglioso blu un intenso profondo blu che gradualmente mutava in un porpora quasi nero scendevamo lentamente dolcemente 30 60 90 metri le valvole funzionavano alla perfezione e risperavamo bene e con naturalezza come sulla coperta della nave l'ago del profondimetro si spostava lentamente sul quadrante luminoso 120 130 150 metri come state tuonò una voce ansiosa sopra di noi mai stati meglio in vita nostra gridò Maracott in risposta ma la luce ormai svaniva eravamo circondati da uno spesso crepuscolo grigio che mutava rapidamente nell'oscurità più profonda alta gridò Maracott il movimento discendente cessò ci trovavamo sospesi a 213 metri dalla superficie dell'oceano e sentii lo scatto dell'interruttore e subito fumo inondati da una luce dorata che si spandeva all'esterno attraverso gli oblò fino a perdersi in lontananza nel deserto d'acqua intorno a noi con le facce incollate agli spessi cristalli ognuno davanti ad un oblò guardavamo un panorama che nessun uomo aveva mai visto prima fino ad allora avevamo conosciuto quelle profondità abissali studiando i pochi pesci che erano stati troppo lenti per evitare la nostra rete astrascico o troppo stupidi per fuggire all'amo ora potevamo vedere quel meraviglioso mondo acquatico come era in realtà se l'obiettivo della creazione è stato l'uomo allora sembra strano che l'oceano sia più densamente abitato della terra ferma Broadway il sabato notte o Lombard Street il pomeriggio di fine settimana non sono più affollati dei grandi spazi del mare attraversammo gli strati più vicini alla superficie dove i pesci sono quasi privi di colore o hanno tonalità caratteristiche del loro habitat ultramarino di sopra e color argente o al di sotto qui potevamo osservare pesci di ogni forma e tinta concepibili delicati naselli o larve di anguilla guizzavano attraverso il fascio di luce come raggi d'argento luccicanti la sinuosa forma serpentina della murena e la lampreda d'alto mare scivolavano lontano serpenteggiando la nera scorpena tutta bocca ed aculei restava stupidamente a bocca spalancata davanti alle nostre facce che la osservavano altre volte era una seppia che passava nel fascio di luce del riflettore lasciandosi portare della corrente e gettandoci uno sguardo sinistro con occhi quasi umani ancora certe forme di vita cristalline entravano in scena con la grazia ed il fascino dei fiori un enorme sgombro si scagliò selvaggiamente più e più volte contro il nostro oblò finché l'ombra cupa di uno squalo lungo due metri e mezzo piombò su di lui facendolo sparire tra le sue fauci spalancate il professor Maracott sedeva estasiato con il quaderno di appunti sulle ginocchia scribacchiando osservazioni e tenendo contemporaneamente un monologo fatto di borbottii e commenti scientifici cos'è quello? ah sì una chimoera mirabilis come riportato dal SARS povero me eccola un lepidopus ma di una specie sconosciuta a quanto posso vedere guardate quel macruro signor Hadley il suo colore è assai differente da quello che abbiamo trovato nella rete una volta soltanto fu preso dalla sprovvista quando una grande creatura ovale passò velocemente davanti al suo blò portandosi dietro una coda uscillante tanto lunga che non ne distinguemmo le estremità confesso che al momento rimasi perplesso quanto il professore fu Bill Scanlan a risolverci l'enigma penso che sia passato apposta al nostro fianco forse per scherzo o forse per ricordarci che non siamo soli qua giù sicuro certo replicò Maracott sorridendo è un plumbus longicaudatus ma di una specie sconosciuta signor Adley con coda a corda e una sorta di sagola scandaglio sul muso così può fare rilevamenti del fondo marino e circoscrivere una sua zona delimitare il suo territorio tutto bene capitano esclamò poi potete calarci più in giù e scendemmo ancora il professor Maracott spense la luce elettrica e ripiombammo un'altra volta in un buio di pece ad eccezione del quadrante luminoso del profondimetro che segnava la nostra costante discesa il battiscafo oscillava dolcemente ma d'altra parte stentavamo a percepire ogni altro movimento soltanto la lancetta del profondimetro indicava la terrificante profondità a cui ci trovavamo adesso eravamo scesi a più di 300 metri e l'aria era diventata viziata Scanlan girò la valvola di scarico e l'atmosfera migliorò subito a 460 metri ci fermammo dondolando nel cuore dell'oceano con le luci nuovamente accese qualche grande massa scura passava accanto a noi ma era difficile capire se si trattasse di un pesce spada di uno squalo degli abissi o di qualche mostro di specie sconosciuta il professore girò in fretta il riflettore qui corriamo i maggiori pericoli disse ci sono creature negli abissi davanti a cui la nostra cabina d'acciaio è come un'arnia sotto la carica di un rinoceronte balene forse esclamò Scanlan le balene possono sopportare grandi profondità convenne il professore una balena groellandese è stata arpionata e poi riportata in superficie da circa 1800 metri di profondità tuttavia se non è ferita o molta spaventata nessuna balena scende tanto forse è un calamaro gigante si trovano un po' a tutte le profondità la fortuna ci assiste i calamari sono troppo molli per arrecarci qualche danno ci sarebbe da ridere se un calamaro riuscisse a praticare uno squarcio nell'acciaio al nickel di Mary Bank è ben vero che i loro corpi sono mollicci replicò il professore ma il becco di un calamaro gigante potrebbe facilmente tranciare una sbarra di ferro e un colpo di quel temibile becco sfonderebbe i nostri oblo spessi tre centimetri come se fossero di carta pesta per Diana gridò Bill mentre riprendevamo il nostro viaggio negli abissi e finalmente ci posammo sul fondo senza scosse gentilmente l'impatto era stato talmente morbido che non ce ne saremmo neanche accorti se non fosse stato per il riflettore che quando si girò ci permise di vedere un groviglio di cavi tutti attorno questo groviglio rappresentava un grande pericolo soprattutto per i tubi dell'aria perché avrebbe potuto ostruirli ma ad un grido improvviso di Maracott ci rendemmo conto con sollievo che i cavi erano stati ben tesi di nuovo e il profondimetro segnava 550 metri di profondità giacevamo immobili su un crinale vulcanico nel fondo dell'Atlantico 2 sul fondo dell'abisso in quel momento credo ci attraversò la mente un solo pensiero non fare né vedere nulla ma starcene invece tranquilli ad assaporare l'ebrezza di essere protagonisti di una meravigliosa avventura ci trovavamo nel cuore di uno dei grandi oceani del mondo il singolare paesaggio che ci circondava illuminato dalle nostre luci a spingerci verso gli oblò ci eravamo adagiati su un letto di alte alghe utleria multifida mi disse Maracott le cui fronde gialle mosse da qualche corrente sottomarina ondeggiavano attorno a noi simili ai rami di un albero nella brezza d'estate alla luce quelle frange lunghe e piatte apparivano di un intenso color oro e nonostante attraversassero la scena di tanto in tanto non ci impedivano la visione di ciò che ci circondava al di là delle alghe vi era un declivio formato da scorie di un materiale nerastro unteggiato da creature da colori incantevoli oloturi e ascidie e chini ed echinodermi tanto fitte fra di loro come possono esserlo di giacinti e primule certi prati inglesi in primavera quei viventi fiori marini coloravano di un vivido scarlatto di un viola intenso di un rosa pallido quel fondo nero come il carbone qua e là grandi spugne emergevano dalle rocce scure mentre pesci delle medie profondità apparivano come lampi di colore attraverso il fascio di luce guardavamo rapiti quel magico scenario quando una voce trepitante ci raggiunse attraverso il cavo del telefono vi piace il fondo signori va tutto bene non fermatevi troppo a lungo perché il barometro sta scendendo e la cosa non mi piace avete aria sufficienza c'è qualche cosa che possiamo fare per voi va tutto bene capitano rispose maracote euforico non ne avremo per molto la vostra assistenza è perfetta ci sentiamo a nostro agio come se fossimo nelle nostre cabine stia pronto a farci muovere lentamente giungemmo nella zona dei pesci luminosi e ci divertimmo a spegnere la luce per osservare in quell'assoluta oscurità un'oscurità tale nella quale una lastra sensibile avrebbe potuto restare esposta per un'ora senza riportare la benché minima traccia di raggi ultravioletti la fosforescente attività dell'oceano su quel fondale di velluto nero si vedevano baluginare piccoli punti luminosi in continuo movimento ed evocavano la luce diffusa dai transatlantici di notte attraverso la lunga sequenza degli oblo una terrificante creatura biblica apparve in quelle tenebre digrignando dei denti luminosi e poi un'altra con lunghe antenne dorate e un'altra ancora con un pennacchio di fuoco sulla testa fin dove ci era consentito arrivare con lo sguardo potevamo distinguere piccoli punti luccicanti una miriade di esseri intenti alla propria attività e al proprio percorso come i taxi dello Strand nell'ora degli spettacoli poi le luci si riaccesero e Maracott fece le sue osservazioni sul fondo marino pur trovandoci ad una discreta profondità esordì non è tuttavia sufficiente per trovare i caratteristici depositi battiali purtroppo sono del tutto al di fuori della nostra portata forse in un'altra occasione e con un cavo più lungo la smetta bruntolò Bill se lo dimentichi vedrà signor Scanlan sorrise Maracott si abituerà presto alla profondità questa non sarà certo la nostra unica discesa al diavolo protestò Bill di rimando non pensa che a tornare nella stiva dello Stratford dunque avrà osservato signor Adley che il fondo qui per quel che possiamo vedere attraverso l'abbondante vegetazione di trozoi e spugne di silicio è di pietra pomice e di scorie nere di basalto testimonianza di antiche attività plutoniche sono quindi portato a pensare che l'opinione che mi ero fatto in proposito sia plausibile e cioè che questo crinale sia parte di una formazione vulcanica e che l'abisso di Maracott e pronunciò quelle parole con un notevole compiacimento è costituito dal declivio esterno della montagna penso che sarebbe un esperimento oltremodo interessante se con la nostra cabina ci spingessimo fino all'orlo dell'abisso per vedere il tipo di formazioni presenti in quel punto dovremmo trovarci di fronte ad un precipizio di dimensioni grandiose proiettato ad angolo retto verso le streme profondità dell'oceano l'esperimento mi parve pericoloso perché non eravamo in grado di stabilire fino a che punto la nostra sottile gomena avrebbe sopportato lo sforzo di movimenti che ci consentissero di spostarci ma per Maracott il pericolo non esisteva né per sé né per gli altri quando si trattava di osservazioni scientifiche trattenne il respiro e altrettanto fece Bill quando un leggero movimento del nostro guscio d'acciaio spostando le fronde ormeggianti delle alghe mostrò che la gomena era al massimo punto di tensione sembrava però reggere assai bene sì che con movimenti dolci ma senza incertezze cominciamo a scivolare sul fondo dell'oceano Maracott tenendo in mano un compasso gridava al telefono le sue indicazioni sul percorso da seguire e di quando in quando ordinava di sollevare la cabina per evitare qualche ostacolo lungo la via questo crinale basaltico non può essere lungo più di un miglio spiegò secondo i miei calcoli l'abisso si trova ad ovest del punto in cui ci siamo immersi se così fosse dovremmo raggiungerlo a breve scivolavamo senza difficoltà su quel terreno vulcanico così ricco di fluttuanti alghe dorate e impreziosito da meravigliosi gioielli naturali che sfolgoravano come fiamme contro quel fondo di pece improvvisamente Maracott afferrò il telefono ferma gridò ci siamo uno squarcio gigantesco si era aperto all'improvviso di fronte a noi era orribile una visione da incubo nere e corrusche valesie di basalto precipitavano verso l'ignoto ai bordi dell'abisso oscillavano laminarie simili alle felci che bordano certe gole di montagna ma al di sotto di quella linea ondulare non c'erano che le nere e lucenti pareti del baratro il limitare doveva essere ben lontano da noi ma non potevamo in alcun modo immaginare l'ampiezza dell'abisso poiché le nostre luci non riuscivano a fendere l'oscurità che ci circondava dirigemmo verso il basso la luce di un riflettore lucas e quel lungo raggio dorato si spinse giù giù finché non venne inghiottito dal buio terribile baratro sotto di noi è meraviglioso esclamò Marakot il viso sottile illuminato da uno sguardo ardente ed esaltato non è nemmeno necessario stabilire se questa profondità sia stata superata da altri c'è l'abisso del Challenger profondo 26.000 piedi vicino alle isole dei ladroni l'abisso del pianeta di 32.000 piedi a largo delle filippine e molti altri ma è probabile che l'abisso di Marakot sia il solo ad avere un simile pendio ed è sorprendente che si è sfuggito alle osservazioni di tanti esploratori idrografici che hanno elaborato le carte nautiche dell'Atlantico non dubito che si era interrotto nel mezzo della frase e un'espressione di vivo interesse e curiosità gli si era stampata sul viso Bill ed io guardando al di sopra delle sue spalle restammo pietrificati dallo sgomento per ciò che vedemmo un essere di notevoli dimensioni stava risalendo il tunnel di luce che avevamo proiettato nell'abisso si trovava nel punto in cui la luce era più fioca e a stento riuscivamo a distinguere i movimenti di quel mostruoso corpo nero ondeggiante in lenta progressione verso l'alto il suo procedere era senza grazia e deboli i suoi guizi verso il bordo dell'abisso quando si fece più vicino e la luce poté rivelarne la natura si presentò ai nostri occhi come forme spaventevoli pur essendo un esemplare sconosciuta alla scienza le sue sembianze ci parvero familiari troppo lungo per essere un granchio smisurato e troppo corto per essere una ragosta gigantesca assomigliava piuttosto ad un gambero con due mostruose chele e un paio di antenne lunghe almeno sedici piedi che vibravano davanti ai suoi ottusi e tetri occhi neri il carpace color giallo pallido poteva essere largo dieci piedi e lungo senza le antenne non meno di trenta magnifico esclamò di nuovo maracot scarabocchiando frenetico sul suo tacquino occhi semi pedicellati lamelle elastiche famiglia dei crostacei specie sconosciute crostaceus maracoti perché no per giove vada per il nome ma mi sembra che sia diretto verso di noi gridò bill dica dottore non sarebbe il caso di spegnere la luce soltanto un momento devo prendere nota delle reticolazioni ingiunse il nostro naturalista sì così va bene fece scattare l'interruttore e tornammo in un buio di pece interrotto soltanto dalle luci esterne dardeggianti come meteore in una notte senza luna mai visto nulla di peggio in vita mia disse bill asciugandosi la fronte mi sento come dopo una colossale bevuta sì è davvero orribile a vedersi ammise marakot e forse sarebbe altrettanto orribile averci a che fare ma per nostra fortuna siamo al sicuro nella nostra scatola d'acciaio e non esposti a quelle chele minacciose così possiamo anche permetterci di esaminare il soggetto a nostro agio appena terminò di parlare sentimmo un colpo come di piccone sulla parete esterna poi sentimmo raspare e grattare a lungo e infine un altro colpo secco ma questo vuole entrare gridò bill allarmato non potevamo scrivere vietato l'ingresso su questa scatola e la sua voglia di scherzare fosse forzata lo si capiva dal tremito della voce quanto a me quasi non mi reggevo sulle gambe ero consapevole della presenza incombente del mostro che muovendosi attorno alla cabina e oscurando gli oblò al suo passaggio ci imprigionava in tenebre ancora più fitte e angosciose sperava quel mostro di distruggere quella strana conchiglia per raggiungerne l'interno ovvero il suo cibo non può farci alcun male ci tranquillizzò Maracott ma la sua voce tradiva dell'insicurezza forse però sarebbe meglio allontanarlo chiamò il capitano attraverso il cavo ci sollevi di venti io a trenta piedi ordinò e pochi secondi dopo non più appoggiati sullo spazio di lava ondeggiamo lentamente nell'acqua calma ma l'orrendo animale era caparvio non ci fu che un breve intervallo poi udimmo di nuovo raspare e il battere secco delle chele ce ne stavamo al buio in silenzio sapendo che la morte era vicina furono dei momenti terribili avrebbero eletto i nostri oblò sotto i colpi di quelle potenti tenaglie questa era la muta domanda che ci assillava ma all'improvviso si presenta un nuovo e più immediato pericolo era dal tetto che ora giungevano i colpi e l'abitacolo cominciò ad oscillare con un movimento ritmico avanti e indietro buondio gridai ha afferrato la gomena riuscirà a spezzarla senta dottore io dico che è il momento di riemergere abbiamo visto quello che avevamo in mente di vedere e Bill Scanlan ha voglia di tornare alla sua dolce casetta prendiamo l'ascensore e muoviamoci ma il nostro lavoro non è finito protestò Maracott abbiamo solo cominciato ad esplorare il margine dell'abisso lasciatemi almeno vedere quanto è ampio quando avremo raggiunto la parte opposta sarò ben contento di rientrare poi al telefono disse tutto bene capitano faccia muovere la cabina alla velocità di due nodi fino a quando non le dirò di fermarsi ci spostammo lentamente lungo il bordo dell'abisso decidemmo di accendere le luci visto che l'oscurità non ci aveva evitato l'assalto del mostro uno degli oblò era interamente oscurato da quello che doveva essere lo stomaco dell'animale la sua testa e le sue grandi chele stavano armeggiando sopra di noi sul tetto della cabina che oscillava ormai come una campana a stormo quell'animale doveva avere una forza incredibile chi prima di noi poteva dire di aver vissuto una situazione simile con 5 miglia di acqua sotto di sé e un implacabile mostro al di sopra le oscillazioni si fecero via via più forti il capitano si rese conto dei continui e violenti strattoni al cavo e si mise in contatto con noi preoccupatissimo Maracott con un gesto disperato balzò in piedi levando in alto le braccia pur dall'interno della cabina udimmo i cavi spezzarsi e un istante più tardi precipitavamo nell'immenso gorgo che si spalancava sotto di noi rievocando quel terribile momento mi sembra ancora di udire il grido angosciato di Maracott la gomina si è spezzata non possiamo fare nulla nulla siamo morti addio capitano urlò aggrappato al telefono addio a tutti furono le nostre ultime parole al mondo degli uomini avrai già intuito che la nostra discesa non fu veloce nonostante il peso la nostra cabina ci consentiva un certo galleggiamento sicché sprofondammo nell'abisso in modo dolce e lento da prima udimmo un lungo stredio segno che stavamo scivolando attraverso le chele dell'orribile creatura che era stata la causa della nostra rovina poi con una lieve rotazione riprendemmo la nostra discesa nelle profondità dell'abisso trascorsero non più di cinque minuti anche se a noi parveno eternità prima che il cavo del telefono si estendesse in tutta la sua lunghezza e si strappasse come un filo di seta in quello stesso momento si rupperò anche i tubi dell'aria e l'acqua schizzò all'interno attraverso le valvole con abilità e prontezza Bill Scanlan legò alcune corde attorno a ciascuno dei tubi di gomma per bloccare l'infiltrazione mentre il dottor Maracott liberava i conduttori dell'aria compressa che sibilando cominciò a diffondersi nella cabina le luci erano saltate nel momento in cui il cavo si era strappato ma anche al buio Maracott fu in grado di far funzionare le pile di Alessence grazie alle quali si accesero alcune lampadine sul soffitto dovrebbero durare una settimana disse sforzandosi di sorridere così almeno potremo morire alla luce scosse poi la testa con tristezza e un sorriso ingentilì il suo viso scarno a me in fondo va bene così sono vecchio e ho fatto quello che dovevo in questo mondo ma non avrei mai dovuto permettere a due giovani come voi di seguirmi i rischi li dovevo correre soltanto io gli strinsi la mano con semplicità per rassicurarlo e d'altra parte non mi sentii di dire nulla anche Bill stava tacendo scendevamo piano e la nostra discesa era scandita dalle cupe ombre dei pesci che volteggiavano davanti agli oblò sembrava quasi che stessero volando in alto piuttosto che fossimo noi a sprofondare oscillavamo ancora e a quanto potevo vedere non c'era nulla da fare per evitare di affondare con il battiscafo inclinato che ruotava su se stesso per fortuna il nostro peso riuscì a bilanciare l'inclinazione e ben presto il pavimento si raddrizzò dando un'occhiata al profondimetro vidi che avevamo raggiunto la profondità di 1853 metri vedete è come dicevo sottolineo Maracott con un certo autocompiacimento dovete aver notato la mia relazione negli atti della società oceanografica circa la pressione e la profondità vorrei tanto poter tornare indietro non fosse che per avvertire il mondo e confutare il professor Bullow dell'università di Gisen che osò contraddirmi per dinci se potessi tornare nel mondo per dire una parola non lo sprecherai certo con un capoccione intellettuale disse Bill c'è una bimba a Philadelphia che piangerà quando le diranno che Bill Scanlon se ne è andato eppure è un ben triste modo di morire non potremo mai più tornare dissi stringendogli la mano che razza di uomo da poco sarei stato se non fossi venuto con voi riplicò no questo era il mio incarico e sono ben contento di non aver mollato per quanto tempo possiamo averne domandai al professore dopo una pausa lui fece spallucce avremo comunque il tempo di vedere il fondo dell'oceano rispose nelle bombole c'è aria sufficiente per la maggior parte del giorno piuttosto sono un guaio i gas residui l'anidride carbonica che espiriamo e che finirà con il soffocarci se almeno potessimo sbarazzarcene beh ma mi sembra impossibile abbiamo una bombola di ossigeno puro l'avevo portata per ogni eventualità piccole quantità di quando in quando ci aiuteranno a tenerci in vita avrete osservato che ci troviamo attualmente a 3700 metri di profondità e perché dovremo cercare di rimanere in vita prima finirà e meglio sarà risposi questo si chiama parlare gridò Bill diamoci un taglio e che sia finita e rinunciare così alla più straordinaria visione che mai uomo abbia osservato esclamò Maracott sarebbe tradire la scienza registriamo i fatti fino alla fine anche se dovranno restare sepolti per sempre assieme ai nostri corpi comportiamoci coraggiosamente fino all'ultimo sportivo il professore gridò Scanlan è il migliore della banda d'accordo stiamo a vedere come va a finire ci sedemmo pazientemente sulla pedana stringendone i bordi con le dita nervose perché oscillava e vibrava mentre i pesci fosforescenti passavano rapidi in tutte le direzioni all'esterno degli oblò ci troviamo ora a 5500 metri di profondità ci fece osservare Maracott immetto un po' di ossigeno signor Hadley perché l'aria è molto viziata ah dimenticavo aggiunse con un risolino soffocato d'ora in poi questo sarà l'abisso di Maracott quando il capitano Uvi riporterà la notizia i miei colleghi dovranno ammettere che la mia tomba è anche il mio monumento perfino il professor Bullo e proseguì borbottando e lucubrate lagnanze scientifiche sedevamo silenziosi osservando l'ago del profondimetro che segnava ormai 7400 metri di profondità e ad un certo punto urtammo violentemente contro qualcosa di pesante che ci fece sobbalzare forte tanto che temetti ci saremmo rovesciati poteva essere stato qualche pesce enorme oppure avevamo urtato contro qualche sporgenza della parete dell'abisso lungo il quale stavamo affondando a suo tempo l'orlo della voragine ci era sembrato stupefacente e ora guardando ad esso dall'inconcepibile profondità in cui eravamo sprofondati ci appariva solo come la superficie il principio dello spaventoso precipizio continuavamo a scendere in moto vorticoso attraverso la distesa d'acqua verde cupo profondimetro segnava ormai 7620 metri siamo avvicini alla fine del viaggio disse Maracott il mio rivelatore Scott lo scorso anno indicò 7927 metri nel punto più profondo tra pochi minuti sapremo qual è il nostro destino forse l'impatto ci schiaccerà o forse e in quel preciso istante toccammo il fondo neanche un bimbo venne posato dalla madre su un lettino di piume con la stessa delicatezza con cui noi approdammo nel punto più abissale dell'oceano atlantico la morbida densa elastica melma su cui ci posammo fu un perfetto cuscino che ci evitò anche il pur minimo rumore rimanemmo immobili sui nostri sedili e fu un bene perché eravamo appollaiati su una specie di altura sporgente coperta da fanghiglia viscosa e gelatinosa e ci mantenevamo in equilibrio su di essa oscillando piano con quasi metà del pavimento della nostra battisfera che sporgeva privo di alcun supporto c'era pericolo di capovolgerci ma alla fine ci stabilizzammo e rimanemmo immobili in quel mentre il professor Maracott sgranando gli occhi che teneva fissi sull'oblò gettò un grido di sorpresa e spense precipitosamente la luce con nostro immenso stupore potevamo vedere chiaramente c'era una fantasmagorica luce nebbiosa all'esterno che filtrava attraverso gli oblò come il riflesso dorato di un mattino d'inverno ci affacciamo per guardare quella strana scena e anche senza l'ausilio delle nostre luci di bordo ci era possibile spingere lo sguardo in ogni direzione per qualche centinaio di metri distinguendo chiaramente ogni cosa sembrava impossibile inconcepibile ma non fosse che per l'evidenza dei sensi quello era un dato di fatto il fondale dell'oceano era luminoso e perché no esclamò Maracott dopo che eravamo rimasti in silenzio per qualche minuto davanti a quella meraviglia come ho potuto non pensarci subito che cos'è questa fanghiglia di pteropodi o globigerina se non il prodotto della decomposizione lo sbriciolarsi dei corpi di miliardi di miliardi di creature organiche e forse la decomposizione non è accompagnata da una luminosità fosforescente dove mai in tutta la creazione potevamo vedere un simile fenomeno se non qui è triste aver avuto una tale dimostrazione ed essere nell'impossibilità di comunicare al mondo la nostra scoperta eppure obiettai abbiamo raccolto mezza tonnellata di fanghiglia a suo tempo senza scoprire traccia di questa luminosità l'ha perduta senza dubbio nel lungo tragitto dal fondo alla superficie ma che cosa volete che sia mezza tonnellata in confronto a questa sterminata distesa di densa putrescenza e pensate gridò preso da un'eccitazione incontrollabile che le creature del mare pascolano su questo tappeto organico come le mandrie sui prati in terraferma mentre parlava un branco di pesci neri grossi e tozzi si dirigeva verso di noi nuotando sul fondo dell'oceano frugando con il muso fra le fitte spugne e mangiando mentre si spostava un'altra gigantesca creatura di colore rosso come una stupida vacca dell'oceano ruminava davanti al mio oblò mentre altri pascolavano qua e là sollevando la testa di quando in quando per guardare lo strano oggetto che era parso improvvisamente tra di loro non potevo non ammirare Maracott che in quell'atmosfera viziata seduto all'ombra della morte obbediva ancora al richiamo della scienza e prendeva punti sul suo quaderno senza seguire un criterio preciso come lui anch'io prendevo nota mentalmente di quel che rimarrà per sempre indelebilmente stampato nella mia memoria i fondali più profondi dell'oceano sono fatti di argilla rossa che qui era coperta dalla grigia fanghiglia abissale che originava distese ondulate fin dove giungeva il nostro sguardo questa pianura sottomarina non era omogenea bensì rotta da numerose alture tondeggianti come quella su cui eravamo appoggiati che luccicavano nella luce spettrale tra queste piccole colline sciamavano grandi nuvole di strani pesci molti dei quali del tutto sconosciuti alla scienza che sfoggiavano ogni sfumatura di colore anche se il nero e il rosso predominavano Maracott gli studiava con un'eccitazione a stento trattenuta continuando a prendere appunti l'aria nel frattempo si era fatta estremamente viziata e ancora una volta potemmo salvarci soltanto con una nuova emissione di ossigeno abbastanza stranamente avevamo tutti una gran fame dovrei anzi dire che eravamo affamati e ci gettammo avvidamente sulla carne in scatole sul pane imburrato innaffiati da whisky e acqua che la previdenza di Maracott aveva previsto con i sensi ridestati da questo spuntino sedevo davanti al mio bloc morendo dalla voglia di una sigaretta quando i miei occhi scorsero qualcosa che mi fece vorticare strani pensieri e presagi nella mente ho già detto che la grigia pianura ondulata era disseminata di strani tumuli o alture una di queste alture particolarmente estesa si stagliava davanti al mio oblo ad una distanza di 10 metri mi sembrava di vedere con mia grande sorpresa una specie di segno particolare che si ripeteva con regolarità sino a perdersi dietro la curva dell'altura quando ci si trovava così vicini alla morte è facile attribuire un'importanza sensazionale alle cose di questo mondo ma trattenne il respiro e il cuore cessò di battere per un attimo quando mi resi conto di improvviso che era un fregio quello che stavo osservando un fregio consunto e rovinato e che soltanto una mano umana poteva aver scolpito quelle figure ormai sbiadite Maracott e Scanlan da me chiamati si precipitarono all'oblo guardando di fuori completamente sbalorditi davanti ai segni dell'onnipresente forza dell'uomo è un fregio certo gridò Scanlan forse queste rovine erano il tetto di un edificio e anche queste altre dite capo siamo forse atterrati in qualche cittadina è un'antica città disse Maracott la geologia insegna che una volta i mari erano continenti e i contenenti erano mari ma ho sempre messo in dubbio l'idea che in tempi recenti come il quaternario ci possa essere stato uno sprofondamento dell'Atlantico eppure il racconto di Platone che riportava la tradizione egizia dell'Atlantide ha trovato alla fine una prova e una convalida le formazioni vulcaniche qui intorno confermano che tale sprofondamento dovuto ad un'attività sismica c'è stato veramente queste cupole queste costruzioni seguono uno schema regolare osservai comincio a credere che non siano abitazioni separate quanto piuttosto le cupole che ornavano il tetto di un unico grande edificio penso che abbiate ragione disse Scanlan infatti ce ne sono quattro piuttosto ampi agli angoli e altre più piccole in linea con queste senz'altro è un edificio dato che riusciamo a vederne i contorni vi troverebbero posto i cantieri di Marybank al completo e ancora avanzerebbe dello spazio è sprofondato fino al tetto in seguito alla pressione sovrastante disse Marakot d'altronde non si è rovinato a grandi profondità la temperatura si mantiene un po' sopra lo zero e ciò arresta il processo di disgregazione anche la dissoluzione dei residui batici che ricopre il fondo dell'oceano e fortunatamente ci offre questa luminosità deve essere molto lenta ma mio dio questo non è un fregio è un'iscrizione senza dubbio aveva ragione lo stesso simbolo si ripeteva e ricorreva uniformemente quei segni erano indiscutibilmente lettere di un qualche alfabeto arcaico ho scritto un saggio sui fenici e vi è qualche cosa di allusivo e familiare in questi caratteri disse Marakot bene abbiamo visto una città sommersa di grande antichità amici miei e portiamo con noi nella tomba un altro stupefacente frammento di conoscenza non c'è altro da prendere oramai il nostro libro del sapere si è chiuso sono d'accordo con voi prima finirà e meglio sarà la fine non poteva tardare l'aria stagnante e viziata era divenuta così pesante per l'anidride carbonica che avevamo ispirato in tutto quel tempo che l'ossigeno delle bombole stentava a farsi strada restando seduti immobili riuscendo a fatica a ispirare una boccata d'aria più pura mentre l'esalazione velenosa saliva lentamente e inesorabilmente il professor Marakot incrocia le braccia con espressione rassegnata e chino la testa sul petto Scanlan era già stato sopraffatto dai miasmi e strisciava boccheggiando sul pavimento a me girava la testa e sentivo un peso intollerabile sul petto chiusi gli occhi mentre stavo perdendo rapidamente i sensi poi li riaprì per dare un ultimo sguardo a quel mondo che abbandonavo e fu allora che barcollai gettando un rauco grido di stupore un volto umano ci stava osservando attraverso l'oblò stavo delirando afferrai una spalla di Marakot scuotendolo violentemente lui balzò a sedere nel vedere quell'apparizione sbalordito e senza parole se la vedeva come la stavo vedendo io non era certo un'allucinazione era un viso lungo e sottile di carnagione scura con una corta barbetta punta e due occhi vivaci che scrutavano in fretta qua e là con sguardi interrogativi i particolari della nostra situazione un grande stupore si era dipinto anche sul volto dell'uomo le nostre luci erano accese e doveva essere stata una ben strana e vivida scena per lui quella che presentavamo ai suoi occhi in quella minuscola camera della morte dove un uomo giaceva privo di sensi e altri due lo guardavano con le sembianze contratte stravolte di chi sta morendo i volti cianotici per l'incipiente asfissia con le mani ci massaggiavamo la gola e i nostri petti sussultanti era un evidente messaggio di disperazione l'uomo fece un cenno con la mano e si allontanò precipitosamente ci ha abbandonato gridò Maraco o è andato a cercare aiuto aiutatemi ad appoggiare Scanlan al sedile se resta disteso sul pavimento per lui è finita a fatica lo trascinammo sul sedile e gli facemmo appoggiare la testa su di un cuscino aveva il viso ormai grigio e borbottava in delirio ma il polso batteva ancora forse c'è ancora speranza per noi riuscì a dire ma è pazzesco esclamò Maracott come può un uomo sopravvivere sul fondo dell'oceano come fa a respirare di certo si tratta di un'allucinazione collettiva mio giovane amico stiamo semplicemente impazzendo guardando quel paesaggio solitario grigio e desolato e quella cupa luce spettrale pensai che forse Maracott aveva ragione poi improvvisamente percepì un movimento ombre indistinte fluttuavano lontane attraverso l'acqua ben presto assunsero i contorni definiti di figure in movimento un folto gruppo di persone si spostava velocemente sul letto dell'oceano diretto verso di noi un istante dopo erano ammucchiati davanti agli oblò indicandoci e gesticolando in un'animata discussione c'erano alcune donne fra la folla ma in maggioranza erano uomini e fra questi una figura poderosa con una gran testa e una fitta barba nera che doveva essere chiaramente un personaggio di riguardo ispezionò velocemente la nostra battisfera d'acciaio e poiché il bordo di questa sporgeva dalla cupola su cui eravamo posati riuscì a vedere la botola a cerniera sul fondo del pavimento ci fece allora un cenno e con dei segni energici e decisi ci invitò ad aprire la botola dall'interno e perché no osservai possiamo scegliere tra negare e il morire soffocati non ce la faccio più a restare qua dentro forse non annegheremo disse Maracott l'acqua che entrerà dal portello non potrà superare il livello dell'aria compressa date un po' di brandy a Scanlan dovrà fare uno sforzo fosse anche l'ultimo ricevere a Bill un sorso di brandy lui lo inghiottì e si guardò attorno con occhi stupiti cercavamo di tenerlo in posizione retta sul sedile reggendolo uno per parte era ancora stordito ma in poche parole gli spiegammo la situazione esiste il pericolo che si formi del gas di cloro se l'acqua raggiunge le batterie disse Maracott aprite tutte le bombole d'aria perché più pressione riusciamo ad ottenere meno acqua entrerà ora datemi una mano a sbloccare la botola urbatici sul portello facemmo leva con tutto il nostro peso dando uno strattone violento alla botola sul pavimento benché compiendo quel gesto mi sentissi come uno che ha deciso di suicidarsi l'acqua verde brillante e scintillante sotto le nostre luci entrò gorgogliando e cominciò a salire giungendo rapidamente all'altezza delle caviglie poi delle ginocchia e quindi alla cintola dove si fermò ma la pressione dell'aria era quasi insopportabile ci ronzava la testa i nostri timpani stavano scoppiando non avremmo potuto resistere molto in quell'atmosfera soltanto aggrappandoci alla rete delle provviste evitammo di cadere dentro l'acqua sotto di noi dal punto in cui ci trovavamo non riuscivamo a guardare dagli oblò né ad immaginare cosa si stava facendo per la nostra salvezza del resto ci riusciva difficile immaginare che fosse possibile fare qualche cosa per noi eppure quella gente e specialmente il loro capo della corta barba aveva un'aria così decisa e risoluta da infonderci qualche speranza improvvisamente vedemmo il suo viso comparire nell'acqua sotto di noi e un attimo dopo era passato attraverso l'apertura circolare della botola e si era arrampicato sulla pedana così che era adesso al nostro fianco la sua figura era tozza e vigorosa non più alta delle mie spalle ma ci esaminava con grandi occhi bruni colmi di una sicurezza quasi divertita che sembravano dire poveri diavoli pensate di trovarvi in un grosso guaio ma io posso aiutarvi facilmente solo allora mi resi conto di un fatto stupefacente l'uomo ammesso che fosse della nostra stessa razza indossava un involucro trasparente che li copriva completamente la testa ed il corpo lasciando libere le gambe e le braccia era talmente trasparente che non eravamo riusciti a vederlo nell'acqua ma adesso che si trovava l'aria accanto a noi l'involucro brillava come argento benché rimanesse limpido e trasparente come il vetro più pergiato sulle spalle sopra quella che senza dubbio era una guaina protettiva portava una curiosa sovrastruttura tondeggiante sembrava una scatola oblunga perforata in più punti nell'insieme l'uomo aveva un aspetto curioso come se avesse le spalline dopo che il nostro nuovo amico si fu unito a noi un'altra faccia parve dall'apertura della botola spingendovi attraverso qualcosa che sembrava una gran bolla di vetro furono fatte passare tre di queste bolle che ora galleggiavano sulla superficie dell'acqua quindi furono fatte salire sei piccole scatole e la nostra nuova conoscenza ce le agganciò a due a due una per spalla con delle cinghie finché furono sistemate esattamente come le sue alla fine mi convinsi che quello strano popolo non aveva infranto alcuna legge della natura per sopravvivere e compresi che mentre una cassetta in qualche maniera sconosciuta produceva ossigeno l'altra assorbiva i residui della respirazione quindi ci fece indossare le bolle trasparenti agganciandole con delle fibbie e chiudendole ermeticamente mediante bande elastiche sulla parte superiore delle braccia e sulla cintola cosicché non potesse entrarvi neanche una goccia d'acqua all'interno delle bolle respiravamo magnificamente e fu una gioia per me osservare Maracott che mi guardava con gli occhi scintillanti dietro le lenti mentre il largo sorriso di Scanlan mi assicurava che il vitale ossigeno aveva fatto il suo dovere e che Bill aveva trovato un'altra volta il suo buon umore il nostro ignoto salvatore ci guardò ad uno ad uno con soddisfazione quindi ci fece cenno di seguirlo attraverso la botola sul fondo dell'oceano una dozzina di mani volenterose si protesero per aiutarci a scendere attraverso il portello e per sostenere i nostri primi vacillanti passi sul fondo melmoso dell'oceano ancora oggi non riesco a dimenticare con l'impressione meravigliosa eccoci là tutti e tre sani e salvi e a nostro agio sul fondo di un abisso d'acqua di quasi diecimila metri dove era quella terrificante pressione che avevano congetturato tanti scienziati non eravamo più oppressi di quanto lo fosse il pesce appetitoso che nuotava intorno ma era pur vero rispetto al mondo in cui i nostri corpi erano stati progettati che eravamo protetti da quelle delicate campane di vetro peraltro più dure del più forte acciaio ma anche i nostri arti che erano esposti non percepivano nulla di più di una certa costrizione che avremmo imparato presto ad ignorare era una sensazione meravigliosa trovarci insieme e ci girammo a guardare l'abitacolo da cui eravamo sgusciati fuori avevamo lasciato le batterie in funzione e ora vedevamo finalmente che oggetto straordinario fosse con i fasci di luce gialla che fuori uscivano dall'oblò e dalla botola mentre nuvole di pesci si raccoglievano davanti agli sportelli dopo avergli dato un ultimo sguardo il capo prese Maracott per mano e noi lo seguimmo in quella fanchiglia camminando lentamente sulla superficie viscosa fu allora che ci capitò un caso ancora più straordinario che stupì oltre noi stessi anche i nostri nuovi compagni sopra le nostre teste era apparso un piccolo oggetto scuro che scendeva dall'oscurità soprastante oscillando finché non toccò il fondo a breve distanza da dove ci trovavamo era naturalmente lo scandaglio d'alto mare dello Stratford che faceva un sondaggio dell'abisso cui doveva venire associato il nome della nostra spedizione capivamo bene che la tragedia della nostra scomparsa aveva differito quell'operazione ma che dopo una breve pausa sarebbe stata portata a termine avevamo già intuito la traiettoria verticale dello scandaglio sperando in cuor nostro che terminasse almeno vicino a noi apparentemente sulla nave non si rendevano conto di aver raggiunto il fondale perché lo scandaglio giaceva immobile nella melma sopra di me si allungava il cavo che attraverso diecimila metri d'acqua ci univa al ponte della nave almeno fosse stato possibile scrivere una nota e attaccarla allo scandaglio ma l'idea era assurda eppure perché non avrei dovuto mandare qualche messaggio che dimostrasse che eravamo ancora vivi la mia giacca era coperta dalla campana di vetro e mi era impossibile raggiungerne le tasche ma dalla cintola in giù ero libero e il fazzoletto doveva trovarsi in una tasca dei calzoni lo tirai fuori e lo legai all'estremità dello scandaglio il peso stesso fece scattare il suo meccanismo automatico e quasi subito vedi la bianca pezzuola di lino volare in alto verso un mondo che non avrei mai più potuto rivedere il nostro nuovo amico aveva esaminato i 35 kg di scandaglio con grande interesse e finalmente dopo essere riuscito nel suo intento riprendemmo il cammino avevamo percorso qualche centinaio di metri passando fra le cupole quando ci fermammo davanti ad una piccola porta quadrata con solide colonne da ogni lato e un'iscrizione sull'architrave era aperta ed entrammo in una grande stanza spoglia era un pannello mobile manovrato da una leva dall'interno che si richiuse dietro di noi naturalmente non potevamo dire niente dentro i nostri caschi di vetro ma dopo qualche minuto ci rendemmo conto che doveva essere in funzione qualche pompa potente perché vedemmo il livello dell'acqua abbassarsi rapidamente sotto di noi in meno di un quarto d'ora ci trovammo su di un pavimento di pietra ancora bagnato d'acqua mentre i nostri amici erano intenti a sganciare le chiusure delle nostre trasparenti guaine protettive un attimo dopo stavamo respirando aria perfettamente pura in un'atmosfera calda e ben illuminata e l'oscuro popolo dell'abisso sorridente e vociante ci si affollava intorno festoso e con gesti di amicizia era uno strano linguaggio rauco quello che parlavano e noi non ne comprendevamo nemmeno una parola ma il sorriso sui loro volti e la luce d'amicizia nei loro occhi erano una lingua comprensibilissima anche in quell'abisso sotto il mare degli abiti trasparenti erano appesi a pioli numerati infissi nella parete e con la gente amabile un po' spingendoci un po' guidandoci ci fece entrare in una stanza più interna che si apriva su un lungo corridoio con il pavimento inclinato coperto di fanghiglia quando la porta si chiuse dietro di noi non c'era più niente che potesse ricordarci il fatto stupendo che eravamo gli ospiti involontari di una razza sconosciuta che viveva in fondo all'oceano atlantico tagliati fuori per sempre dal mondo cui appartenevamo ora che quello sforzo terribile era stato condotto a termine ci sentivamo esausti persino Bill che era un piccolo Ercole trascinava i piedi sul pavimento mentre Maracott eravamo felici di poterci appoggiare alle nostre guide anche se mi sentivo sfinito camminando osservavo ogni cosa era evidente che l'aria era prodotta da qualche macchina perché fuoriusciva in piccoli sbuffi d'aperture circolari praticate nelle pareti la luce diffusa veniva generata chiaramente con un sistema che si basava sul fluoro secondo quel procedimento che aveva attirato l'attenzione degli ingegneri europei dato che poteva sostituire il filamento o la lampadina splendeva da lunghi cilindri di vetro trasparente e fissati alle cornici dei corridoi ciò è quanto vidi fino al momento in cui la nostra discesa si arrestò e fumo introdotti in un vasto salone coperto di pesanti tappeti ed elegantemente arredato con seggiole dorate e divani inclinati che facevano affiorare vaghi ricordi di tombe egizie la folla si era allontanata e con noi rimase soltanto l'uomo con la barba in compagnia di due servi manda ripetè più volte indicando se stesso quindi additandoci ad uno ad uno scandì le parole marakot edley e scanlan finché non riuscì a pronunciarle perfettamente poi ci fece cenno di sederci e mormorò qualcosa ad uno dei servi che si allontanò subito ritornando poco dopo insieme a quello che sembrava un attempato gentiluomo dai capelli bianchi e la lunga barba con un bizzarro copricapo conico di tessuto nero non rammento se ti ho detto che quella gente vestiva tuniche variopinte lunghe fino alle ginocchia e che calzava alti stivali di pelli di pesce o zigrino questo personaggio doveva essere evidentemente un medico perché ci esaminò attentamente uno per volta appoggiando una mano sulle nostre fronti e chiudendo gli occhi come se stesse captando una qualche impressione mentale sulle nostre condizioni di salute apparentemente non fu per nulla soddisfatto perché scosse la testa dicendo parole gravi a Manda quest'ultimo mandò via di nuovo il servo che tornò quasi subito con un vassoio di cibo ed una fiasca di vino che erano stati preparati per noi in precedenza troppo stanchi per domandarci chi fosse quella gente pensammo che per il momento la cosa migliore fosse mangiare più tardi fumo condotti in un'altra stanza dove erano pronti tre letti io mi distesi immediatamente su uno di essi ho soltanto un vago ricordo di Bill che si trascinava stancamente e si sedeva quel sorso di Brandy mi ha salvato la vita disse ma dove ci troviamo non ne so più di voi mi spiace bene sono pronto per la nanna esclamò con voce sonnolenta girandosi nel letto sapete quel vino era davvero ottimo ringrazia e quelle furono le ultime parole che sentii perché poi sprofondai nel sonno tre in vista di Atlantide quando tornai in me non avevo idea di dove mi trovassi gli eventi del giorno precedente erano cosa di molto simile ad un incubo dai contorni confusi e non riuscivo a credere di doverli accettare come realtà sgomento presi ad osservare quella grande stanza severa e senza finestre le pareti grigi le tremolanti linee di luce violace a lungo le cornici i mobili sparpagliati qua e là poi lo sguardo scivolò sugli altri due letti da uno di questi proveniva un russare molto stridulo che avevo ormai imparato ad associare a Maracott già a bordo dello Stratford la situazione mi sembrava troppo assurda per essere vera e solo quando toccai la coperta del mio letto fatta forse di fibre essiccate di qualche pianta marina mi ha resi all'evidenza dell'incredibile avventura che ci era capitata ci stavo ancora meditando sopra quando sentì un'esplosione di risa era Bill Scanlon e si era messo a sedere sul letto salve amico esclamò senza smettere di ridere quando vide che ero sveglio mi sembra di buon umore gli risposi irritato non capisco che cosa ci sia da ridere tanto anche io mi sono svegliato male la prima volta mi spiegò poi mi è venuta in mente un'idea così buffa che mi ha messo allegria beh faccia ridere anche me qual era quell'idea provi a pensare amico mio quanto sarebbe stato divertente se ci fossimo legati tutti e tre a quello scandaglio tanto con quegli aggeggi addosso avremmo potuto respirare benissimo e apparire così al buon vecchio ui si sarebbe convinto di averci pescato non le pare non è una bella storia le nostre risate svegliarono il dottor Maracott che si mise a sedere sul letto con la stessa espressione di meraviglia che avevo avuto io poco prima ci fece dimenticare i nostri problemi divertendoci con i suoi commenti a ruota libera in cui si alternavano la felicità di fronte alla prospettiva di un nuovo campo di studi e la profonda tristezza di fronte all'impossibilità di portare i risultati del suo lavoro ai colleghi scienziati sulla terra tuttavia avevamo problemi più urgenti da risolvere al momento e a quelli Maracott decise di pensare sono le nove disse guardando l'orologio anche i nostri segnavano la stessa ora ma non c'era modo di capire se si trattasse di giorno oppure di notte dobbiamo tenere un calendario continuò ci siamo immersi il 3 ottobre e abbiamo raggiunto questo posto la sera dello stesso giorno quante ore abbiamo dormito buon dio potrebbe essere anche un mese disse Scanlan non dormivo così tanto da quando Mickey Scott mi ci ha obbligato dopo 6 collaudi di seguito la prima decisione che prendemmo fu di lavarci e vestirci dato che avevamo a disposizione tutte le comodità del vivere civile la porta naturalmente era sbarrata affinché fosse chiaro che per il momento dovevamo considerarci dei prigionieri nonostante l'apparente assenza di ogni ventilazione l'aria si manteneva pura e scoprimmo che ciò era dovuto ad una corrente d'aria che proveniva da piccoli fori nella parete doveva esserci anche una sorgente di calore da qualche parte poiché pur non essendo visibile alcun tipo di stufa nella stanza c'era un gradevolissimo tepore di lì a poco mi accorsi di un pulsante su una delle pareti e decisi di premerlo si trattava come mi aspettavo di un campanello la porta infatti si aprì immediatamente e apparve sulla soglia un uomo piccolo e scuro vestito di una tunica gialla aveva grandi occhi neri gentili ed indagatori assieme abbiamo fame disse Maracott potete darci del cibo l'uomo scosse la testa e sorrise era chiaro che non capiva Scanlan provò a parlargli in slang americano ma il suo sforzo venne accolto dallo stesso sorriso vacuo feci un tentativo a mia volta aprì la bocca e feci il gesto di infilarvi le dita a quel punto il nostro ospite annui vigorosamente e scappò via dieci minuti più tardi la porta si aprì e apparvero due servitori in giallo che spingevano un tavolino non avremmo potuto ricevere un trattamento migliore neppure al Biltmore Hotel c'era caffè latte caldo panini miele e delle sogliole deliziose per mezz'ora fummo troppo occupati a sfamarci per discutere del cibo o della sua provenienza alla fine del banchetto riapparvero i due servitori i quali portarono via il vassoio e si richiusero con cura la porta alle spalle io sto diventando blu a furia di pizzicarmi disse Scanlan stiamo vivendo un sogno impossibile o che cosa dica dottore lei ci ha portato fin qui avrà pur qualcosa da dirci il dottor Maracott scosse la testa è un sogno anche per me e che sogno che storia sarebbe per il mondo se solo potessimo raccontarla una cosa mi sembra certa dissi c'era indubbiamente della verità nella leggenda di Atlantide tra quella gente qualcuno ha trovato un modo straordinario per sopravvivere e va bene se la sono cavata ammise Scanlan grattandosi quella sua buffa testa a punta ma che io sia dannato se riesco a capire come diavolo sono riusciti ad ottenere aria pura acqua fresca e tutto il resto potrebbe magari spiegarcelo quel bel tipo con la barba che abbiamo visto la notte scorsa se verrà a darci un'altra occhiata già ma come se non ci comprendiamo faremo uso delle nostre stesse osservazioni disse Maracott una cosa credo di averla già capita grazie al miele è ovvio che si tratti di un miele sintetico del tipo che abbiamo imparato a produrre anche noi sulla terra e se c'è del miele sintetico perché non anche del caffè o della farina le molecole degli elementi sono come mattoni e questi mattoni si trovano attorno a noi dobbiamo solo imparare a scegliere certi mattoni a volte anche uno solo per creare una determinata sostanza lo zucchero diventa amido oppure alcol semplicemente spostando dei mattoni e a cosa dobbiamo questo spostamento al calore all'elettricità o forse ad altri fattori di cui ancora non sappiamo nulla grazie a questi il radio può diventare piombo e l'uranio può trasformarsi in radio senza il nostro intervento ma allora questa gente ha raggiunto un livello molto avanzato nel campo della chimica è indubbio dopo tutto hanno a loro disposizione gli elementi basilari idrogeno e ossigeno dall'acqua azoto e carbonio dalla vegetazione marina fosforo e calcio dai depositi batiali dove non può arrivare la conoscenza se unita all'intelligenza il dottore era nel pieno della sua discettazione sulla chimica quando la porta si aprì e fece il suo ingresso manda e ci salutò con fare amichevole assieme a lui c'era lo stesso venerabile gentiluomo che avevamo incontrato la notte precedente doveva essere un grande erudito perché tentò di comunicare con noi in linguaggi diversi tutti ugualmente incomprensibili si strinse nelle spalle e parlò con manda il quale ordinò qualcosa ai due servitori in attesa vicino alla porta questi scomparvero ma dopo pochi minuti erano già di ritorno con un curioso schermo sostenuto da due piantane era del tutto simile ad uno dei nostri schermi cinematografici ma era ricoperto di un materiale luminoso venne sistemato contro una parete il vecchio misurò con cura la distanza e fece un segno sul pavimento da quel punto si voltò verso Maracott e dopo avergli toccato la fronte indicò lo schermo questo è proprio matto disse Scanlan è suonato nemmeno Maracott pote negare ad essere sconcertato e scosse la testa per un momento anche il vecchio sembrò manifestare imbarazzo ma un'idea doveva essergli venuta in soccorso indicò se stesso poi si voltò verso lo schermo e si mise a fissarlo con intensità e concentrazione un istante dopo la sua immaginazione apparve sullo schermo davanti a noi questa volta puntò il dito verso di noi e immediatamente vedemmo l'immagine del nostro piccolo gruppo proiettata sullo schermo accanto alla sua a dire la verità non si trattava di un'immagine molto fedele Scanlan sembrava un cinese e Maracott un cadavere in decomposizione ma era chiaro che si trattava dell'immagine che l'Atlantideo aveva di noi è un'immagine riflessa del pensiero gridai esattamente disse Maracott questa è senza dubbio l'invenzione più meravigliosa che abbia mai visto ed è una combinazione di telepatia e televisione che a stento comprendiamo sulla terra non avrei mai creduto di vivere tanto da vedermi al cinema ammesso che sia io quella faccia di formaggio da cinese disse Scanlan ehi se potessi far avere queste notizie all'editore del Ledger tirerebbe fuori tanti di quei soldi che vivrei tranquillo per sempre faremmo la nostra fortuna se potessimo salvarci questo è il guaio dissi per Giove metteremmo in subbuglio il mondo intero se soltanto potessimo tornarvi ma chi sta chiamando accenni il vecchio mago vi vuole perché gli diate una mano professore Maracott occupò il posto del vecchio e il suo forte acuto cervello mise a fuoco l'immagine alla perfezione vedevamo Amanda e poi un'altra immagine dello Stratford quando lo avevamo lasciato sia Amanda che l'anziano scienziato annuirono approvando alla vista della nave e Amanda ci fece un rapido gesto con le mani indicando da prima noi e poi lo schermo voglio che gli raccontiamo ogni cosa questa sì che è un'idea gridai vogliono che gli raccontiamo ogni cosa questa sì che è un'idea gridai vogliono sapere attraverso le immagini chi siamo e come siamo finiti quaggiù Maracott annuì a Amanda per mostrargli che aveva capito e aveva cominciato a proiettare un'immagine del nostro viaggio quando Amanda alzò una mano e lo fermò ad un suo ordine i servi rimossero lo schermo e i due Atlantidei ci fecero capire a gesti di seguirli era un palazzo enorme e camminammo corridoio dopo corridoio finché giungemmo finalmente in un grande salone con i sedili disposti in file come in un'aula universitaria da un lato c'era un ampio schermo come quello che avevamo già visto davanti ad esso si assiepava una folla di almeno mille persone che mise un mormorio di benvenuto al nostro ingresso la folla era composta da persone di entrambi i sessi e di tutte le età uomini bruni con la barba e giovani donne belle e dignitosi ma ci fu possibile osservarli soltanto un attimo perché ci fecero accomodare subito in prima fila Maracott si sistemò in un podio di fronte allo schermo le luci vennero abbassate e gli diedero il segnale di incominciare devo dire che il professore fece egregiamente la sua parte da prima vedemmo la nostra nave uscire dal Tamigi e un fremito di eccitazione percorse la folla in attesa alla vista di uno scorcio di una città moderna quindi sullo schermo apparve una mappa consegnata a una rotte fu poi la volta del battiscafo con il suo equipaggiamento cosa che strappò alla folla un mormorio di sorprese in seguito ci vedemmo immergerci e raggiungere il ciglio dell'abisso allora apparve l'immagine del mostro che era stato la causa del nostro disastro Marax Marax gridarono tutti gli spettatori alla vista di quel mostro era dunque chiaro che lo conoscevano e che ne avevano paura piombammo tutti in un angoscioso silenzio alla vista di quell'orribile animale che in modo assai rozzo afferrava il cavo d'aggancio del battiscafo quando questo si spezzò e precipitammo nell'abisso si levò un gemito di orrore non ci sarebbe bastato un mese per raccontare la nostra avventura con la stessa efficacia e chiarezza di quella mezz'ora di proiezione quando fu terminata ci manifestarono in tutti i modi la loro simpatia stringendosi attorno a noi e battendoci le mani sulle spalle per meglio farci intendere che eravamo i benvenuti ci presentarono ad alcuni dei loro capi ma ci parve che fosse solo la saggezza a stabilire la differenza di rango poiché tutti davano l'impressione di appartenere alla stessa classe sociale inoltre erano tutti vestiti allo stesso modo gli uomini indossavano tuniche color zafferano lunghe fino ai piedi con cinture e alti calzari di materiale squamoso e duro fatti forse con pelle di animali marini le donne invece erano molto belle e indossavano abiti morbidi e lunghi delle più svariate sfumature di rosa blu e verde drappeggiati alla maniera classica ornati di lamine opalescenti di conchiglie e di perle molte di quelle donne superavano in bellezza le loro simili sulla terra ce n'era una ma non è opportuno manifestare i miei sentimenti privati in uno scritto destinato a diventare pubblico vorrei dire soltanto che Mona è l'unica figlia di Manda uno dei capi di questa gente e che sin dal nostro primo incontro ho letto nei suoi occhi un messaggio di comprensione e simpatia che mi è arrivato diritto al cuore così come la mia ammirazione e la gratitudine devono aver raggiunto il suo ma per il momento non credo sia il caso di dire altro su questa deliziosa fanciulla posso solo aggiungere che nella mia vita era ormai entrato un sentimento nuovo ed intenso quando vidi Maracott gesticolare in modo per lui insolito in compagnia di una graziosa fanciulla e Scanlan impegnato in una pantomima per manifestare la sua ammirazione ad un gruppo di ragazze sorridenti capì che anche i miei compagni avevano scoperto il lato piacevole della nostra stravagante situazione se il mondo ci considerava ormai perduti avevamo almeno trovato una nuova vita che ci ripagava in qualche modo di ciò che avevamo perduto Manda e gli altri amici ci fecero visitare alcune parti dell'enorme palazzo col passare dei secoli era talmente sprofondato nell'abisso marino che vi si poteva accedere soltanto dal tetto e da qui percorrendo un seguito in interrotto di passaggi si raggiungeva il piano terra che dal tetto poteva distare qualche centinaio di piedi il pavimento in quel punto appariva assai consunto dall'uso inoltrandosi poi in altri passaggi che si sviluppavano in tutte le direzioni si giungeva fino alle viscere della terra visitammo anche i macchinari atti a produrre l'aria e le pompe che la facevano circolare nell'interno del palazzo pieno di ammirazione Maracott poté constatare che quei macchinari non solo miscelavano l'azoto con l'ossigeno ma grazie ad altri alambicchi producevano gas come l'argon il neon e altri componenti dell'atmosfera che noi stiamo appena cominciando a conoscere anche gli apparecchi che distillavano l'acqua per renderla potabile e le enormi installazioni elettriche erano per noi oggetto di grande interesse anche se in quel dedalo di congegni risultava oltremodo difficile individuare i dettagli posso però dire con certezza che ho visto con i miei occhi e degustato personalmente sostanze chimiche liquide e gassose venire versate nelle varie macchine dove trattate con il calore la pressione e l'elettricità venivano trasformate in farina tè caffè e vino dopo aver visitato in altre occasioni quelle parti del palazzo a noi accessibili potemmo constatare che lo sprofondamento doveva essere stato previsto e che la difesa dall'irrompere delle acque era stata predisposta molto tempo prima che la terraferma venisse sommersa dalle onde era evidente e indubitabile che tali precauzioni non potevano essere state prese dopo quell'evento ed eravamo perciò testimoni del fatto che l'intero edificio fosse stato costruito per essere una vera e propria area di salvezza destinata a durare nel tempo i grandi alambicchi gli apparecchi i distillatori i macchinari per produrre aria cibo acqua e quant'altro fosse necessario erano incassati nei muri e dovevano essere parte integrante della costruzione originale e altrettanto lo erano le camere stagne e i laboratori per la fabbricazione delle campane di vetro e le gigantesche pompe dell'acqua ciascun apparecchio era stato fabbricato con abilità e lungimiranza da quel popolo prodigioso che per quanto sapevamo si era mosso in direzione dell'America centrale e dell'Egitto luoghi nei quali aveva lasciato tracce di sé quando la terra d'origine sprofondava nell'abisso dell'Atlantico eravamo anche convinti però che i discendenti di quella gente avessero tralignato rispetto ai loro antenati poiché non interessati al progresso si erano limitati a conservare soltanto una parte delle conquiste scientifiche e tecniche dei loro predecessori ma senza più l'energia e la forza per ulteriori passi avanti pur disponendo di straordinarie capacità non erano stati in grado strano a sentirsi di evolversi ancora non aggiungendo quindi null'altro alla mirabile eredità del passato sono certo che se Maracott avesse potuto disporre di tali conoscenze avrebbe ben presto raggiunto grandi e nuovi risultati quanto a Bill Scanlan grazie alla vivace intelligenza e all'abilità tecnica che gli erano peculiari continuava ad armeggiare con i macchinari apportando gli tali e tante migliorie che agli Atlantidei dovevano sembrare straordinarie come lo erano per noi i loro congegni quando ci immergemmo Scanlan aveva portato con sé la sua amatissima armonica bocca e ben presto era divenuta la felicità dei nostri nuovi amici i quali gli stavano intorno in piccoli gruppi e lo ascoltavano con lo stesso trasporto con cui noi avremmo ascoltato Mozart mentre suonava le dolci canzoni dei Neri d'America come già ho avuto occasione di dire non ci era consentito di visitare l'intero palazzo e al proposito aggiungerei qualche dettaglio c'era consunto dall'uso un corridoio in pendenza sul quale vedevamo passare gente in continuazione e che le nostre guide evitavano deliberatamente ogni volta che ci accompagnavano nelle nostre perlustrazioni è naturale che quel divieto suscitasse la nostra curiosità sicché una sera decidemmo di rischiare facendo un giro per conto nostro scivolammo furtivi fuori della nostra stanza e ci recammo verso il settore sconosciuto nel momento in cui ci parve ci fosse poca gente in circolazione dal corridoio sbucammo di fronte ad una grande porta ad arco che sembrava d'oro massiccio la primo e ci trovammo in una stanza vastissima non meno di 200 piedi dalle pareti dipinte con colori vivaci e ornate di stupende pitture e statue bizzarre di figure dai copricapi smisurati molto simili alle insegne regali degli indiani d'America all'estremità della stanza vedemmo una gigantesca figura seduta a gambe incrociate come Buddha ma senza avere la tranquilla benevolenza che gli è tipica questa era al contrario una figlia dell'ira bocca spalancata e occhi feroci e rossi per via della luce elettrica che gli attraversava il grembo non era che un grande forno colmo di cenere Moloch disse Maracott Moloch o Baal l'antica divinità dei fenici buon dio gridai ricordando vaghe reminiscenze della vecchia cartagine non ditemi che questo popolo gentile si dedica a sacrifici umani ehi dite un po' esclamò Scanlan ansiosamente spero che li facciano in famiglia se proprio devono non vorranno infilarci là dentro per una riverniciatina a caldo no penso che abbiano imparato la lezione gli risposi è proprio la cattiva sorte che insegna ad un popolo ad avere pietà degli altri avete ragione disse Maracott frugando fra le ceneri è il vecchio dio dei loro avi ma senz'altro il suo culto non è più sanguinario queste sembrano ceneri di pane bruciato ma forse ci fu un tempo le nostre supposizioni furono interrotte da una voce dura vicina a noi e scoprimmo diversi uomini in abiti gialli e con alti cappelli che erano evidentemente i sacerdoti del tempio dall'espressione dei loro volti avrei detto che eravamo prossimi a diventare le ultime vittime sacrificali per Baal e uno di loro in quel momento estrasse un coltello della cintura con grida e gesti selvaggi ci spinsero immediatamente fuori dal loro sacro altare per dinci urlò Scanlan se non mi levano le mani di dosso li pesto ehi tu rompi scatole tira via le mani dalla mia giacca per un momento temetti che sarebbe scoppiata a quella che Scanlan chiamava una rissa a botte da orbi dentro il sacro recinto ma fortunatamente riuscimmo ad allontanare Bill senza che volassero colpi e riguadagnammo il rifugio nella nostra stanza avevamo capito che la nostra scappatella era stata risaputa e disapprovata tuttavia c'era un altro tempio che ci fecero visitare liberamente cosa che ebbe l'inaspettata conseguenza di schiudere un rozzo e in perfetto metodo per comunicare e parlarci questo secondo tempietto era sito ad un piano più basso del primo ed era una stanza semplice priva di ornamenti o di particolari decorazioni ad eccezione di un'antica statua d'avorio collocata ad un'estremità che raffigurava una donna che impugnava una lancia con una civetta pollaiata sulla spalla un uomo molto anziano era il custode della stanza e nonostante la sua età era chiaro che apparteneva ad una razza più forte e più bella mentre Maracott ed io osservando la statua d'avorio ci chiedevamo dove mai ne avessimo vista un'altra simile il vecchio si rivolse a noi aditando la statua e disse Thea per Giove esclamai quest'uomo parla il greco Thea Atena ripete non potevamo sbagliarci quelle parole non lasciavano dubbi Maracott il cui brillante intelletto era riuscito ad impossessarsi di vasti settori dello scibile umano cominciò subito a porgli domande in greco antico che vennero però intese soltanto in parte e alle quali il vecchio diede risposte in una sorta di dialetto così arcaico da risultare quasi incomprensibile nonostante ciò Maracott aveva trovato un intermediario grazie al quale avrebbe potuto sia pure in modo approssimativo comunicare con gli altri è una prova eccezionale disse Maracott quella sera con la sua voce acuta e con il tono di chi sta parlando ad una vasta platea della plausibilità della leggenda vi si trova sempre una base di verità anche se col tempo può venire alterata voi sapete o forse no da parte mia ci può scommettere lo interruppe Scanlan che quando fu distrutta la grande isola c'era una guerra in corso tra i greci e gli atlantidei ne scritte in proposito Solone sulla base di quanto apprese dai sacerdoti di Sais è possibile che ci fossero dei greci prigionieri degli atlantidei che alcuni di loro prestassero i loro servigi al tempio e che avessero conservato la propria religione insomma io credo che quell'uomo sia un sacerdote l'ultimo forse del culto greco e chissà che sapendone di più non si possa prendere qualcosa di nuovo anche sugli atlantidei ma che se lo tengano quel loro idolo borbottò Scanlan continuo a preferire la statua di una bella donna a quella di un ciarlatano dagli occhi di brace e la carbonella sulle ginocchia per fortuna non la capiscono dissi se no farebbe la fine di un martire cristiano non corro rischi finché posso suonare loro a un po' di jazz rispose hanno bisogno di me e come devo dire che i nostri ospiti erano davvero allegri e la vita poteva dirsi piacevole ma c'erano momenti in cui sentivo forte la nostalgia per il nostro mondo vedevo scorrere davanti ai miei occhi le immagini dei cari vecchi cortili di Oxford e gli olmi secolari del campus di Harvard che in quei momenti mi sembravano più remoti di un paesaggio lunare solo ora anche se in modo oscuro ed incerto si riaccende in me la speranza di poterli rivedere 4 un'escursione sul fondo dell'oceano qualche giorno dopo il nostro arrivo prendemmo parte assieme ai nostri ospiti o carcerieri non era facile darne una definizione ad una spedizione sul fondo dell'oceano vi presero parte sei di loro compreso Manda il capo ci riunimmo nella stessa stanza tenuta stagna cui eravamo approdati il giorno del nostro arrivo in quell'occasione potemmo osservarla con più attenzione era molto grande almeno un centinaio di piedi per lato con pareti basse umide e verdi a causa della vegetazione marina che vi era cresciuta vi era fissata una lunga fila di ganci ai quali corrispondevano degli strani segni forse dei numeri ad ogni gancio erano appesi una calotta di vetro e il congegno a batterie da applicare sulle spalle per consentire la respirazione molte generazioni dovevano aver camminato su quel pavimento lastricato di pietre consumate tanto da apparire ormai concave e piene di acqua stagnante la stanza era illuminata da tubi al fuoro sistemati lungo le cornici dopo aver indossato le guaine ci diedero un bastone di metallo molto solido e appuntito a gesti manda ci ordinò di afferrarci ad una barra che correva lungo la stanza e ci mostrò con gli altri come fare il loro intento ci fu chiaro nel momento in cui aprendo la porta l'acqua entrò con tanta violenza che ci avrebbe travolti e sommersi se non avessimo preso quella precauzione la pressione dell'acqua però nonostante questa avesse raggiunto e superato le nostre teste ci sembrò leggera manda ci guidò verso l'uscita e alcuni istanti più tardi ci trovammo di nuovo sul fondo dell'oceano alle nostre spalle la porta rimase aperta per il nostro ritorno la luce fredda e spettrale che illuminava debolmente il fondo marino ci consentiva di vedere nel raggio di un quarto di miglio scorgemmo non senza sorpresa una zona di luce vivida all'estremo limite del campo di visibilità disposti in fila indiana manda in testa ci dirigemmo verso quella zona rilucente era un procedere assai lento il nostro reso difficile dalla resistenza dell'acqua e dalla fanghiglia sul fondo ben presto però riuscimmo a vedere con più chiarezza ciò che ci aveva attratto era il nostro battiscafo con ancora tutte le luci accese ultimo ricordo della nostra vita sulla terraferma adagiato su una delle cupole dell'immenso palazzo nonostante fosse pieno d'acqua per tre quarti ciò che restava dell'aria proteggeva l'impianto elettrico era ben strano guardare quell'interno così familiare e vedere i sedili e i congegni ancora al loro posto mentre un considerevole numero di pesci di varie dimensioni vi sguazzavano come pesciolini in una boccia uno dopo l'altro penetrammo nel battiscafo Maracott per recuperare un quaderno da punti che galleggiava in superficie Scanlan ed io per rientrare in possesso di alcuni effetti personali anche Manda e un paio dei suoi vi entrarono per esaminare il batometro il termometro e gli altri strumenti che erano appesi alle pareti agli scienziati interessa sapere che la temperatura nel più profondo degli abissi è di 40 gradi Fahrenheit ed è più alta per via della decomposizione chimica della fanghiglia del fondo di quella che si trova negli strati più vicini alla superficie la nostra piccola spedizione aveva però un obiettivo ben preciso oltre naturalmente a quello di fare un po' di esercizio ovvero il cibo di tanto in tanto vedevo i nostri compagni sferrare colpi decisi con i loro bastoni appuntiti e infilzare ogni volta un grosso pesce piatto e scuro che poteva sembrare un rombo del resto molto numerosi in quella zona ma difficili da individuare per la loro capacità di mimetizzarsi con il fondo una volta catturati i nostri amici se gli appendevano al fianco la nostra abilità mia e di Scanlan ci portò ad infilzarne un paio a testa quanto a Maracott camminava come in sogno perso nell'ammirazione di ciò che lo circondava impegnato in lunghi e animati discorsi che potevamo intuire dall'espressione del suo viso in un primo momento quella grigia distesa ci apparve monotona ma dovemmo ricrederci quando scoprimmo le variegate formazioni prodotte dalle correnti sottomarine simili a veri e propri fiumi che avevano scavato canali nella morbida melma rivelandone il fondo e la sua consistenza di argilla rossa l'elemento che sta alla base di tutto ciò che si è formato sul fondo dell'oceano da prima pensammo che queste strane formazioni bianche che vi erano disseminate fossero conchiglie ma guardando più da vicino ci accorgemmo che si trattava invece di ossi di balena denti di pescecane o di altri mostri marini raccolsi un dente lungo almeno 15 pollici e mi sentii molto sollevato al pensiero che quel genere di mostri frequentasse gli strati più alti dell'oceano Maracott era dell'opinione che quel dente appartenesse ad un'orca assassina o d'orca gladiator poi ci rammentò l'osservazione di micheleges secondo il quale persino gli squali più terribili che aveva catturato portavano su di sé l'inconfutabile testimonianza di scontri con altri mostri più grandi e spaventosi di loro ma ciò che incuriosisce là fuori è la fredda luce che emanano le grandi masse di materie organiche che via via si decompongono in una lenta e fosforescente putrescienza al di sopra l'oceano è nero al pari della notte quella luce fa pensare ad uno scialbo giorno autunnale con gonfie nuvole temporalesche all'orizzonte ebbene da quella volta cupa scendono lentamente ma senza sosta piccoli fiocchi bianchi che brillano sullo sfondo nero sono gusci di chiocciole marine e di altre piccole creature che vivono e muoiono nelle cinque miglia d'acqua che ci separa dalla superficie una parte di esse si dissolve nel corso della discesa arricchendo l'oceano di carbonato di calcio mentre le altre si accumulano sul fondo nel corso dei secoli quei depositi avevano sepolto la grande città dove noi ora abitavamo interrotto ogni legame con la terra e ormai immersi nell'oscurità del mondo sottomarino ci trovammo ben presto di fronte a situazioni assolutamente nuove d'un tratto ci apparvero sagome in movimento che viste da vicino scoprimo essere degli uomini chiusi ciascuno nella guaina protettiva i quali trascinavano grandi slit colme di carbone doveva essere un lavoro ben pesante e quei poveri diavoli curvi e ansanti tiravano funi di pelle di squalo che facevano da briglie in ogni gruppo c'era un uomo il capo probabilmente che li comandava e ci rendemmo conto che i lavoratori e capi erano con ogni evidenza di razza diversa i primi erano uomini alti e biondi con occhi azzurri e corpi vigorosi gli altri invece erano scuri di pelle quasi negroidi e con corpi massicci in quel momento non c'era possibile andare a fondo della questione non di meno ebbi subito la sensazione che gli uni fossero gli schiavi degli altri ma arakot era dell'idea che quei lavoratori fossero i discendenti dei greci fatti prigionieri così come era greca la dea vista nel tempio ne incontrammo molti di questi uomini ognuno con il suo carico di carbone prima di giungere alla miniera in quel punto i depositi sottomarini e le formazioni sabbiose erano stati rimossi portando così allo scoperto un grande pozzo costituito da strati alterni di argilla e di carbone che facevano pensare ad un mondo assai remoto ed ormai sepolto ai diversi livelli di questo enorme cratere vedemmo gruppi di uomini che spaccavano il carbone mentre altri lo raccoglievano e lo sistemavano in ceste con le quali veniva portato fino all'imboccatura del pozzo quella miniera frutto del lavoro di generazioni di schiavi era così smisurata che non si riusciva a scorgerne l'altra estremità dunque l'energia elettrica che veniva prodotta aveva dato vita alla forza motrice grazie alla quale si reggeva l'intero apparato di Atlantide è interessante ricordare che il nome dell'antica città era stato tramandato correttamente dalle leggende quando infatti lo pronunciammo per la prima volta in presenza di Manda e gli altri questi da prima stupiti che lo conoscessimo reagirono poi con energici cenni d'assenso allontanandoci dal pozzo e muovendoci verso destra raggiungemmo una sequenza di basse falesie di basalto la cui superficie era chiara e luminosa come il giorno in cui emersero dalle viscere della terra mentre le cime qualche centinaio di piedi sopra di noi spiccavano minacciose in quelle cupe tenebre alla base di queste falesie vulcaniche c'era una folta selva di alghe che spuntavano da un groviglio di coralli crinoidei dalle origini lontane camminammo per un po' lungo il margine di questa selva marina mentre i nostri amici battevano quella vegetazione con i loro bastoni facendo saltar fuori una straordinaria varietà di pesci e crostacei e catturandone di tanto in tanto qualcuno per la tavola avevamo percorso un miglio o forse di più quando vidi manda fermarsi all'improvviso e lanciare attorno occhiate piene di preoccupazione erano gesti eloquenti suoi un linguaggio vero e proprio che i suoi compagni capirono subito e che ben presto fu drammaticamente chiaro anche a noi era scomparso il dottor Maracott ricordavamo la sua presenza assieme a noi alla miniera e alle falesie basaltiche e ci sembrava impossibile che ci avesse superato doveva quindi con ogni probabilità trovarsi alle nostre spalle forse si era fermato da qualche parte lungo la giungla di alghe i nostri amici erano visibilmente preoccupati mentre Scanlan ed io che ben conoscevamo bizzarrie e distrazioni di quel bravuomo pensavamo che non ci fosse ragione alcuna di preoccuparsi e che presto lo avremmo scorto mentre si attardava dinnanzi a qualche strana forma di vita che lo aveva particolarmente incantato ritornammo sui nostri passi e dopo aver percorso un centinaio di yard finalmente lo scorgemmo correva e correva con un'agilità che non avrei mai creduto possibile in un uomo come lui d'altronde anche il più sedentario degli uomini riesce a correre quando la paura gli piomba addosso agitava le mani protese in avanti come per chiedere aiuto incespicando goffamente ad ogni passo e aveva ben ragione di agitarsi dato che tre orribili mostri marini gli stavano alle calcagna erano granchi tigre a strisce bianche e nere come cani terra nova per sua fortuna quei granchi non erano veloci e la loro andatura goffa e obliqua superava solo di poco quella del terrorizzato fuggiasco però avevano più energia di lui e non c'era dubbio che in pochi minuti lo avrebbero raggiunto con le loro terribili chele se non fossero corsi in suo aiuto i nostri amici questi si slanciarono in avanti con i loro bastoni accuminati mentre Manda accendeva la torcia che portava la cintura diresse la luce verso quei mostri facendoli fuggire precipitosamente tra le alghe finché non scomparvero Marakot si sedette su una grovigliata formazione corallina con il viso ancora contratto dalla paura in seguito ci raccontò che si era addentrato nella selva sperando di catturare un esemplare assai raro di Chimo era ad alto mare ma era incappato nella tana di feroci granchi tigre che avevano preso ad inseguirlo solo dopo essersi a lungo riposato Marakot fu in grado di rimettersi in cammino la successiva fase del viaggio ci portò una volta superate le falesie basaltiche alla nostra meta in quel punto la vasta distesa grigia presentava delle sommità irregolari e dei rilievi dai quali si intuiva che là sotto giaceva la grande e antica città che sarebbe stata sepolta per sempre dal fango come lo fu Ercolano dalla lava e Pompei dalla cenere se i superstiti del tempio non avessero scavato un ingresso questo era formato da un lungo vallo in pendenza che finiva in una larga strada fiancheggiata da edifici le mura dei palazzi erano in parte sbrecciate e in parte addirittura crollate poiché evidentemente erano di natura meno solida di quella che aveva protetto il tempio ma all'interno erano rimaste in gran parte come al tempo della catastrofe almeno in quei punti in cui l'acqua non era intervenuta con la sua azione distruttrice trasformando quelle stanze in modo talvolta straordinario e talvolta orribile non fumo incoraggiati dalle nostre guide ad osservare i primi edifici raggiunti perché ci condussero in fretta a quella che doveva chiaramente essere stata la cittadella centrale o palazzo attorno al quale si stendeva l'intera città i pilastri le colonne gli enormi cornicioni scolpiti i fregi le scalinate di questo palazzo superavano in bellezza qualunque altra costruzione che mi era capitato di vedere sulla terra al momento mi richiamò alla memoria le rovine del tempio di Karnak a Luxor in Egitto e allo stesso modo le decorazioni e le incisioni semicancellate evocavano quelle che si possono trovare nelle maestose rovine lungo il Nilo altrettanto potevo dire per i capitelli a forma di loto com'era straordinario trovarmi lì su quei pavimenti di marmo in quelle sale così ampie ed ornate da statue maestose che ci dominavano da ogni parte e ugualmente straordinario fu il vedere come ci capitò quel giorno grandi anguille argente che guizzavano sopra le nostre teste e una moltitudine di pesci che colpiti dalle nostre luci fuggivano spaventati in ogni direzione passavamo da una stanza all'altra contemplando quello sfarzo e a tratti quella lussuriosa eccentricità che secondo la leggenda aveva attirato su quella gente l'ira degli dei una piccola stanza mirabilmente smaltata di madre perla sfavillò di intensa e multicolore iridiscienza quando fu illuminata dalla luce delle nostre torce in un angolo scorgemmo una pedana di metallo dorato con sopra un letto anch'esso di metallo faceva parte della camera di una regina ma accanto a quel lussuoso giaciglio c'era un orrendo calamaro nero il cui corpo ripugnante si sollevava e si abbassava con ritmo lento arcano quasi fosse l'empio cuore di quel sinistro palazzo provai un senso di liberazione e con me gli altri quando le nostre guide ci condussero di nuovo fuori demmo un'occhiata ai ruderi di un anfiteatro e a un molo alla cui estremità si levava un faro segno evidente che quella città era stata un porto abbandonammo ben presto quei luoghi di funesti presagi per trovarci una volta di più sulla pianura a noi ormai familiare ma le nostre avventure non erano ancora finite poiché ce ne capitò un'altra che allarmò noi e i nostri amici ci eravamo messi in cammino verso casa quando uno dei capi ci indicò un punto con aria alquanto preoccupata guardammo verso quella direzione e ci si presentò una scena fuori dell'ordinario dalla tenebrosa oscurità delle acque che ci sovrastavano ci apparve una sagoma cupa e smisurata che scendeva a grande velocità da prima ci diede l'impressione di una massa informe ma quando fummo più vicini comprendemmo che si trattava di un mostruoso pesce già morto e squarciato in tal modo che l'interiora ondeggiavano dietro quel corpo senza vita che via via affondava evidentemente i gas interni gli avevano consentito di galleggiare negli strati più alti dell'oceano fino a quando la decomposizione e forse gli assalti degli squali lo avevano ridotto ad un corpo morto che precipitava verso il fondo avevamo già avuto occasione di vedere nel corso della nostra escursione grandi carcasse scarnificate dai pesci ma questo enorme esemplare dava l'impressione non fosse stato per lo squarcio nel ventre di essere ancora in vita i nostri compagni ci afferrarono per evitare che venissimo colpiti da quel grosso corpo ma ci rassicurarono quando capirono che ci avrebbe evitati grazie ai nostri caschi di vetro non udimmo il tonfo quando arrivò a contatto del fondo ma dovette essere sicuramente enorme a giudicare della gran quantità di fango che schizzò tutt'attorno come se fosse precipitato un macigno pesantissimo si trattava di un capidoglio lungo almeno 70 piedi e fu subito chiaro dall'eccitazione e dalla gioia dei nostri amici che si sarebbero abbondantemente serviti del suo spermaceti e del suo grasso abbandonato ciò che restava di quel cetaceo raggiungemmo di nuovo il portale d'ingresso del rifugio inesperti come eravamo di escursioni negli abissi oceanici ci sentivamo sfiniti sicché fu un sollievo per noi trovarci finalmente al sicuro nella camera stagna dove ci liberamo dei nostri caschi protettivi qualche giorno dopo la proiezione cinematografica con la quale avevamo narrato agli Atlantidei le nostre traversie partecipammo ad uno spettacolo dello stesso tipo ma ancor più imponente e solenne che ci rivelò la storia di quel popolo prodigioso non pensai che quello spettacolo fosse stato organizzato solo per farci piacere ma ero piuttosto del parere che quegli avvenimenti venissero di tanto in tanto pubblicamente evocati per tenere destra la memoria della tradizione e che noi fossimo invitati a partecipare soltanto ad una parte una sorta di intermezzo di una lunga cerimonia religiosa quale che sia la verità racconterò con esattezza quello che accadde ci condussero di nuovo nella vasta sala dove il dottor Maracott aveva proiettato sullo schermo le nostre vicende vi si era riunita l'intera comunità e noi fummo esortati a prender posto sulla tribuna d'onore proprio davanti al grande schermo luminoso dopo aver cantato a lungo si trattava forse di un inno patriottico un vecchio canuto lo storico o il cronista di quel popolo si fece avanti fra gli applausi della folla e si fermò davanti allo schermo subito apparvero le immagini dell'ascesa e decadenza degli Atlantidei spero di riuscire a comunicarvi il vigore e la drammaticità di quelle visioni i miei due compagni ed io perdemmo del tutto la cognizione del tempo e dello spazio tanto eravamo assorbiti da ciò che vedevamo mentre gli altri spettatori oltremodo emozionati soffrivano e piangevano dinnanzi alla tragica rievocazione della rovina della loro terra e dell'agnentamento della loro razza nel corso delle prime immagini vedemmo l'antico continente nel momento glorioso della sua storia secondo il ricordo che era stato tramandato di padre in figlio vedemmo a volo d'uccello un'incantevole e ondulata pianura che si estendeva a perdita d'occhio ingegnosamente irrigata con vasti campi di grano ondeggianti frutteti deliziosi ruscelli verdi colline e quella laghi e cime suggestive i villaggi e le fattorie sorgevano numerosi e splendide erano le case signorili apparve in seguito la capitale una magnifica città sul mare con il porto gremito di galee e con copiose mercanzie ammassate sui moli alte gigantesche mura e bastioni cinti da fossati garantivano protezione e difesa la città vedemmo nell'entroterra e per molte miglia un'infinita fuga di case e nel centro della città come una visione onirica si ergeva un imponente castello merlato ecco apparire poi i volti di coloro che vivevano in quell'età dell'oro vecchi saggi e venerabili gagliardi guerrieri ieratici sacerdoti donne belle e nobili deliziosi bambini un trionfo della razza umana ma la scena subito dopo cambiò completamente apparvero visione di guerra di terra e di mare di esseri umani indifesi di fronte ai carri da combattimento umiliati e calpestati dai cavalieri armati vedemmo i vincitori arricchirsi e le ricchezze cambiare il volto degli uomini farli sempre più crudeli e spietati la decadenza segnava una generazione dopo l'altra si presentarono ai nostri occhi altre manifestazioni di depravazione lussuria e corruzione morale vedemmo il predominio della materia sullo spirito sport violenti sostituivano ormai le coraggiose e civili gare atletiche di un tempo l'amore per la cultura e l'arte era scomparso assieme alla pacifica e sobria vita familiare avevamo ormai la visione di un popolo insoddisfatto e frivolo che passa da uno svago all'altro sempre alla ricerca di nuovi piaceri che subito abbandonava per altri ancora più stravaganti e dissoluti si erano formate due classi sociali una ricchissima tesa soltanto al soddisfacimento dei sensi mentre l'altra poverissima sottomessa agli arbitri dei padroni altre immagini ci fu dato ancora di vedere su quello schermo con l'apparizione di riformatori che lottavano accanitamente per affrancare quel popolo dalla corruzione e guidarlo di nuovo verso i dimenticati e luminosi modelli di vita del passato vediamo quegli uomini saggi e generosi discutere e difendere la propria causa in mezzo alla gente e venire insultati ed erisi proprio da coloro che essi cercavano di salvare contro i rifornimenti si levarono con ferocia i sacerdoti di Baal e furono proprio loro che spazzarono via la civile e umana spiritualità con i loro riti e le loro cerimonie ma i riformatori non si scoraggiarono essi continuarono al contrario a lottare per la salvezza del loro popolo i volti di quegli uomini assumevano sempre di più un'espressione grave che incuteva persino terrore come di chi porta dentro di sé un tremendo messaggio qualcuno fra la gente ascoltava le loro parole e assentiva terrorizzato ma la maggioranza li dileggiava voltando loro le spalle e sprofondando sempre più nella palude della perversione arrivò infine il giorno in cui i riformatori ormai consapevoli di non poter dare più nulla cessarono di lottare abbandonando al suo destino quel popolo corrotto la scena che seguì fu sbalorditiva uno di quei riformatori un uomo di straordinaria prestanza fisica e vigore mentale indicò a tutti la via da seguire egli possedeva ricchezze prestigio e poteri che sembravano non appartenere a questo mondo lo vedemmo come fosse caduto in trance comunicare con gli spiriti superiori e portare tra la sua gente una scienza tale da offuscare tutte le conquiste del nostro moderno progresso scienza che consentì la costruzione di un'arca che avrebbe salvato il popolo dalla tragedia che si stava avvicinando una moltitudine di lavoratori si mise all'opera e mentre la loro costruzione prendeva forma a poco a poco una folla di cittadini incoscienti se ne stava semplicemente a guardare divertendosi alla vista di quella accurata quanto inutile precauzione altri invece discutevano con lui e sembrava gli volessero suggerire di andarsene in un luogo più sicuro visto che aveva tanta paura ma egli sarebbe rimasto così Ciparve rispondesse perché sapeva che ci sarebbe stato qualcuno da salvare all'ultimo momento e da ospitare nel tempio della salvezza sul quale intanto dava accoglienza a coloro che lo avevano seguito e li tratteneva perché pur avendo la certezza grazie ai suoi poteri soprannaturali dell'approssimarsi della catastrofe non ne conosceva tuttavia né il giorno né l'ora così quando il rifugio fu completato e le porte stagne controllate attese che si compisse il fatale destino con la sua famiglia gli amici i seguaci ed i serbi e il terribile momento arrivò se fu tanto tremendo viverlo come spettatori Dio solo sa come fu quella realtà vedemmo un'enorme montagna d'acqua scintillante levarsi ad un'altezza vertiginosa dalla superficie calma dell'oceano e miglio dopo miglio quella massa dalle frange schiumanti prese a spostarsi aumentando via via di velocità investite dalle onde due piccole imbarcazioni finirono in frantumi poi quella minacciosa e lucente montagna investì con incredibile violenza il porto cancellò la città le strade e le dimore come un ciclone in un campo di grano sui tetti delle case la gente fissava terrorizzata l'appressarsi della morte con visi stravolti occhi sbarrati bocche contorte si torcevano le mani quei disperati e balbettavano parole insensate gli uomini e le donne che avevano accolto con disprezzo l'annuncio della tragedia ora si prosternavano implorando pietà dal cielo levando alte le braccia in deliranti invocazioni era ormai troppo tardi per raggiungere l'arca oltre la città e a migliaia cercarono rifugio verso la collina più alta dove sorgeva la cittadella dai bastioni già brulicanti di folla ma ecco che all'improvviso il castello cominciò a sprofondare tutto cominciò a sprofondare l'acqua era penetrata in ogni recesso della terra spegnendone i fuochi centrali e trasformandoli in vapore le fondamenta di Atlantide vennero sconvolte e mentre la città si innavissava noi e la folla levammo un grido dinnanzi a quella spaventosa visione scomparve il molo spezzato in due tronconi e anche il faro alto e solenne i tetti che ancora emergevano dall'acqua sembravano una scogliera rocciosa poi anche essi vennero inghiottiti dalle onde soltanto la cittadella resisteva ancora emergeva solitaria dall'acqua come un vascello fantasma ma anch'essa prese a sprofondare trascinando con sé un agitare disperato di mani che invocavano la salvezza la tragedia si era compiuta l'oceano aveva trionfato su tutto il continente quelle acque non portavano alcun segno di vita tra i giganteschi vortici emergevano sballottati quella i resti della catastrofe cadaveri di esseri umani e di animali seggiole tavoli vestiti cappelli mercanzie ed era tutto un rimescolio un turbinio senza sosta in quell'acqua ribollente infine lentamente il mare si quietò quella distesa sconfinata di acqua liscia e piena di luce come argento vivo con un sole nebbioso e basso sull'orizzonte era divenuta la tomba della città che Dio aveva giudicato e punito la storia era dunque conclusa non chiedemmo altro che la nostra immaginazione non potesse suggerire il lento e inesorabile inabissarsi di quella terra sempre più giù verso l'abisso tra le eruzioni vulcaniche che sollevarono picchi sottomarini intorno ad essa l'avevamo davanti agli occhi quella città distrutta frantumata disseminata per miglia sul fondo dell'oceano atlantico quella città ora giaceva accanto all'arca su cui si era raccolto quello sparuto gruppo di superstiti disperati ci fu possibile comprendere allora come avessero continuato a vivere e quale uso avessero fatto della scienza del loro maestro come quest'ultimo avesse loro insegnato prima di morire tutte le sue arti e in che modo 50 o 60 sopravvissuti si fossero moltiplicati fino a formare una grande comunità la quale era riuscita a crearsi il suo spazio vitale scavando nelle viscere della terra nessuna biblioteca avrebbe potuto raccontare meglio di quelle immagini lo svolgersi degli avvenimenti e quant'altro ci fu possibile dedurre per conto nostro quello fu il destino e quelle le cause che segnarono la rovina della grande terra di Atlantide un giorno forse quando la melma battiale si sarà trasformata in calcare riemergerà alla luce la città sommersa grazie ad un nuovo respiro della natura ed il futuro geologo scavando nella caverna non troverà selci né conchiglie ma i resti di una civiltà scomparsa e i segni di una catastrofe ormai remota ci chiedevamo esitanti quanto tempo fosse trascorso dal disastro e il dottor Maracott riuscì a descogitare un rudimentale metodo di calcolo tra i molti edifici minori del gigantesco palazzo c'era una grande tomba dove venivano sepolti i capi la pratica della mummificazione era stata ed era ancora molto diffusa come in Egitto e nello Yucatan e le nicchie nei muri contenevano un numero infinito di queste lugubri reliquie del passato Manda indicò con orgoglio l'ultima nicchia della serie facendoci capire che era stata preparata per lui prendete in considerazione i re europei disse Maracott con il più professionale dei toni e scoprirete che la media delle successioni è di 5 sovrani per ogni secolo potremmo forse usare questa statistica anche nel nostro caso il metodo non sarà scientificamente preciso ma potrà fornirci un'accettabile approssimazione ho contato le mummie sono 400 il che significherebbe 8000 anni per l'appunto e questa corrisponderebbe pressa poco alla stima fatta dallo stesso Platone il fatto si verificò senza dubbio prima che avessero inizio le testimonianze scritte dagli egiziani cioè in un periodo compreso fra i 6 e i 7000 anni fa sì possiamo dire di avere visto il filmato di una catastrofe avvenuta almeno 8000 anni fa e d'altronde una civiltà che si è sviluppata nel senso che abbiamo visto non può non aver bisogno di millenni ebbene concluse Maracott ed io cerco di riportarne le esatte parole abbiamo ampliato l'orizzonte della storia umana come nessun altro ha fatto da che la storia è iniziata 5 l'attacco al mostro circa un mese dopo la nostra visita alla città sepolta almeno secondo il calendario che teneva Maracott accadde una cosa stupefacente ed inaspettata avevamo pensato che con tutte le avventure vissute niente potesse più sorprenderci o sbalordirci eppure questo fatto superò di gran lunga qualunque nostra fantasia fu Scanlan a portare la notizia che era accaduto qualcosa di molto importante tieni conto che oramai ci sentivamo quasi di casa in un certo senso in quell'immenso palazzo frequentavamo le sale di svago e di divertimento collettive assistevamo a concerti la loro musica era molto strana ed elaborata e a spettacoli teatrali dove la mimica assai vigorosa e drammatica sostituiva per noi il loro linguaggio ancora del tutto incomprensibile parlando in generale facevamo parte della comunità in tutto e per tutto spesso eravamo invitati da diverse famiglie nelle loro abitazioni private e nel complesso la nostra vita o quantomeno la mia scorreva serenamente grazie anche al fascino di questa strana gente nel mio caso poi grazie soprattutto a quella cara giovinetta di cui ho già detto il nome Mona era figlia di uno dei capi di quel popolo e nella sua famiglia avevo trovato un calore e una gentilezza che mi aveva fatto dimenticare ogni differenza di razza e di linguaggio quando si trattava di esprimere i propri sentimenti scoprì che non c'era poi tanta diversità fra la lingua della vecchia Atlantide e l'americano moderno suppongo che quel che piaceva ad una ragazza del Brown College nel Massachusetts non potesse dispiacere neanche alla mia bella sotto il mare ma stavo parlando del momento in cui Scanlan entrò nella nostra stanza con notizie di grande importanza ehi è appena tornato come un ciclone uno di loro era talmente agitato che si è completamente dimenticato di togliersi il casco di vetro e ha continuato a parlare per alcuni minuti prima di capire che nessuno poteva sentirlo poi tolto l'elmetto ha svuotato il sacco finché gli è durato il fiato e immediatamente tutti lo hanno seguito nel posto dove ci si tuffa in acqua voglio andare anche io senz'altro ci sarà da vedere qualcosa di straordinario correndo fuori ci imbattemmo nei nostri amici che si affrettavano con gesti eccitati lungo il corridoio ci unimmo subito alla folla impaziente di raggiungere il fondo del mare guidati dal concitato messaggero andavano talmente in fretta che non era facile per noi stargli dietro ma per fortuna avevano portato con sé delle torce elettriche e benché ci trovassimo alle loro spalle riuscimmo a seguirne il bagliore giunti sul fondo tra una folla impaziente percorremmo il solito sentiero che costeggiava le falesie di basalto finché arrivamo in un posto dove la direzione delle orme impresse sul sentiero per il lungo uso ci condusse sulla cima mentre salivamo osservammo il paesaggio frastagliato tutto intorno con aguzzi pinnacoli di roccia e profondi precipizi che rendevano difficile il cammino dopo aver superato quel groviglio di larve secolari sbucammo in un pianoro rotondo brillante di quella luce fosforescente dove proprio al centro giaceva qualcosa che mi fece restare senza fiato guardando i miei compagni compresi dalle loro espressioni sbalordite che provavano le mie stesse emozioni un grande battello a vapore giaceva semi conficcato nel fanco si era rovesciato su di un fianco la ciminiera spezzata pendeva formando un angolo bizzarro e l'albero di trinchetto era stato tranciato via ma tolti questi danni la nave era intatta bella e fiammante come avesse appena lasciato il molo ci affrettammo alla volta del battello e ben presto ci trovammo sotto la poppa puoi immaginare quel che provammo leggendo il nome Stratford Londra la nostra nave ci aveva seguito affondando nell'abisso di Maracott naturalmente passata la prima impressione la cosa non ci sembrò così difficile da capire ricordavamo benissimo il mare che cominciava ad agitarsi le vele fatte a terzarolare dall'esperto capitano norvegese la strana nuvola nera all'orizzonte chiaramente doveva essere sopraggiunto un ciclone di inaudita violenza e lo Stratford era affondato ed era altrettanto evidente che il suo equipaggio era perito perché la maggior parte delle scialuppe di salvataggio semi distrutte erano state trascinate a fondo e in ogni caso quale scialuppa avrebbe potuto sopravvivere ad un tale uragano senza dubbio la tragedia era avvenuta una o due ore dopo il nostro disastro forse lo scandaglio che avevamo visto era stato calato poco prima che sopravvenisse il naufragio era terribile ma anche ironico che noi fossimo ancora vivi mentre coloro che stavano piangendo la nostra scomparsa fossero stati a loro volta uccisi non potevamo dire con certezza se la nave fosse andata alla deriva per qualche tempo negli stratti più alti dell'oceano o se fosse affondata subito dove l'avevamo trovata senza che i nostri compagni la scoprissero fino a poco prima il povero capitano Uwi o quanto restava di lui era ancora al suo posto sul ponte di comando le mani rigide serrate sulla battagliola il suo corpo e quello di tre fuochisti in sala macchine erano gli unici in tutta la nave sotto la nostra direzione li facemmo rimuovere e seppellire nella fanghiglia e posammo una ghirlanda di enemoni marini sopra i loro resti riferisco questi dettagli nella speranza che possano essere di conforto alla signora Uwi nel suo lutto purtroppo non conoscevamo i nomi dei tre fuochisti mentre assolvevamo a questo triste compito i piccoli uomini di Atlantide si affollavano sulla nave guardando verso l'alto potevamo vederli un po' dovunque come topi nel formaggio la loro curiosità ed eccitazione ci fece capire che era la prima nave moderna probabilmente il primo battello a vapore che fosse mai capitato laggiù tempo dopo scoprimo che l'apparecchio appeso alle spalle che generava ossigeno non permetteva un'autonomia superiore alle due ore e doveva essere ricaricato così che la loro possibilità di apprendere e studiare quel che si trovava sul fondo del mare era limitata alle poche miglia nei pressi della base si misero subito al lavoro facendo a pezzi il relitto e recuperando tutto ciò che avrebbe potuto tornare utile o versione questa che si rivelò lunga e che probabilmente è ancora in corso per parte nostra eravamo contenti di ritornare nelle nostre cabine e di poter recuperare capi di vestiario e libri che non erano del tutto rovinati tra le altre cose che salvammo dallo Stratford c'era anche il giornale di bordo della nave che era stato compilato fino all'ultimo giorno dal capitano era strano che stessimo leggendo la storia della nostra scomparsa e che chi l'aveva scritta fosse morto la registrazione di quel giorno era la seguente 3 ottobre i tre coraggiosi ma temerari esploratori si sono immersi oggi con il loro apparecchio per raggiungere il fondo dell'oceano contro la mia volontà e i miei avvertimenti e l'incidente che avevo previsto è accaduto Dio abbia pietà delle loro anime hanno iniziato l'immersione alle ore 11 del mattino ed io ero incerto sedare il mio benestare perché sembrava ci fosse una tempesta in arrivo vorrei tanto aver seguito il mio impulso ma forse non avrei fatto altro che ritardare una tragedia inevitabile mi sono accommiatato da ciascuno di loro sentendo in cuor mio che non li avrei più rivisti per un certo tempo tutto è andato bene e alle 11 e 45 avevano raggiunto la profondità di 550 metri profondità alla quale toccarono il fondo il professor Maracott mi inviò diversi messaggi e tutto sembrava a posto quando improvvisamente udì la sua voce agitata e notai una considerevole tensione del cavo d'aggancio dell'apparecchio un attimo dopo si era spezzato con uno schiocco e sembrava che fino a quel momento si fossero trovati sopra un grande abisso perché su ordine del professore avevo fatto spostare lentamente la nave da prora via i tubi dell'aria continuarono a srotolarsi per una lunghezza che stimai sul mezzo miglio poi si spezzarono anche essi non possiamo più sperare di avere altre notizie del professor Maracott del signor Hadley e del signor Scanlan e devo annotare un'altra cosa straordinaria sul cui significato non ho avuto modo di riflettere perché con questo tempaccio sono occupato a controllare tante cose che mi distraggono nel momento in cui avveniva la tragedia feci calare uno scandaglio d'altomare che segnò 8.170 metri di profondità la zavorra dello scandaglio naturalmente era stata abbandonata sul fondo ma avevamo appena recuperato il cavo e per quanto possa sembrare incredibile trovammo il fazzoletto del signor Hadley con le sue iniziali nella cavità di porcellana che preleva campioni del fondo anche l'equipaggio restò sbalordito e nessuno è stato in grado di spiegare come fosse potuta accadere una cosa simile nella prossima registrazione forse potrò dire qualcosa di più abbiamo indugiato qualche ora sul posto nella speranza che qualcuno emergesse alla superficie ed abbiamo recuperato il cavo da gancio con l'estremità strappata ora devo badare alla mia nave perché non ho mai visto un cielo più scuro il barometro è sceso a 28.5 e la pressione continua a cadere in questo modo abbiamo avuto le ultime notizie dei nostri vecchi amici un terribile ciclone si era battuto sulla nave distruggendola quasi istantaneamente restammo accanto al relitto per un certo tempo finché l'aria dentro i nostri caschi di vetro incominciò a scarsiggiare e una sensazione sempre crescente di oppressione al petto ci avvertì che era giunto il momento di tornare ad Atlantide sulla via del ritorno ci accadde un'avventura che dimostrò a quali improvvisi pericoli era esposta alla gente sottomarina e che forniva una spiegazione sul fatto che il loro numero a dispetto del lungo periodo trascorso non era molto elevato infatti anche calcolando gli schiavi greci non dovevano superare le 4 o 5 mila unità eravamo scesi lungo i picchi di lava e dopo aver superato le falesie basaltiche costeggiavamo la giungla d'alga che confinava con queste ultime improvvisamente Manda indicò l'alto e si infuriò con un membro del gruppo che era rimasto indietro allo scoperto nello stesso tempo lui e quelli che lo circondavano si precipitarono al riparo di alcuni macigni trascinandoci con loro soltanto quando fummo al sicuro ci fu possibile capire la causa di tanto spavento un pesce enorme dalla forma singolare si trovava a qualche distanza da noi ma si avvicinava rapidamente pareva un gigantesco letto di piume fluttuante morbido e gonfio bianco sotto pelle con una lunga frangia rossa la cui vibrazione si propagava attraverso l'acqua a prima vista sembrava privo di bocca e di occhi ma ben presto si dimostrò temibile il nostro compagno che era rimasto allo scoperto si precipitò verso il riparo dove ci trovavamo noi ma ormai era troppo tardi vedi il suo viso sconvolto dal terrore quando capì che il suo destino era segnato l'orribile creatura piombò su di lui lo avviluppò completamente con il suo corpo mostruoso e giacque sullo sventurato pulsando disgustosamente come se dovesse premerlo contro gli scogli di corallo e maciullarlo fino a farlo a pezzi la tragedia avveniva a pochi metri di distanza da noi e l'immediatezza con cui accadde aveva privato i nostri amici di qualunque capacità di reazione ma Bill Scan Scanlan si slanciò in avanti e saltò sul dorso dell'animale macchiato di marrone e di rosso piantando il suo bastone duro e appuntito nei suoi soffici tessuti io avevo seguito l'esempio di Scanlan e alla fine anche Maracott e tutti gli altri si lanciarono all'attacco del mostro che si allontanò lentamente lasciandosi dietro una scia di secrezione viscida e glutinosa ma il nostro aiuto era giunto troppo tardi perché l'impatto del grande pesce aveva spezzato la campana di vetro dell'Atlantideo che era purtroppo annegato un giorno di lutto allorché riportammo il suo corpo al rifugio ma fu anche il nostro momento di gloria perché il nostro immediato intervento aveva fatto salire di molto la stima degli Atlantidei nei nostri confronti quanto al bizzarro animale il professor Maracott ci assicurò che si trattava di un esemplare di pesce coperta ben noto agli ettologi ma di una taglia tale da sorpassare ogni immaginazione sono dilungato nella descrizione di questa creatura perché fu la causa della tragedia ma potrei e forse lo farò scrivere un intero libro sulle meravigliose e terribili forme di vita che abbiamo visto quaggiù rosso e nero sono i colori più diffusi nelle creature delle grandi profondità mentre la vegetazione tende al verde oliva pallido è questa la tonalità di una fibra molto resistente alla base della flora abissale che raramente viene portata in superficie dalle reti a strascico cosicché la scienza è giunta alla conclusione che il letto dell'oceano sia spoglio molte forme di vita abissali sono di straordinaria bellezza al contrario altre sono così grottescamente orribili da sembrare immagini di un incubo e sono più temibili di qualunque animale di terra ferma ho visto con i miei occhi una razza o manta dal pungiglione lunga quasi dieci metri con un terrificante aculeo all'estremità della coda che avrebbe potuto uccidere qualunque animale con il colpo di una sola puntura un'altra volta ho osservato una creatura simile alla rana con gli occhi verdi sporgenti e posso garantire che era un'unica enorme bocca seguita da uno stomaco smisurato incontrarla significa morire a meno che non si abbia con sé una potente torcia elettrica con cui respingerla abbagliandola ho visto anche la rossa anguilla cieca che si nasconde tra gli scogli e uccide mettendo un getto di veleno e il pesce scorpione gigante terrore dell'abisso e la lampreda che se ne sta in agguato tra la giungla d'alga ho avuto anche la fortuna in altra occasione di poter osservare il vero serpente di mare una creatura sulla quale raramente si è posato occhio umano perché è l'abisso il suo ambiente naturale che esso lascia soltanto quando ne è costretto da qualche sommovimento marino un giorno mentre Mone ed io ci acquattavamo fra grappoli di lamellarie potevamo vederne ben due che nuotavano o meglio serpenteggiavano dietro di noi erano enormi larghi tre metri e mezzo e lunghi almeno sei neri sul dorso e bianco argente o sotto con un'alta frangia dalla coda alla testa dove i piccoli occhi non erano più grandi di quelli di un bue di queste e molte altre creature sarà possibile trovare dettagliata descrizione nelle carte del dottor Maracott sempre che quest'ultime vengano trovate da qualcuno le settimane si rincorrevano piacevolmente nella nostra nuova esistenza e un po' alla volta imparamo quanto bastava della loro lingua dimenticata per poter scambiare qualche parola di conversazione con i nostri amici nel rifugio c'erano un'infinità di soggetti sia di studio che di divertimento e Maracott aveva talmente approfondito la scienza degli antichi che diceva di essere in grado di rivoluzionare le correnti concezioni scientifiche se soltanto avesse avuto la possibilità di trasmettere quello che aveva appreso tra l'altro gli atlantidei avevano imparato a scendere l'atomo e benché l'energia sviluppata sia inferiore a quella che i nostri scienziati hanno previsto tuttavia è più che sufficiente per rifornirgli di una grande riserva elettrocinetica la loro consuetudine con il potere e l'energia dell'etere è di gran lunga superiore alla nostra e inoltre quella bizzarra trasformazione del pensiero in immagini mediante la quale noi avevamo raccontato a loro la nostra storia e viceversa era dovuta ad un'impressione eterica tradotta in termini di materia ma nonostante tutto questo e a dispetto delle loro conoscenze c'erano alcune questioni connesse con il moderno sviluppo scientifico che erano state trascurate dai loro antenati fu proprio Scanlan a darne palese dimostrazione per settimane lo vedemmo in uno stato di eccitazione a stento controllata come se stesse custodendo qualche importante segreto e sorrideva in continuazione fra se seguendo i propri pensieri in quel periodo lo vedevamo raramente perché era indaffratissimo in compagnia del suo nuovo amico e confidente Berbricks un grasso e simpatico atlantideo che dirigeva una parte dei congegni e delle macchine del rifugio Scanlan e Berbricks nonostante i loro rapporti si basassero principalmente sui gesti e su una comica pantomima silenziosa erano divenuti molto amici e trascorrevano parecchio tempo assieme una sera Scanlan entrò nella nostra camera con un'espressione raggiante ehi prof disse a Maracott ho un'informazione segreta da comunicare a questa gente loro ci hanno fatto vedere un po' di cose penso che anche noi si sia all'altezza di mostrargliene delle altre che ne dice di convocarli tutti domani sera per un piccolo spettacolo jazz o Charleston gli domandai ma che Charleston aspettate e vedrete gente è una trovata sensazionale ma per ora non voglio dirvi una parola di più soltanto una cosa potete scommettere su di me perché ho trovato una buona merce e voglio consegnargliela perciò la sera seguente la comunità si era riunita nel salone che ormai conoscevamo Scanlan e Bearbricks si erano sistemati sul podio sfavillanti di orgoglio uno dei due spinse un bottone e per usare un caratteristico modo di parlare di Scanlan disse glielo affido perché li sbalordisca lo chiama lo chiama esclamò una voce chiara Londra chiama le isole britanniche previsioni del tempo seguirono quindi le familiari frasi su depressioni e anticicloni prima edizione del giornale radio sua maestà il re ha inaugurato questa mattina la nuova ala dell'ospedale pediatrico di Hammersmith e avanti di questo passo nello stile familiare per la prima volta da tanto tempo ci ritrovavamo nell'atmosfera dell'Inghilterra d'ogni giorno che affrontava coraggiosamente i suoi doveri quotidiani la forte schiena piegata sotto i debiti di guerra seguirono le notizie dall'estero e quindi quelle sportive il vecchio mondo ronzava sempre uguale a se stesso i nostri amici atlantidei ascoltavano stupiti senza peraltro comprendere le parole tuttavia dopo il notiziario quando iniziò il primo programma della giornata e la banda delle guardie reali intonò la marcia di Loengrin un grido di soddisfazione e di approvazione si levò dalla folla ed era buffo vederli correre sulla piattaforma davanti allo schermo tirare le tende e cercare dietro lo schermo stesso la fonte di quella musica sì abbiamo proprio lasciato un'impronta indelebile in quella civiltà sottomarina no signore disse Scanlan più tardi non sono in condizioni di poter costruire una stazione radiotrasmittente non hanno il materiale adatto ed io non posso inventarmelo ma laggiù a casa mia ho attrezzato da solo un apparecchio a due valvole con una grande antenna ricevente in cortile proprio dietro la cordicella per stendere il bucato ho imparato a farlo funzionare per bene e a prendere qualunque emittente degli Stati Uniti è da ridere che con tutta l'elettricità che abbiamo sottomano e con i loro prodotti in fibra vetrosa che superano di gran lunga i nostri non possiamo impiantare un qualche trabiccolo per emettere un'onda radio che viaggerebbe attraverso l'acqua con la stessa facilità con cui viaggia nell'aria a momenti al vecchio Bearbricks gli prendeva un colpo quando abbiamo captato il primo segnale ma adesso è felice e la nostra radio diverrà un'istituzione permanente tra le altre scoperte dei chimici di Atlantide c'è un gas che è nove volte più leggero dell'idrogeno e che Maracott ha chiamato Levigeno è stato proprio facendo esperimenti con il gas Levigeno che abbiamo avuto l'idea di mandare in superficie notizie sulla nostra sorte mediante sfere di vetro riempite appunto di questo gas leggerissimo ho messo al corrente manda della nostra idea disse Maracott ha subito dato disposizioni agli operai che lavorano i silicati e le sfere saranno pronte in un giorno o due ma come facciamo a inviare nostre notizie gli domandai nelle sfere c'è una piccola apertura attraverso cui viene immesso il gas possiamo infilare i fogli attraverso questo foro poi questi abili artigiani chiuderanno ermeticamente i piccoli buchi sono sicuro che quando sganceremo le sfere saliranno velocemente in superficie e magari galleggeranno qua e là senza essere viste per anni questo è possibile ma tenete presente che le sfere rifletteranno i raggi del sole e sicuramente attireranno l'attenzione di qualcuno inoltre ci troviamo proprio sotto la rotta che seguono le navi in viaggio tra l'Europa e il Sud America non vedo per quale ragione se ne mandiamo su qualcuna non debbano essere ritrovate e questo caro Talbot o chiunque legga il mio resoconto è il modo in cui lo stesso giungerà nelle tue mani eppure dovevamo progettare un piano ancor più audace l'idea fu partorita dal fertile cervello del nostro amico americano sentite amici se ne uscì mentre sedevamo tranquilli nella nostra camera quaggiù è tutto stupendo le bevande sono buone e il cibo è ancora meglio e inoltre ho trovato una bambina al cui confronto quella di Philadelphia non vale un centesimo bucato ma nonostante tutto questo ci sono momenti in cui sento che vorrei vivere un'altra volta nel mio benedetto paese tutti proviamo lo stesso desiderio gli risposi ma non vedo come possiamo pensare di realizzarlo ascoltate se queste palle di gas riescono a portare in superficie i nostri messaggi forse possono portare su anche noi non sto scherzando perché ho calcolato tutto al millimetro supponiamo di prenderne tre o quattro ciascuno e di riunirle insieme in modo da ottenere un buon ascensore ci siete? nel frattempo noi ci siamo infilati i caschi di vetro e il resto della bardatura a questo punto ci sistemiamo sotto le spere e quando suona il campanello tagliamo gli ormeggi e hop là in un attimo arriviamo in superficie chi o che cosa potrebbe mai fermarci? uno squalo forse? ma che squali d'Egitto saliremo su con la velocità del lampo tanto che gli squali difficilmente si accorgeranno di noi pensaranno di aver visto tre lampi di luce e nel frattempo noi avremo acquistato una tale velocità da arrivare sparati in superficie e anzi esploderanno almeno 50 piedi più in alto vi garantisco che il bel tomo che ci vede arrivare farà bene a dire le sue preghiere ma supponiamo che sia possibile che cosa ci accadrà dopo? per l'amore di San Pietro ci penseremo quando sarà il momento tentiamo la sorte almeno oppure resteremo qui per sempre per quel che mi riguarda io taglio la corda e tento il tutto per tutto anch'io desidero tornare nel nostro mondo non fosse che per riferire i risultati delle mie ricerche ed esperienze alle società scientifiche disse Maracott soltanto con la mia presenza potrò convincere gli studiosi dell'importanza delle conoscenze che ho acquistato qui anch'io come Scanlan penso sia giusto tentare la sorte come dirò più avanti io avevo le mie buone ragioni per essere il meno entusiasta dei tre è una pazzia quello che proponete Bill senza qualcuno che ci aspetti in superficie replicai andremo alla deriva come naufraghi per morire di fame e di sete sciocchezze chi volete che ci aspetti lassù ha ragione Bill ma forse ce la caveremo disse Maracott possiamo dare l'esatta latitudine e longitudine della nostra posizione con un'approssimazione di uno o due miglia già ci caleranno una scala esclamai con una punta di amarezza scala un corno gridò Bill il capo ha ragione sentite signor Hadley in quella vostra lettera che avete intenzione di mandare al mondo accidenti mi sembra di vedere i titoli sensazionali del giornale dicevo in quella benedetta lettera scrivete che ci troviamo a 27 gradi di latitudine nord e a 28.14 gradi di longitudine ovest o qualunque altra indicazione sia più esatta ci siete? poi dite che i tre uomini più importanti della storia e cioè il grande scienziato Maracott la nuova stella della scienza Hadley e Bob Scanlan che è un poema di meccanico nonché l'orologio dei cantieri Mary Bank stanno gridando e invocando aiuto dal fondo dell'oceano mi seguite? bene e dopo e dopo tocca a loro è una specie di sfida che non possono ignorare qualcosa tipo Stanley che va alla ricerca di Livingstone come ho letto da qualche parte spetta a loro trovare un sistema per tirarci fuori da qui o aspettarci in superficie se decidiamo di tuffarci potremmo aiutarli proprio noi in questo disse il professore diciamo che calino uno scandaglio d'altomare in queste acque li troveremo e vi legheremo un messaggio che gli avverta di aspettarci l'avete detta giusta esclamò Bill Scanlan questa è l'unica strada da seguire e se qualche esponente del gentil sesso desidera tentare la sorte con noi andar su in quattro sarà lo stesso che salire in tre disse Maracott sorridendomi maliziosamente per restare in argomento anche in cinque è lo stesso che in quattro aggiunse Scanlan ma per ora lasciamo perdere signor Hadley intanto scriviamo la lettera e fra sei mesi vedrete che saremo un'altra volta sul Tamigi e così adesso lanciamo le nostre sfere in quell'acqua che per noi è come l'aria per la gente del mondo i nostri due palloncini se ne andranno su verso l'alto si perderanno strada facendo è possibile o possiamo sperare che almeno uno raggiunga la superficie li abbandoniamo in grembo agli dèi se non potrà essere fatto nulla per la nostra sorte almeno quelli che stanno in pena per noi sappiano che in ogni caso siamo sani e salvi se al contrario questo messaggio giungerà a destinazione e sarà possibile radunare mezzi e denaro per il nostro salvataggio abbiamo indicato il modo per attuarlo nel frattempo addio così finiva la narrazione contenuta nella sfera di vetro questo resoconto è una cronaca dei fatti e fornisce una spiegazione fino al momento in cui lo stesso racconto venne ripescato e tuttavia mentre il manoscritto si trovava ancora nelle mani del tipografo sopravvenne un epilogo della vicenda quanto mai sorprendente e inaspettato mi riferisco al salvataggio degli ardimentosi esploratori ad opera dello yacht a vapore Merion di proprietà del signor Faverger e alle notizie inviate da quest'ultimo via radio e captate dalla stazione delle isole di Capoverde che a sua volta le hanno ritrasmesse all'Europa e all'America tali notizie sono state redatte dal signor Kiosborne il popolare corrispondente dall'Associated Press a quanto pare subito dopo il rinvenimento del manoscritto che descriveva la situazione del dottor Maracott e dei suoi amici e il loro tentativo di raggiungere in qualche modo l'Europa venne immediatamente organizzata una spedizione di soccorso nella speranza di tentare un salvataggio il signor Faverger mise a disposizione di una squadra di soccorso il suo celebre yacht a vapore e volle partire lui stesso il Marion salpò da Cherbourg il Marion salpò da Cherbourg in giugno sostò a Southampton per accogliere a bordo il signor Kiosborne e un operatore cinematografico e fece subito rotta verso il tratto di oceano indicato dal manoscritto la località fu raggiunta il primo di luglio calarono uno scandaglio d'altomare e lentamente iniziarono a farlo scorrere lungo il fondo dell'oceano all'estremità del piombo dello scandaglio era stata appesa una bottiglia che conteneva il seguente messaggio il mondo ha ricevuto il vostro resoconto e siamo qui per aiutarvi copia del nostro messaggio viene trasmessa in continuazione dalla radio di bordo nella speranza che possiate captarlo attraverseremo lentamente il tratto di mare dove dovreste trovarvi quando vedrete questa bottiglia per favore metteteci un vostro messaggio seguiremo le vostre istruzioni per due giorni il Merion incrociò in quelle acque in ogni direzione ma senza alcun risultato il terzo giorno però una straordinaria sorpresa attendeva la squadra di soccorso una piccola sfera luminosa balzò fuori dall'acqua a poche centinaia di metri dalla nave e risultò essere un portamessaggi in fibra vetrose dello stesso tipo descritto nel resoconto di Adley dopo esser stata aperta con qualche difficoltà rivelò questo messaggio grazie cari amici apprezziamo moltissimo la vostra lealtà e il vostro spirito d'iniziativa riceviamo senza problemi il vostro messaggio radio e siamo ora in condizione di rispondervi abbiamo cercato di afferrare il cavo dello scandaglio ma le correnti lo sollevavano e lo trascinavano più in fretta del più veloce di noi che doveva vincere la resistenza opposta dell'acqua ci proponiamo di fare il nostro tentativo domani mattina alle 6 secondo il nostro computo martedì 5 luglio saliremo uno alla volta in modo da poter avvertire via radio quelli che aspettano di venire su di qualunque inconveniente si presenti ancora grazie di cuore Maracott Adley Scanlan e ora voglio concludere questa stupefacente avventura con le parole del signor Key Osborne era un mattino bellissimo e il profondo mare color zaffiro si stendeva dinnanzi a noi liscio come un lago sotto la volta gloriosa del cielo azzurro non velato dalla più piccola nube l'equipaggio del Marion si era alzato prestissimo e attendeva gli eventi con il massimo interesse più la fatidica ora delle sei si avvicinava e più cresceva la nostra ansiosa attesa il signor Faverger aveva posto una vedetta sull'albero di Prora e quando ancora mancavano cinque minuti alle sei la udimmo gridare e vedemmo che indicava un punto sull'acqua a bordo della nave ci affollammo tutti sulla murata di Prora dove riuscì ad appollaiarmi su una delle scialuppe di salvataggio dalla quale potevo avere una visuale più chiara così attraverso l'acqua tranquilla vidi salire a gran velocità qualcosa di simile ad una bolla d'argento che emergeva rapidamente dagli abissi dell'oceano arrivò in superficie a circa 200 metri dalla nave e si librò in alto sfrecciando nell'aria come uno splendido globo di vetro quindi si lasciò trasportare lontano dal vento leggero proprio come farebbe il palloncino di un bimbo assistevamo ad uno spettacolo fantastico che tuttavia ci riempì di apprensione perché era come un carico che si fosse sganciato dal suo traino in questo caso costituito dalla forza che opponeva all'acqua proseguendo il cammino a briglia sciolta fu spedito immediatamente un dispaccio radio il vostro globo è emerso vicino lo yacht ma non vi era attaccato nulla e se ne è volato lontano nel frattempo era stata calata in mare una scialuppa per essere pronti ad ogni eventualità qualche istante dopo le sei la nostra vedetta avvistò un nuovo segnale e subito dopo vedi un'altra sfera d'argento che saliva dall'abisso ma con molta più lentezza della precedente quando raggiunse la superficie fluttuò in aria e tuttavia il suo peso la trattenne a fior di acqua questa sorta di zavorra era costituita da un pacco di libri carte e oggetti svariati avvolti in una custodia di pelle di pesce o zigrino fu issata a bordo lungo la murata e il recupero venne comunicato via radio mentre continuavamo ad aspettare con impazienza i successivi arrivi e non dovemmo attendere molto perché quasi subito apparve un'altra bolla d'argento ma questa volta la sfera scintillante eruppe alta nell'aria e vi era sospesa con nostra immensa meraviglia l'esile figura di una donna tuttavia l'impeto con cui la bolla era volata nell'aria si smorzò ben presto e poco dopo riuscimmo a farla accostare allo yacht un anello di zigrino era stato fissato solidamente attorno alla parte superiore della sfera e da questo pendevano delle lunghe corregge che erano state agganciate all'ampia cintura che cingeva la vita sottile della donna il suo busto era coperto da un singolare rivestimento di vetro a forma di campana io lo chiamo vetro ma era la stessa dura sostanza vetrosa e trasparente di cui era fatta la sfera come ho detto era quasi trasparente salvo le striature d'argento che screziavano quel misterioso materiale questa campana protettiva di vetro era dotata di chiusure elastiche che si agganciavano alla vita e sulle spalle rendendola perfettamente impermeabile e come scritto nel resoconto di Adley era fornita di un nuovissimo ma assai pratico apparecchio per la respirazione con qualche difficoltà riuscimmo a togliere questa guaina protettiva e la donna salì sulla murata poi svenne ma il suo respiro regolare ci incoraggiò a sperare che si sarebbe presto ripresa dagli effetti del rapido viaggio e soprattutto del repentino cambio di pressione peraltro lo sbalzo di pressione era stato attutito dalla miscela d'aria dentro la guaina vetrosa miscela assai più densa dell'aria che risperiamo noi così che si può dire che abbia sostituito quella sosta prima dell'emersione che i nostri palombari sono abituati a fare per evitare l'embolia presumibilmente doveva trattarsi della donna di Atlantide cui faceva riferimento Adley nel suo manoscritto Mona cioè e se la si doveva considerare come campione della sua gente allora era una razza degna di riprendere il suo posto sulla terra era di carnagione scura con lineamenti deliziosamente puri e minuti lunghi capelli neri e splendidi occhi castani che si guardavano intorno con un'espressione di incantevole stupore conchiglie e madreperla ornavano la tunica color crema e impreziosivano la sua capigliatura bruna non si sarebbe potuto immaginare una più perfetta naide dell'abisso vera e profonda personificazione del mistero e della malia dell'oceano lentamente la conoscenza tornava in quegli occhi meravigliosi e allora balzò in piedi improvvisamente con la grazia di una cerbiatta e cominciò a correre lungo il ponte dello yacht gridando Cyrus Cyrus il nome del signor Hadley immediatamente avvertimo gli altri che intendevano di salire con un messaggio radio e così li rassicurammo poco dopo in rapida successione emersero Maracott e i suoi amici volando in alto per 10 o 12 metri e ricadendo poi in mare di dove li ripescammo in breve tempo erano svenuti tutti e tre e Scanlan perdeva sangue dal naso e dalle orecchie ma entro un'ora riuscirono a reggersi in piedi anche se barcollando ognuno fece allora la cosa più congegnale alla sua natura Scanlan fu trasportato al bar dello yacht da un gruppo di persone che ridevano rumorosamente e da là sentimmo nuove grida ad allegria a spese del rifornimento di liquori il professor Maracott afferrò il fascio di carte e di libri ne tolse uno composto interamente di simboli algebrici almeno per quanto riuscissi a vedere e scomparve sotto coperta mentre Cyrus Hadley si precipitava dalla sua strana ragazza che stando alle ultime notizie sembra non voglia lasciarlo un solo attimo questo è quanto è accaduto adesso speriamo che la radio di bordo di limitata potenza riesca a trasmettere queste notizie sino alla stazione di Capoverde maggiori dettagli di questa straordinaria avventura saranno forniti in seguito come è uso dagli stessi protagonisti 6 ad un passo dalla morte in molti hanno scritto a me Cyrus Hadley borsista ad Oxford al dottor Maracott e persino a Bill Scanlon dopo le nostre incredibili avventure sul fondo dell'Atlantico a 200 miglia sud ovest delle Canarie abbiamo effettuato un'immersione che ci ha portato non solo a modificare le nostre idee sulla vita sottomarina e sulla pressione dell'acqua ma ci ha anche consentito di scoprire l'esistenza di un'antica civiltà sopravvissuta in condizioni ambientali proibitive in queste lettere ci viene chiesto con insistenza di dare altri particolari della nostra impresa devo precisare che il documento da meredatto pur abbastanza esauriente circa la descrizione degli avvenimenti è tuttavia incompleto ci sono esperienze infatti che non ho citato prima fra tutte quella che riguarda il Signore delle Tenebre quest'ultima avventura implicava una sequenza di circostanze e argomentazioni di natura talmente straordinaria che tutti insieme decidemmo di non darne comunicazione fino ad oggi poiché la scienza ha ormai tratto le proprie conclusioni e poiché la società mi sia concesso di aggiungere ha accettato mia moglie decretando l'autenticità di quanto abbiamo riferito possiamo anche avventurarci a raccontare avvenimenti che in un momento diverso avrebbero potuto alienarci la simpatia dell'opinione pubblica prima di narrare però quella terribile avventura vorrei citare alcuni ricordi di quei mesi stupendi vissuti nel mondo sepolto di Atlantide i cui abitanti grazie alle campane di vetro che forniscono loro l'ossigeno riescono a passeggiare sul fondo oceanico con la stessa facilità con cui i londinesi che adesso scorgo dalle mie finestre dell'Ide Park Hotel se ne vanno a spasso tra le aiuole quando dopo l'angosciosa discesa nell'abisso fummo accolti dagli Atlantidei la nostra condizione ricordava assai più quella dei prigionieri che non quella degli ospiti ma cambiò col tempo e lo voglio ricordare soprattutto grazie alla genialità del dottor Maracott perché riuscimmo a conquistarci una tale stima che gli amici di Atlantide parleranno di noi nei loro annali come di un'apparizione del cielo della nostra partenza essi non sapevano nulla e sono certo che avrebbero cercato di ostacolarla in qualunque modo se solo ne fossero venuti a conoscenza sicché la leggenda che ci circonda si è arricchita di un altro elemento e per i nostri amici abbiamo sicuramente fatto ritorno verso qualche sfera celeste portandoci dietro il fiore più dolce e più prezioso del loro giardino ma ora desidero riferire con ordine quanto di strano abbiamo conosciuto in quel mondo di prodigi e di quali altre avventure fumo protagonisti prima di giungere la più sconcertante quella che ha lasciato in noi un ricordo incancellabile e cioè l'arrivo del Signore delle Tenebre mi capita talvolta di pensare che avremmo dovuto fermarci più a lungo nell'abisso di Maracot per trovare una spiegazione ai tanti misteri di laggiù in fondo stavamo imparando il loro linguaggio eravamo quindi sulla buona strada per imparare anche molte altre cose l'esperienza aveva insegnato a questo popolo a discernere il bene dal male un giorno lo ricordo ancora ci fu un improvviso allarme e noi con le nostre campane di vetro corremmo fuori sul fondo marino pur non sapendo quale fosse la ragione che ci spingeva a precipitarci in quel modo e che cosa si dovesse fare l'unica cosa comprensibile in quella situazione era il terrore e lo sconcerto sui visi dei nostri amici quando arrivammo sulla spianata incontrammo un gruppo di minatori greci che si affrettavano verso la porta del rifugio erano tanto affannati ed esausti che incespicavano e cadevano continuamente nella melma ci fu chiaro allora che noi facevamo parte di una squadra di soccorso che aveva lo scopo di aiutare quei poveretti a raggiungere l'entrata ma nessuno aveva con sé armi o altro per tener testa al pericolo incombente i minatori vennero condotti nel rifugio e quando anche l'ultimo ne ebbe varcato l'ingresso ci voltammo a guardare il luogo che avevano appena lasciato tutto ciò che si riuscì a scorgere furono due piccole nuvole verdognole lucenti al centro e sfrangianti lungo i bordi le quali più che muoversi nella nostra direzione sembravano fossero trascinate dalla corrente quella visione nonostante le nubi si trovassero a circa mezzo miglio di distanza provocò nei nostri compagni tanta paura che si affrettarono ad entrare senza altri indugi la tensione di fronte a quella calamità era palpabile e si allentò soltanto quando sentimmo le grandi pompe della camera stagna entrare in funzione sopra l'architrave dell'ingresso c'era un blocco di cristallo trasparente lungo dieci piedi e spesso due da dove si poteva osservare l'esterno grazie alle potenti luci che vi erano state installate furono portate per l'occasione due scale sulle quali salimmo per poter guardare attraverso quella rudimentale finestra vedi allora che le due piccole nubi verdi e luminose si erano fermate proprio davanti all'ingresso a quella vista gli atlantidei emisero balbettii di terrore e subito dopo una di quelle due indistinte formazioni si accostò con un guizzo alla finestra di cristallo con sveltezza i miei compagni mi spinsero giù al di sotto del livello della finestra ma confuso e maldestro non nascosi del tutto i capelli al malefico influsso emanato da quelle misteriose creature sicché parte di essi in canutì e tali sono rimasti per qualche tempo gli atlantidei non osarono aprire la porta quando finalmente si decisero a mandar fuori un esploratore questi uscì tra strette di mano e pacche sulle spalle come se fosse sul punto di compiere un'azione ardimentosa al ritorno dalla sua ispezione riferì che la zona era libera e il pericolo era passato la comunità tornò allora alla consueta allegria e il misterioso episodio fu dimenticato ci riuscì soltanto di comprendere che praxa parola che essi ripetevano con orrore era il nome di quelle creature l'unico a rallegrarsi di quel misterioso incontro fu naturalmente il dottor Maracott che volentieri avrebbe sfidato la sorte per saperne di più se non gli avessimo impedito di uscire con tanto di rete e vaso di vetro è una nuova forma di esistenza fu il suo commento in parte organica e in parte gassosa ma senza il condubbio intelligente è un mostro fuggito dall'inferno fu invece l'empirica conclusione di Scanlan due giorni dopo durante una spedizione per la pesca dei gamberetti mentre camminavamo in mezzo alla flora sottomarina catturando con reticelle certi esemplari di pesci di piccole dimensioni scorgemmo all'improvviso il corpo di uno dei minatori che doveva essere stato colto di sorpresa dalle misteriose creature il casco di vetro era frantumato e solo una forza straordinaria avrebbe potuto arrivare a tanto se si considera la notevole resistenza della fibra vetrosa con cui vengono realizzate ricordo al proposito l'enorme fatica affrontata per liberare il mio manoscritto dal suo contenitore ebbene il corpo di quello sventurato era intatto mentre gli occhi gli erano stati strappati gusti davvero raffinati ironizzò il dottor Maracott quando tornamo in Nuova Zelanda vive una particolare specie di falco che uccide gli agnelli soltanto per mangiarsi il grasso che trova sopra il rene similmente questa creatura uccide l'uomo per mangiarne gli occhi ovunque si tratti di terra o di mare la natura non conosce ahimè che una legge la crudeltà più efferata esempi e conferme di questa terribile legge ne abbiamo avuti molti nelle profondità dell'oceano ricordo per esempio che avevamo sovente notato uno strano solco sulla soffice melma batiale come di un barile che vi fosse stato rotolato ci rivolgemmo ai nostri amici per sapere di quale animale si trattasse nel pronunciare il suo nome essi emisero suoni metallici assai particolari e tipici della loro lingua difficilmente riproducibili per noi tuttavia penso che Crixcock potrebbe essere un'approssimazione sufficientemente fedele riguardo alla sua forma si ricorreva sempre in questi casi alla materializzazione del pensiero grazie alla quale i nostri amici potevano darci un'idea esatta di quel che avevano in mente e anche quella volta vedemmo apparire sullo schermo luminoso un animale fuor dell'ordinario che il dottor Maracott definì una lumaca di mare una gigantesca lumaca di mare aveva infatti un corpo enorme a forma di salsiccia tutto ricoperto da una fitta peluria e occhi sporgenti in cima a due tentacoli gli atlantidei manifestarono con gesti molto eloquenti l'orrore e la ripugnanza che quella bestia suscitava in loro ma questo come può facilmente intuire chiunque abbia l'avventura di conoscere il dottor Maracott non fece che accendere il suo interesse scientifico rendendolo quanto mai desideroso di stabilire l'esatta specie e sottospecie di quel mostro sicché quando uscimmo di nuovo in perlustrazione non mi sorprese vederlo fermarsi proprio nel punto in cui apparivano nitide le orme dell'animale e infilarsi poi con decisione nell'intrico delle alghe e massi basaltici da cui la lumaca sembrava essere sbucata allontanandoci dalla piana fangosa le orme ovviamente scomparvero tra le rocce però scorgemmo una gola naturale che doveva con ogni probabilità condurre alla tana del mostro ognuno di noi era armato con uno di quei bastoni accuminati che gli atlantidei erano soliti portare con sé ma a dire la verità mi sembravano del tutto inadeguati ad affrontare pericoli di cui non conoscevamo la portata d'altronde visto che il dottor Maracott continuava a procedere con fatica ma senza alcuna esitazione non ci restava altro da fare che seguirlo la gola rocciosa si protendeva verso l'alto tra cumuli enormi di detriti dai quali spiccavano formazioni di lamellaria di color nero e rosso e che sono caratteristiche degli abissi oceanici migliaia di bellissime ascidie e di echinodermi dai vivaci colori e dalle forme più fantasiose facevano la loro apparizione in mezzo alla rigogliosa vegetazione brulicante di singolari crostacei e di altre minuscole forme di vita il nostro procedere era lento e faticoso come lo è sempre il camminare sul fondo marino e irregolare all'improvviso ci apparve proprio l'animale che stavamo cercando e il suo aspetto non era certo dei più rassicuranti soltanto metà del suo corpo sporgeva dalla tana o una cavità dentro un cumulo di detriti di basalto sarà stato almeno di cinque piedi quel corpo peloso gli occhi gialli erano luminosi come agate e nel sentirci avvicinare si muovevano lentamente sui lunghi peduncoli poi con altrettanta lentezza l'animale simile ad un enorme bruco cominciò a muoversi fino a quando il suo grosso corpo uscì del tutto dalla tana e quando infine sollevò la testa a circa quattro piedi dalle rocce per poterci meglio vedere mi accorsi che aveva ai lati del collo protuberanze che curiosamente facevano venire in mente le suole delle scarpe da tennis sia per il colore che per la forma quale fosse la loro funzione mi era in quel momento inutile dirlo del tutto ignoto ma fu proprio l'animale a risolvere ben presto quell'inquietante interrogativo il dottor Maracott continuò a procedere con determinazione impugnando la sua asta cuminata era evidente che la voglia di catturare quell'esemplare raro aveva cancellato la paura Scanlan ed io al contrario non potevamo dire di essere altrettanto sicuri del nostro coraggio ma non avevamo cuore di abbandonare il vecchio amico sicché ci mettemmo al suo fianco il mostro ci guardò a lungo poi cominciò a strisciare rasente il pendio avanzando tra le rocce lento e goffo e sollevando gli occhi peduncolari per seguire i nostri movimenti si muoveva con una tale lentezza che pensavamo di trovarci ad una distanza più che sicura non sapevamo che ci trovavamo invece ad un passo dalla morte fu di sicuro la provvidenza salvarci mandandoci un segno quella bestia continuava ad avanzare pesantemente si trovava ormai ad una distanza di circa 60 yard quando dalla selva di alghe proprio dalla parte della gola dove ci trovavamo noi salto fuori un grande pesce nuotava calmo attraverso la gola raggiunto il punto centrale a metà strada fra noi e l'animale lo vedemmo sussultare violentemente rovesciarsi sul ventre e infine precipitare stecchito sul fondo del burrone in quello stesso in quello stesso momento fummo assaliti tutti e tre da un insopportabile prurito in tutto il corpo e da una grande debolezza il vecchio maracot ardimentoso sì ma anche prudente si rese subito conto che il dado era ormai tratto l'animale che avevamo di fronte uccideva la preda emanando scariche elettriche contro le quali i nostri bastoni accuminati erano altrettanto inservibili che se avessero dovuto affrontare una mitragliatrice senza il providenziale arrivo di quel povero pesce avremmo rischiato di essere a nostra volta colpiti da una micidiale scarica elettrica che ci avrebbe senz'altro mandati arrosto tagliamo la corda quanto più rapidamente ci fu possibile con il fermo proposito di lasciare al suo destino la lumaca elettrica questi in verità non sono che alcuni dei pericoli più temibili che si possono incontrare nelle profondità oceaniche l'Hydropsferox è senz'altro un altro terribile abitante di quelle profondità ed è stato il dottor Maracott a dargli questo nome si tratta di un pesciolino rosso non più lungo di una ringa ma con una grande bocca ed un'amicidiale chiostra di denti di solito innocuo diventa ferocissimo alla vista anche della più lieve traccia di sangue e a quel punto per le sue vittime non c'è più alcuna speranza la loro sorte è di venire divorate da torme di minuscoli aggressori ci capitò di assistere una volta nella miniera di carbone ad uno spettacolo ripilante uno schiavo si tagliò per sua disgrazia ad una mano ed ecco che all'improvviso una miriade di questi pesci lo assalì l'infelice si dibattè inutilmente e in vano i suoi compagni inorriditi si affannarono a cacciar via gli aggressori con pale e picconi la parte inferiore del suo corpo quella non protetta dalla guaina sparì sotto i nostri occhi divorata da una ribollente e feroce nuvola di pesci quello che un istante prima era un uomo si era trasformato in un'informe massa sanguinante da cui affioravano le ossa e non restarono che quelle un minuto più tardi dalla cintola in giù sul fondo marino giaceva infine un uomo ridotto per metà a scheletro la visione era talmente raccapricciante che ci sentimmo male perfino il duro Scanlan non resistette e cadde a terra privo di sensi faticammo non poco a riportarlo al rifugio sarà meglio precisare però che gli spettacoli cui ci capitò di assistere non erano sempre così cruenti e ce n'è uno che di certo non dimenticheremo mai l'occasione fu al solito una di quelle escursioni che ci piaceva spesso tentare talvolta sotto la guida di qualche Atlantideo e altre volte invece per conto nostro quando i nostri amici ritenevano che non avessimo bisogno di una sorveglianza continua stavamo dunque percorrendo ancora una volta la zona del fondale che ci era ormai familiare quando non senza sorpresa ci accorgemmo che un gran tratto di sabbia di un pallido color giallo con un'estensione di circa mezzo acro era stato spianato e appariva diverso rispetto a come lo avevamo visto durante la nostra precedente escursione ci stavamo chiedendo quale corrente sottomarina o movimento sismico potesse aver prodotto un simile fenomeno quando esterrefatti vedemmo qualcosa sollevarsi e nuotare con lente ondurazioni sopra le nostre teste si trattava di un pesce dalle proporzioni così vaste che ci vollero un paio di minuti prima che ci superasse del tutto era una sogliola enorme non dissimile a detta di Maracott dal pesce che tutti conosciamo con questo nome ma dalle dimensioni di gran lunga superiori l'esemplare si era sviluppato fino a quel punto grazie probabilmente all'abbondantissimo nutrimento fornito dai depositi battiali si perdette poi nell'oscurità sopra di noi come una baluginante massa gialla e bianca sottraendosi definitivamente alla nostra vista un altro fenomeno assai singolare e frequente a quelle profondità è rappresentato dai tornado sembra che abbiano origine dall'arrivo periodico di correnti sottomarine e che si scatenino senza alcun preavviso da un momento all'altro la loro forza è devastante e ricorda quella degli uregani che si verificano sulla terra ma è soltanto grazie a loro che non vi è ristagno e putridume fanno dunque parte di quei processi naturali che svolgono una funzione positiva viverne l'esperienza però è parecchio inquietante la prima volta che mi imbattei in un tornado mi trovavo in compagnia di quella cara ragazza Mona figlia di Manda di cui ho già parlato c'era un angolo bellissimo ad un miglio circa dal rifugio ricco di alghe dai molteplici e accesi colori quello era il giardino speciale di Mona e lei lo amava tantissimo era un viluppo rigoglioso di serpularie o fiori di eoloturie dalle sfumature rosa rosse e violette quel giorno Mona aveva voluto portarmi con sé perché lo vedessi anche io e proprio mentre ammiravamo quella meraviglia si scatenò un tornado una corrente fortissima ci aggredì e riuscimmo a sottrarcene riparandoci dietro le rocce stretti l'uno all'altra osservai in quell'occasione che la corrente era calda un calore appena sopportabile da un essere umano ciò era una dimostrazione del fatto che tali fenomeni sono di origine vulcanica e la conseguenza di qualche sconvolgimento sottomarino avvenuto in lontanissime regioni oceaniche il fondale della grande pianura venne sconvolto dall'impeto della corrente e si fece buio per via delle spesse nuvole di sabbia e detriti sospesi nell'acqua trovare la via del ritorno sembrava impossibile perché avevamo perso l'orientamento e in ogni caso sarebbe stato molto arduo affrontare la furia degli elementi inoltre a peggiorare la situazione cominciamo ad avvertire i sintomi tipici della mancanza di ossigeno ovvero pressione al petto e difficoltà di respiro è in queste circostanze quando si sente vicina alla morte che le grandi passioni primarie prevalgono su ogni altro sentimento fu solo in quell'istante infatti che seppi con certezza di amare la mia gentile compagna l'amavo con tutto me stesso un amore tanto profondo da sentirlo come parte della mia stessa vita ma che strana cosa è l'amore e quanto inesplicabile non era per il suo viso la sua figura per quanto bellissimi e nemmeno per la sua voce così musicale ed unica non era nemmeno la nostra intesa spirituale che ci consentiva di capire i nostri sentimenti guardandoci semplicemente negli occhi no era qualcosa che stava al di là dei suoi sognanti occhi scuri qualcosa di indistinto di ancestrale ecco quello era l'inesplicabile quello l'amore che ci avrebbe uniti per sempre le presi una mano e la tenni fra le mie dall'espressione del suo viso dal delicato rossore che le imporporava le guance capì che non c'era un mio pensiero una mia emozione che lei non percepisse accanto a me non avrebbe avuto paura della morte a quel pensiero il mio cuore fece un balzo nel petto ma non era questo il nostro destino le nostre protezioni di vetro pur escludendo i suoni consentono invece che le vibrazioni vi possano penetrare anche attraverso l'impatto con il vetro stesso ebbi dunque la percezione di un forte colpo un clangore un eco lontana di gong non avevo idea di che cosa si trattasse mentre la mia compagna non sembrava avere dubbi senza lasciare la mia mano ella uscì dal rifugio e si fermò come in ascolto poi curvandosi cominciò ad avanzare nella tempesta era una lotta contro la morte il dolore al petto si faceva sempre più intollerabile vedi il suo volto amato voltarsi e scrutare ansiosamente il mio cercavo di seguirla ma barcollavo era chiaro dal sospetto e dai movimenti che la sua riserva di ossigeno era in condizioni migliori della mia cercai di resistere finché la volontà e la natura me lo consentirono poi tutto intorno a me presi a girare vorticosamente caddi svenuto sul torbido fondo dell'oceano quando ripresi i sensi ero sdraiato sul mio letto nel palazzo di atlantide il vecchio sacerdote dalla tunica gialla se ne stava accanto a me tenendo in mano una fiala di qualche sostanza stimolante maracot e scanlan sconvolti erano chini su di me mentre mona il bel volto teso dall'ansia era inginocchiata ai piedi del letto quella coraggiosa fanciulla era riuscita a raggiungere la porta della comunità che in simili occasioni usava suonare un grande gong perché guidasse coloro che avevano smarrito la strada dopo aver dato rapide spiegazioni aveva guidato la squadra di soccorso alla quale presero parte anche i miei due compagni ed ero stato infine portato in salvo mona mi ha salvato la vita quello che sono e che farò lo dovrò a lei per sempre ora che il miracolo è avvenuto e mona è qui con me sulla terra tra gli uomini provo tenerezza al pensiero che per amor suo sarei rimasto per sempre laggiù negli abissi mi ci volle molto tempo prima di riuscire a spiegarmi il profondo legame che ci univa da entrambi vissuto tanto intensamente fu manda suo padre a fare chiarezza con una spiegazione tanto inaspettata quanto convincente aveva sorriso della nostra storia d'amore con l'aria indulgente e divertita di chi vede la realizzazione di qualcosa che aveva già previsto allora un giorno mi prese da parte e mi condusse nella sua stanza dove aveva fatto sistemare lo schermo sul quale proiettare i suoi pensieri mai finché avrò vita potrò dimenticare ciò che egli mostrò a mona in me seduti l'uno accanto all'altra mano nella mano guardavamo come ipnotizzati le immagini che si andavano formando davanti ai nostri occhi frutto della memoria del passato che il popolo di Atlantide ha coltivato e coltiva ancora protesa su uno splendido oceano blu apparve una penisola rocciosa non ricordo se ho già detto che in questo cinema del pensiero se mi è consentita l'espressione i colori sono realistici quanto le forme vi era su quel promontorio una bella casa ampia dall'architettura curiosa con mura bianche ed il tetto rosso tutta circondata da palme al centro di quella fitta vegetazione mi parve di scorgere una sorta di accampamento si indistinguevano infatti delle tende bianche e qua là uno scintillio di armi come di qualche sentinella che montava la guardia fuori dai palmizi c'era un uomo di mezza età che indossava un'armatura egli reggeva con una mano uno scudo scintillante mentre nell'altra stringeva una spada quando si volse verso di noi notai subito che apparteneva alla stessa razza degli atlantidei se non fosse stato per i lineamenti duri e minacciosi del volto mi sarebbe sembrato addirittura il fratello maggiore di manda dava l'impressione di essere un uomo brutale per istinto ma non privo di intelligenza e io credo che la brutalità e l'intelligenza siano di certo la più pericolosa delle combinazioni quel volto incorniciato dalla barba la fronte alta e il sorriso sardonico suggerivano l'immagine stessa del male se quell'uomo era un'incarnazione precedente di manda e i suoi gesti sembravano confermarlo la sua anima ma non l'intelligenza era allora profondamente cambiata egli si avvicinò alla casa e una donna ne uscì andandogli incontro abigliata come una greca ella indossava una lunga tunica bianca che le aderiva al corpo mai posso dire di aver visto abito più semplice e insieme più elegante di questo il suo era un atteggiamento di rispetto e di sottomissione come di una figlia nei confronti del padre ma egli la respinse selvaggiamente levando una mano come per colpirla la fanciulla indietreggiò e in quel momento il sole le illuminò il bel viso rigato di lacrime quella fanciulla era Mona lo schermo si oscurò e subito dopo apparve l'immagine di una piccola insenatura rocciosa sicuramente un angolo della penisola che avevamo appena visto in primo piano una barca dalle estremità appuntite era notte e la luna luminosa si rifletteva nell'acqua le stelle brillavano in cielo le stesse stelle che appartengono al nostro come al mondo di Atlantide con lentezza e circospezione la barca stava approdando due uomini si occupavano dei remi un altro se ne stava a prua avvolto in uno scuro mantello giunti in prossimità della riva l'uomo si alzò in piedi e si guardò attorno con espressione vigile il suo volto nel chiarore lunare mi apparve pallido ed austero a quella vista Mona afferrò la mia mano e manda non poter trattenere un'esclamazione quanto a me mi sentii percorso da un brivido e ne avevo ben ragione perché quell'uomo ero io sì io Cyrus Hadley di New York e di Oxford io il prodotto più recente della cultura moderna avevo fatto parte di questa grande civiltà del passato ora finalmente ero in grado di spiegarmi perché mi erano parsi tanto familiari i simboli e i geroglifici che avevo visto in quella mia avventura ora capivo perché tante volte avevo frugato nella mia memoria come chi si sente di essere sul punto di scoprire qualcosa di straordinario qualcosa che attende di venire alla luce e che pure continua a sfuggire e mi spiegavo anche quel profondo moto dell'anima che avevo provato incontrando Mona quel legame così radicato nel mio inconscio affondava le sue radici in dodicimila anni di storia nel momento stesso in cui la barca arrivò a riva sbucò dai cespugli una luminosa figura bianca protesi le braccia verso di lei e la strinsi a me dopo quel rapido abbraccio la sollevai e la feci salire sulla barca ma un pericolo era in agguato con gesti frenetici incitai i vogatori ad affrettarsi ma troppo tardi fuori da quei cespugli si slanciarono alcuni uomini e si avventarono sulla barca cercando di trattenerla in vano tentai di liberarmi di loro un'ascia balenò nell'aria e si abbattì sulla mia testa caddi riverso sulla fanciulla bagnandole con il mio sangue e la sua veste bianca lei urlò di terrore il suo sguardo era sconvolto il suo viso contratto il padre la ferrò per i lunghi capelli e la trascinò via da sotto il mio corpo così si chiuse quella scena dopo la dissolvenza si presentò l'immagine del rifugio il palazzo dove adesso ci trovavamo costruito da colui che volle trovare riparo nel giorno del giudizio di nuovo vidi gli abitanti di atlantide in preda al terrore e ancora mona in compagnia di suo padre orientato ormai verso vie più sagge poiché si trovava fra coloro che riuscirono a salvarsi vidi un'enorme stanza oscillare come una nave in mezzo all'uregano mentre i rifugiati al colmo della disperazione si aggrappavano ai pilastri o stramazzavano a terra seguì un terribile rollio e il rifugio sprofondò inghiottito dalle onde ancora una volta le immagini sfumarono fino a sparire manda si voltò verso di noi sorridendo a indicare che la proiezione era finita sì tutti noi avevamo vissuto altre vite manda mona ed io e altre ancora ne vivremo nella lunga catena delle reincarnazioni avevo assistito alla mia morte in un mondo remotissimo e chissà in quanti altri mondi ero vissuto e morto manda e mona avevano trovato la morte negli abissi e proprio negli abissi il loro destino cosmico era stato progettato per un attimo avevamo avuto il privilegio di sollevare un lembo del misterioso velo della natura e coglierne un fugace lampo di verità ogni esistenza non è che un capitolo nella storia che Dio ha concepito non possiamo giudicarne la saggezza o la giustizia fino a quando nel giorno supremo potremo finalmente dall'alto della nostra conoscenza guardare al passato e distinguere le cause dagli effetti e le azioni dalle reazioni nel corso delle infinite vicende del tempo e forse fu la scoperta di questo nuovo e straordinario rapporto con il passato che salvò noi tutti qualche tempo dopo da una situazione imbarazzante durante l'unico serio contrasto che mai si sia verificato con i nostri ospiti per noi sarebbe finita male se non fosse intervenuto qualcosa di molto importante che attirò l'attenzione di tutti e ci fece conquistare per sempre la loro stima un mattino se così si può chiamare in un ambiente in cui il tempo veniva scandito solo dalle nostre occupazioni il dottor Maracott e Dio scendemmo nella nostra ampia sala comune in un angolo Maracott aveva ricavato un laboratorio e in quel momento era occupato a dissezionare un gastrotomo che aveva catturato il giorno precedente con la rete c'erano sul tavolo messi alla rinfusa anfipodi e copepodi con esemplari di valella iantina pisalia oltre ad un centinaio di altre minuscole creature il cui odore era di gran lunga meno gradevole del loro aspetto io ero seduto accanto a lui e studiavo una grammatica della lingua di Atlantide avevo scoperto che i nostri amici possedevano molti libri stampati in modo assai curioso da destra a sinistra su qualcosa che io pensavo fosse pergamena e che era invece vescica di pesci pressata e disseccata volevo a tutti i costi procurarmi gli strumenti che mi avrebbero permesso di impossessarmi di tanta conoscenza e impiegavo molto del mio tempo a studiare l'alfabeto e gli elementi fondamentali della lingua di Atlantide ma ecco che all'improvviso un inverosimile corteo venne interrompere le nostre serene occupazioni invadendo la nostra stanza il primo a entrare fu Bill Scanlan tutto accalorato e rosso in volto il quale agitava furiosamente un braccio mentre con l'altro e quasi non credevamo ai nostri occhi reggeva un neonato tondo e piangente dietro di lui veniva Berbriggs il tecnico di Atlantide che lo aveva aiutato a costruire l'apparecchio ricevente questi di solito Bonario e Gioviale sembrava in grandi ambasce lo seguiva una donna dai capelli biondi e dagli occhi azzurri una chiara dimostrazione di non appartenenza alla stirpe di Atlantide ma a quella schiava che risaliva agli antichi greci senta capo gridò Scanlan agitatissimo Berbriggs è un bravo ragazzo ma sta diventando completamente scemo e lo stesso si può dire di questa sottana che si è preso in moglie io penso che sia nostro dovere dargli una mano mi par di capire che lei sia considerata qui come un negro a casa mia e Berbriggs è stato proprio furbo a chiederle di sposarlo però questi sono affari suoi e non nostri ben detto Bill sono proprio affari suoi gli dissi perché si vuole immischiare ecco capo lo vede il loro bel bambino la gente qui pare che non ne voglia sapere di bambini di questa razza e i preti pensano di darlo in pasto a quel pupazzo laggiù quel forsennato di un prete era già riuscito a prendersi il bambino ma Berbriggs per fortuna è riuscito a riprenderselo ed io gli ho dato il ben servito a quel pazzo il fatto è che adesso li abbiamo tutti alla calcagna Scanlan non pote dire una parola di più interrotto da grida e passi concitati che si diressero verso di noi la porta venne spalancata e parecchi sacerdoti nella loro tunica gialla fecero irruzione nella stanza dietro di loro ne torreggiava uno austero feroce e quanto mai minaccioso fece un cenno con la mano e i suoi si spinsero in avanti per prendere il bambino ma esitarono quando videro che Scanlan adagiata la creatura sul tavolo di Maracott proprio dietro di lui afferrò uno di quei bastoni accuminati e fece l'atto di affrontarli quelli estrassero in risposta i loro coltelli mentre io e Berbriggs armati di bastone ci lanciammo in aiuto di Scanlan dovevamo incutere una certa paura perché i sacerdoti del tempio presero ad indietreggiare la situazione parve ad un tratto come sospesa signor Hadley gridò allora Scanlan gli dica che non stiamo scherzando e che non abbiamo alcuna intenzione di consegnare il bambino gli dica anche che qui ci sarà una gran rissa se non si decidono a togliersi dai piedi ah è così adesso vi do io quello che cercate quella sua ultima bordata era dovuta al fatto che il dottor Maracott aveva fondato con precisione e rapidità il suo bisturi nel braccio di uno dei sacerdoti che si era furtivamente avvicinato a Scanlan per accoltellarlo il sacerdote si era messo ad urlare e a saltellare per il dolore e la paura mentre i suoi compagni incitati dal loro capo stavano per saltarci addosso solo il cielo sa cosa sarebbe accaduto se in quel preciso momento non fossero entrati Mona e Manda quest'ultimo fissando stupefatto quella scena cominciò a fare una serie di domande al capo dei sacerdoti nel frattempo Mona corse accanto a me ed io ebbi la felice ispirazione di prendere il bimbo e di metterglielo tra le braccia decisione che il piccolo parve gradire moltissimo Manda aveva grottato la fronte visibilmente perplesso rimandò al tempio il sacerdote e i suoi bellicosi seguaci e diede inizio ad una lunga chiarificazione che afferrai soltanto in parte e che mi industriai di tradurre ai miei compagni bisogna consegnare il bambino dissi a Scanlan che cosa? neanche per sogno Mona si prenderà cura della madre e del piccolo allora è un altro discorso se la signorina Mona si occuperà della faccenda ne sarò felice ma se quel dannato no no lo interruppi non puoi interferire perché la questione sarà discussa dal consiglio è davvero un problema molto complicato mi pare di aver capito che il sacerdote è nel suo pieno diritto si tratta di un'antichissima tradizione di Atlantide sembra che non potrebbero fare distinzione fra la razza superiore e quella inferiore se venissero consentiti questi rapporti misti la legge dice che i bambini nati da questi rapporti devono morire non sarà così per questo bambino lui non morirà tutti noi ce lo auguriamo Bill Manda ci ha assicurato che farà il possibile per convincere il consiglio ma ci vorrà una settimana forse due prima che si riunisca fino a quel momento il bambino sarà al sicuro e chissà che altro succederà nel frattempo già come potevamo prevedere quello che sarebbe accaduto chi avrebbe potuto anche solo sognare quello che successe poi ma questa è materia per il prossimo capitolo 7 il signore dal volto tenebroso ho già detto che a breve distanza dal rifugio sotterraneo degli Atlantidei progettato e costruito prima che il cataclisma si abbattesse sulla loro terra natale si trovavano le rovine di quella grande città di cui i sopravvissuti avevano fatto parte ho inoltre raccontato come indossando le campane di fibra di vetro e dotate di apparecchio respiratore avessimo visitato il posto e mi sono sforzato di comunicare la profonda impressione che provammo aggirandoci tra i resti di quella civiltà ma le parole non possono descrivere la straordinaria impressione che ci fecero quelle colossali rovine gli enormi pilastri scolpiti e i giganteschi edifici che giacevano immobili e silenziosi nella fosforescente luce grigia dell'abisso e in quella quiete soprannaturale si muovevano soltanto le lunghe alghe ondeggianti nelle correnti sottomarine o l'ombra di qualche enorme pesce che attraversava i battenti spalancati o fluttuava nelle stanze abbandonate ci piaceva molto recarci tra le rovine della città e sotto la guida del nostro amico Manda trascorremmo parecchio tempo studiando le strane architetture e gli altri ruderi di quella civiltà scomparsa che pure dimostrava di aver sorpassato la nostra almeno per quel che potevamo dedurre dai suoi resti tuttavia la loro superiorità in tante conquiste tecniche e materiali fondamentalmente si limitava a questo infatti scoprimo ben presto che per quanto concerneva allo sviluppo e l'evoluzione spirituali un abisso ci separava da loro la grande lezione che avevamo appreso dalle vicende di Atlantide dalla sua scesa alla sua decadenza era proprio questa che il più grande pericolo per una nazione è rappresentato dal privilegiare eccessivamente il progresso tecnico-scientifico a discapito dei valori spirituali questo può distruggere un'antica civiltà ed essere infine la causa della sua totale rovina avevamo notato in una zona dell'antica città sommersa un vasto edificio che doveva un tempo sorgere su una collina perché si trovava considerevolmente più in alto rispetto agli altri vi si accedeva mediante una lunga scalinata in marmo nero e lo stesso materiale era stato usato in gran parte del palazzo pur essendo ormai quasi del tutto ricoperto da un disgustoso fungo giallo un viluppo sceno e lebroso che pendeva dai cornicioni dalle architravi da ogni sporgenza della casa sopra il portale d'ingresso principale scolpita anch'essa in marmo nero c'era una terribile testa di medusa con l'orri da chioma di serpenti e questo simbolo si ripeteva continuamente sulle altre pareti in diverse occasioni avremmo voluto esplorare quel sinistro edificio ma ogni volta il nostro amico Manda aveva dimostrato una grandissima agitazione e con gesti concitati ci aveva scongiurato di desistere era evidente che fin tanto che Manda fosse stato con noi non avremmo potuto soddisfare la nostra curiosità il grande desiderio di penetrare il segreto di quel luogo inquietante una mattina Bill Scanlon ed io discutemmo della faccenda sentite disse laggiù c'è qualcosa che non vogliono farci vedere e più insistono su questo punto più mi insospettisco e mi viene voglia di vederci chiaro non abbiamo più bisogno di guide né voi né io possiamo benissimo prendere i nostri cappelli di vetro e andarcene a spasso come qualunque altro abitante poi quando saremo lontani andremo ad esplorare quel posto perché no risposi io detto che sull'argomento ero curioso tanto quanto Scanlon avete qualche obiezione domandai al professor Maracott che stava entrando in quel momento forse anche voi desiderate venire con noi per svelare il mistero del palazzo di marmo nero può darsi sia o fosse la casa della magia nera esclamò Maracott avete mai sentito parlare del signore dal volto tenebroso gli confessai di non averlo mai sentito nominare non ricordo se ho già detto che tra le altre cose il professore era anche un esperto di fama mondiale di religioni comparate e di antichi culti primitivi neanche la perduta Atlantide sfuggiva al suo prodigioso sapere la principale fonte di informazioni al riguardo è ancora una volta l'antico Egitto proseguì Maracott ed è costituita essenzialmente da quanto i sacerdoti del tempio di Sais dissero a Solone questo è il nucleo originario delle leggende in parte inventate e in parte corrispondenti al vero che si formarono successivamente e che spiritosaggini raccontarono i preti a Solone domandò Scanlan bene gliene raccontarono tante Bill ma tra le altre gli riferirono la leggenda del signore dal volto tenebroso vi confesso che sono incline a credere che questi possa essere stato il maestro del palazzo di Marmonero qualcuno dice che c'era più di un signore dal volto tenebroso ma noi ne conosciamo con sicurezza soltanto uno e chi sarebbe stato questo bell'imbusto domandò ancora Scanlan sotto tutti i riguardi era qualcosa più di un uomo sia per potere che per malvagità inoltre si racconta che proprio lui fu la causa della corruzione e della decadenza del popolo nonché della sua impietà sicché l'intera Atlantide venne distrutta come Sodoma e Gomorra esatto sembra quasi esista un punto oltre il quale le cose diventano impossibili la pazienza della natura si esaurisce e l'unica strada da imboccare è quella di dare un taglionetto e ricominciare tutto da capo questo essere dato che è difficile chiamarlo uomo si dedicava a scienze proibite ed aveva acquisito poteri magici di grande potenza avvolgendoli a scopi malvagi questa è la leggenda del signore dal volto tenebroso e spiegherebbe perché per questa povera gente la sua dimora è ancora un luogo di orrori e perché hanno paura che noi ci si avvicini al palazzo di Marmonero eppure tutto ciò mi rende ancora più desideroso di visitarlo esclamai lo stesso vale anche per me aggiunse Bill vi confesso che anche io voglio risolvere questo mistero disse il professore e non vedo che cosa potrebbe capitare di peggio ai nostri gentili ospiti se vi facciamo una piccola escursione per conto nostro dato che la superstizione impedisce loro di accompagnarci coglieremo l'occasione appena ci si presenterà e faremo così ci volle un po' di tempo prima che ci si presentasse una simile opportunità perché la piccola comunità per forza di cose viveva talmente gomito a gomito che restava ben poco spazio per l'intimità o per la segretezza eppure il momento propizio si presentò infine un mattino sempre che il nostro elementare calendario stabilisse con esattezza la notte o il giorno in cui la loro cerimonia religiosa li riunì tutti insieme distraendo la loro attenzione da noi l'occasione era troppo buona per lasciarla scappare e dopo aver assicurato i due custodi che azionavano le grandi pompe della camera stagna che andava tutto bene ci trovammo in men che non si dica soli sul letto dell'oceano e diretti all'antica città sommersa come ho già detto è difficile camminare nell'acqua salata impacciati dalla pressione e con i piedi che sprofondano nel limo anche un breve tragitto diventa faticoso ma nel giro di un'ora ci trovammo davanti al grande palazzo nero che aveva destato la nostra curiosità nonostante il disgustoso fungo che dilegava come una cancrena il palazzo era di gran lunga in migliori condizioni degli altri edifici tanto che il rivestimento di marmo non era per nulla rovinato e soltanto la mobilia l'arredamento e la tappezzeria con il tempo erano andati in rovina fino a scomparire del tutto la natura d'altra parte aveva provveduto a sostituire gli arredi originali con nuovi e orribili addobbi era un luogo cupo e tenebroso in sommo grado ma tra quelle odiose penombre stavano in agguato le forme oscene di polpi giganteschi e di strani e mostruosi pesci che sembravano usciti da un incubo ricordo soprattutto una enorme lumaca di mare color porpora che strisciava in compagnia di molti altri esemplari e tutto intorno grandi sogliole nere adagiate sui pavimenti come tappeti e sopra di esse lunghi tentacoli ondeggianti nell'acqua e rossi come fiamme vibranti dovevamo stare molto attenti ai nostri passi perché l'intero edificio era diventato il rifugio di creature orribili che potevano provarci con facilità quanto fossero micidiali c'erano corridoi riccamente decorati con piccole stanze laterali che si perdevano in lontani meandri ma il cuore del palazzo era uno stupendo salone che ai giorni della sua grandezza doveva essere stato una delle più belle stanze mai costruite da mani umane in quel cupo chiarore non riuscivamo a distinguere né il soffitto né le pareti né la loro interezza ma avvicinandoci e facendo luce con le nostre torce elettriche potemmo apprezzare le sue enormi proporzioni e le squisite decorazioni delle pareti queste decorazioni scolpite con grandissima maestria risultarono essere delle statue peraltro orribili e rivoltanti in ciò che rappresentavano riproducevano quel che la più perversa mente umana poteva aver concepito quanto a crudeltà sadica e bestiale lussuria le orribili immagini e le ancor più mostruose fantasie che suggerivano ci spiavano nella fiocca penombra o si stagliavano nitidamente nel fascio luminoso delle torce elettriche se mai il diavolo ha avuto un tempio eretto in suo onore era sicuramente questo e forse il diavolo stesso lo abitava perché ad un'estremità della sala sotto un baldacchino di metallo scolorito che avrebbe potuto benissimo essere oro su un alto trono di marmo rosso sedeva una divinità da incubo autentica personificazione del male feroce minacciosa e spietata ricordava le fattezze del Baal che avevamo visto nel tempio di Atlantide ma era infinitamente più misteriosa e rivoltante ed emanava un fascino perverso per lo straordinario vigore dell'espressione del viso ci trovavamo davanti alla statua illuminandola con le nostre torce e perduti nei nostri pensieri quando un fatto sbalorditivo assolutamente pazzesco ci riscosse dalle nostre riflessioni dalle nostre spalle giungeva il suono soffocato di una sardonica risata umana come ho già avuto modo di spiegare le campane di vetro che indossavamo generalmente escludevano ogni suono proveniente dall'esterno ne era possibile logicamente parlare o emettere altri suoni dall'interno delle campane stesse eppure quella risata di scherno risuonava chiaramente ai nostri orecchi con un balzo ci voltammo immediatamente e restammo sbalorditi per quanto vedevamo appoggiato ad uno dei pilastri della sala c'era un uomo le braccia incrociate sul petto e gli occhi malvagi fissi su di noi con un'espressione minacciosa l'ho chiamato uomo ma in verità non assomigliava nessun uomo che io avessi mai conosciuto ed il fatto stesso che potesse respirare e parlare ed esprimere chiaramente le parole a dieci chilometri sotto il mare e senza alcun rivestimento protettivo ebbene tutto ciò lo rendeva profondamente diverso da noi all'apparenza tuttavia era un essere magnifico alto non meno di due metri e quindici e costruito poterosamente con il fisico di un atleta messo in risalto da una sorta di calzamaglia che aderiva perfettamente alla sua figura e che ad un'osservazione più attenta ci sembrò di cuoio nero cerato o di pelle conciata in modo singolare il suo volto era quello di una statua di bronzo una statua modellata da qualche abile artista per infondervi tutta la potenza e la malvagità che può racchiudere un viso umano eppure le sue fattezze non erano tronfie o sensuali perché tali caratteristiche sarebbero state segno di debolezza non aveva certo l'aspetto di un debole al contrario i suoi lineamenti erano puri ben marcati forti con un naso aquilino fitte sopracciglia brune e neri occhi ardenti che risplendevano e brillavano di un fuoco interiore erano proprio quegli occhi spietati e maligni e la bocca crudele dalle labbra tese in un socchigno sardonico a conferire al suo viso un aspetto indicibilmente sinistro guardandolo si sentiva che tanto era splendido nella sua persona quanto era malvagio nel suo intimo e il suo sguardo diventava una minaccia il suo sorriso un ghigno la sua risata uno scherno bene signori disse parlando in un inglese eccellente con una voce che risuonava nitida come fossimo stati sulla terra avete vissuto una straordinaria avventura fino ad oggi e vi apprestate a viverne un'altra ancora più eccitante nel prossimo futuro benché sia a mio gradito incarico porvi termine bruscamente temo che questo sia un monologo più che una conversazione ma sono perfettamente in grado di leggere i vostri pensieri e poiché so tutto di voi non dovete temere equivoci ma avete ancora molto da imparare veramente tanto ci guardammo l'un l'altro in preda ad un totale sbalordimento era difficile trattenerci dallo scambiarci delle impressioni data l'incredibile piega che aveva preso la situazione sì è difficile continuò l'uomo sogghignando ma potrete parlare scambiarvi le impressioni al vostro ritorno perché voglio che torniate e portiate un messaggio se non fosse per questo messaggio temo che questa visita vi sarebbe stata fatale ma innanzitutto ho alcune cose da dirvi mi rivolgo a voi professor Maracott in quanto membro più anziano e presumibilmente più saggio del gruppo benché nessuno che possa definirsi saggio avrebbe fatto un'escursione proprio nella mia dimora mi sentite chiaramente vero molto bene un cenno o un piccolo gesto mi è sufficiente naturalmente sapete chi sono mi avete incontrato poco fa nessuno può parlare di me o pensare a me senza che io lo sappia nessuno può entrare in questa antica dimora il mio tempio più segreto il mio mausoleo nascosto senza che io compaia immediatamente per questo quei poveri disgraziati laggiù evitano il palazzo di marmo e volevano che anche voi fuggiste sareste stati molto più saggi se aveste seguito i loro consigli voi mi avete evocato e una volta che io sia apparso non è facile liberarsi di me la vostra mente con il suo granello di scienza terrestre si sta tormentando sul problema che rappresento come posso vivere quaggiù senza ossigeno ma io non vivo qui vivo nel mondo degli uomini lassù sotto la luce del sole vengo qui soltanto quando mi chiamano come avete fatto voi adesso io sono un essere che respira aria e c'è più aria qui che non sulla cima di una montagna anche qualcuno della vostra gente può vivere senza aria coloro che cadono in catalessi trascorrono mesi senza respirare io sono un po' come loro ma come potete osservare rimango conscio e attivo e adesso vi starete chiedendo come mai riuscite ad udirmi non è forse l'autentica essenza delle trasmissioni radio quella di viaggiare nell'aria e nell'etere allo stesso modo esprimo le mie parole con un'emissione eterica che colpisce i vostri timpani attraverso l'aria che riempie quelle rozze campane di vetro e il mio inglese spero sia abbastanza buono ho vissuto per un po' di tempo sulla terra un periodo noioso molto noioso quanto? mille diecimila anni che cosa importa? ho avuto il tempo di imparare tutte le lingue della terra il mio inglese non è migliore delle altre che conosco ho risolto qualcuno dei vostri dubbi per caso? molto bene vi posso vedere anche se non vi sento ma ora devo dirvi qualcosa di assai più importante io sono Baal dell'abisso sono il signore dal volto tenebroso colui che ha penetrato a tal punto i segreti della natura da poter sfidare la morte stessa conosco tanti misteri che anche la morte muore davanti a me forse è solo qualcosa di ancora più potente della morte potrebbe vincermi mortali non pregate mai perché vi sia risparmiata la morte può sembrare terribile ma la vita eterna lo è molto di più continuare a vivere mentre la moltitudine senza fine dell'umanità passa accanto a voi sedere al margine del cammino della storia e vederla andare vederla snodarsi infinitamente mentre voi restate indietro vi stupite che il mio cuore sia irato e amaro vi meravigliate che maledica l'insensata folla dei mortali perché non dovrei vedo che il mio odio vi stupisce dispongo di poteri straordinari posso governare le menti degli uomini sono il dominatore delle masse ovunque il male ha trionfato la io ero presente ero con gli unni quando ridussero mezza Europa in rovina ero con i saraceni quando in nome della loro religione misero a ferro e fuoco qualunque cosa gli ostacolasse ero presente la notte di San Bartolomeo giacevo accanto allo schiavo traditore fui io a far bruciare diecimila vecchie che quei pazzi chiamavano streghe fui io a scatenare la folla che insanguinò le strade di Parigi bei tempi quelli ma sono migliori gli anni della rivoluzione russa perché anche là ero presente peraltro mi ero quasi dimenticato di questa colonia di topi di mare che si sono scavati una tana sotto il fango e non conservano che l'ombra dell'arte e dei miti di quel grande continente che fiorì sotto il sole come mai altri ne sorsero voi avete fatto sì che io mi ricordassi di loro siete voi che mi avete chiamato perché questa mia antica dimora mediante le vibrazioni di cui la vostra scienza non sa nulla è ancora legata all'uomo che la costruì e che l'amo ho saputo subito che voi eravate qui mi avete evocato ed eccomi qua ora dato che mi trovo qui ed è la prima volta da migliaia di anni il palazzo di marmo nero mi ha ricordato che devo occuparmi di Atlantide il loro tempo sta per finire anche per loro è giunta l'ora dell'addio essi discendono dall'uomo il cui potere sfidò e vinse la mia forza e che fece costruire per loro quest'arca di salvezza per sfuggire alla catastrofe che tutto distrusse fuorché me e questi pochi sopravvissuti il suo sapere li salvò dalla morte e il mio potere preservò me stesso ma adesso la mia potenza distruggerà coloro che lui salvò e la vicenda sarà conclusa mise una mano dentro l'abito nero e ne strasse un manoscritto lo consegnerete al capo di quei topi di mare disse mi dispiace che da gentiluomini quali siete dividerete il loro destino ma poiché siete la causa prima della loro disgrazia dopo tutto è giusto mi rivedrete ancora più tardi ma nel frattempo vi raccomando caldamente di studiare con attenzione queste pitture e queste sculture che vi daranno un'idea dei vertici che aveva raggiunto Atlantide nei giorni del mio dominio potrete anche rendervi conto degli usi e costumi di quel popolo sotto la mia influenza la vita era assai varia emozionante e imprevedibile al contrario i giorni scialbi che vivono oggi potremmo definirli un'orgia di noia ma senz'altro voi e i sopravvissuti chiamereste orgia di perversità ai tempi dei loro antenati bene chiamateli come vi pare fui io a fomentarli ne gioisco ancora e non ho dei rimorsi giungesse di nuovo il mio tempo rifarei esattamente quello che ho fatto allora ho soltanto un rimpianto ed è proprio il dono fatale della mia immortalità guarda che io maledissi e che avrei ucciso prima che diventasse talmente forte da mettermi contro il popolo fu più saggio di me a tale riguardo a volte ritorna sulla terra ma è uno spirito non un uomo e ora devo andare siete venuti qui spinti dalla curiosità amici miei mi auguro che adesso sia soddisfatta quindi lo vedemmo svanire sì proprio così scomparve davanti ai nostri occhi non accadde in un istante da prima si stagliava chiaramente contro il pilastro cui era appoggiato poi la sua figura splendida e terribile divenne man mano indistinta cominciando dai contorni si spense la luce di quegli occhi spietati e soprannaturali i suoi lineamenti sbiadirono e un attimo dopo divenne una cupa nuve vorticante che si dileguò veloce verso l'alto attraverso l'acqua stagnante di quello spaventoso salone se ne era andato sbalorditi e sterrefatti ci guardavamo sgomenti dinanzi alle strane e misteriose possibilità della vita non ci fermammo oltre in quel posto non era salutare indugiarvi ancora e infatti dovetti colpire con il bastone appuntito una di quelle disgustose lumache rosse e la scagliai lontano che stava strisciando alle spalle di Scanlan mentre io stesso venivo dolorosamente colpito ad una mano dal getto velenoso di un grande lamelli branche giallo mentre uscivo dalla sala ebbi un'ulta fuggevole visione di quelle spaventose sculture era l'opera di un vero e proprio demone poi sbigottiti e atterriti ci lanciammo di corsa lungo i corridoi tenebrosi giù per le scale di marmo nero via da quel luogo orribile maledicendo l'attimo in cui avevamo deciso di visitare il palazzo della magia nera e fu davvero con grande felicità che ci ritrovammo nella luce fosforescente del fondo marino e rivedemmo un'altra volta l'acqua chiara e trasparente entro un'ora fummo di nuovo al rifugio dopo aver tolto i caschi in fibra vetrosa e il resto dell'equipaggiamento tenemmo immediatamente una riunione tra di noi nelle nostre stanze il professore ed io eravamo troppo sconvolti da quello che era accaduto per riuscire a parlarne in quel frangente si dimostrò preziosa l'indistruttibile vitalità di Bill Scanlan però fumo sacro disse si è dissolto come fumo ma dobbiamo vedercela con lui adesso penso che questo spauracchio sia davvero un pezzo grosso uscito dall'inferno e con tutte quelle pitture le statue ed il resto mi sembra proprio il custode di un bordello da due soldi ma come affrontarlo questo è il punto il professor Marakot era perduto nei suoi pensieri poi si alzò bruscamente suonò il campanello e immediatamente comparve il nostro cameriere in tunica gialla manda gli disse Marakot e un minuto dopo il nostro amico era con noi Marakot gli consegnò il messaggio fatale non ho mai ammirato tanto un uomo come manda in quella circostanza con la nostra inqualificabile curiosità stavamo causando la rovina della sua gente e di lui stesso noi gli stranieri che aveva salvato quando ogni speranza ci aveva abbandonato letto il messaggio divenne bianco come un fantasma eppure non c'era ombra di rimprovero in quei suoi occhi castani tanto tristi scosse la testa e ogni suo gesto rivelava la disperazione che lo aveva preso bal dell'abisso bal dell'abisso gridò e portandosi le mani agli occhi continuava a sfregarli quasi volesse scacciare un'orribile visione poi si mise a correre intorno alla stanza come impazzito dal dolore e finalmente si precipitò fuori per leggere il sinistro messaggio alla comunità pochi minuti più tardi udimmo i colpi della grande campana che convocava l'assemblea nel salone centrale andiamo anche noi domandai e il professor Maracott scosse la testa che cosa possiamo fare e che cosa possono fare anche loro in una situazione come questa che possibilità hanno contro un essere che ha i poteri di un demone le stesse di un branco di conigli contro una donnola disse Scanlan ma per Dinci è compito nostro trovare una via d'uscita non è giusto che andiamo a svegliare il diavolo e poi scarichiamo il barile sulla schiena di quelle che ci hanno salvato e che cosa suggerite gli chiesi ansiosamente perché a parte tutto il suo slang e la sua ironia avevo fiducia nel suo grande senso pratico e nella sua abilità bene adesso vedrete riprese ma chissà forse questo spauracchio non è poi così al sicuro come crede si sarà pure arrugginito un po' con l'età e se dobbiamo prenderlo in parola sta diventando vecchio credete che possiamo attaccarlo pazzie intervenne il professore Scanlan si diresse verso il suo armadietto vi armeggiò per un attimo e quando si voltò di nuovo vedemmo che aveva in mano una grossa rivoltella sei colpi che cosa ve ne pare chiese mi sono impadronito di questo gingillo quando per caso l'ho trovato sul relitto ho pensato che avrebbe potuto tornarci comodo ho una dozzina di confetti con cui fare tanti buchi in quel lazzarone che senz'altro gli uscirà fuori un po' della sua magia buon dio ma che succede adesso la rivoltella cadde con fracasso sul pavimento mentre Scanlan si contorceva in preda ad atroci dolori stringendosi con la mano sinistra il polso destro terribili crampi gli attannagliavano il braccio e quando cercammo di allevargli il dolore massaggiandolo sentimmo che i muscoli erano tesi e irrigiditi aggrovigliati come le radici di un albero un sudore mortale gli imperlava la fronte e quando ormai cominciavamo a disperare si mise infine a sedere sul letto completamente sfinito ed impaurito è finita sta passando disse respirando a fatica ecco è passato grazie va meglio ora ma William Scanlan è KO questa volta ho imparato la lezione non cercate di combattere l'inferno con una rivoltella a sei colpi non provateci neanche d'ora in avanti gliela do vinta e sia avete avuto una bella lezione disse Maracott ed è stata ben severa allora credete che non abbiamo alcuna possibilità di cavarcela cosa mai possiamo fare se a quanto sembra lui conosce in anticipo ogni nostra mossa eppure dobbiamo cercare di non disperare sedete pensoso per qualche minuto credo continuò che la cosa migliore per voi Scanlan sia di restarvene dove siete e riposarvi per un po' avete subito un attacco che richiederà un certo tempo perché vi rimettiate se c'è qualcosa da fare contate su di me purché sia finita con questa maledetta storia disse il nostro amico coraggiosamente ma il suo viso tirato e il tremito che gli scuoteva le membra dimostravano quanto fosse provato non possiamo fare nulla nel senso che intendete voi Bill alla fine abbiamo almeno imparato qual è la strada da non seguire in questa faccenda ogni violenza è inutile dobbiamo agire su un altro piano il piano dello spirito restate qui Adley vado nella stanza che ho adibito a studio forse restando solo riuscirò a vederci più chiaro e a decidere quello che si può fare Scanlon ed io avevamo imparato a riporre molta fiducia in Maracott se una mente umana poteva risolvere le nostre difficoltà questa era la sua e tuttavia sentivamo di aver raggiunto un punto al di là di ogni umana possibilità eravamo senza speranza come bambini in balia di forze che non potevamo comprendere né tantomeno dominare Scanlon era caduto in un sonno agitato il pensiero che mi ossessionava mentre ero seduto accanto a lui non era come potevamo cavarcela quanto piuttosto che forma avrebbe assunto la disgrazia e in che modo si sarebbe abbattuta su Atlantide e su di noi mi aspettavo ad ogni istante di veder crollare il solido soffitto le pareti spaccarsi e le cupe acque dell'abisso chiudersi su coloro che per tanto tempo le avevano sfidate poi improvvisamente la grande campana suonò un'altra volta il suo aspro clangore mi tormentava i nervi balzai in piedi e Scanlan si tirò su a sedere sul letto non era il solito scampanio che convocava l'assemblea quello che adesso echeggiava nell'antico palazzo quei colpi confusi spezzati ed irregolari erano un segnale d'allarme tutti dovevano precipitarsi e dovevano farlo subito i rintocchi continuavano minacciosi e insistenti presto venite subito immediatamente venite lasciate ogni cosa ed accorrete gridava la campana sentite amico dovremmo andare con loro disse Scanlan credo che se la stiano vedendo con lui adesso ma che cosa possiamo fare forse se stiamo con loro gli infonderemo coraggio ad ogni modo non devono pensare che siamo dei vigliacchi dov'è il professore è andato nel suo studio ma avete ragione Scanlan dobbiamo andare perché vedano che siamo pronti a dividere il loro destino in un certo senso quei poveri diavoli dipendono da noi per certi versi ne sapranno anche più di noi ma non hanno il nostro fegato loro hanno trovato le cose belle pronte mentre noi abbiamo dovuto conquistarcele da soli bene affronterò il diluvio se il diluvio deve essere stavamo avviandoci verso la porta quando un'inaspettata interruzione ci trattenne il professor Maracott stava in piedi davanti a noi anzi era qualcosa molto superiore al Maracott che conoscevamo chi era quell'uomo sicuro di sé dal volto forte e autoritario che irraggiava energia e decisione il tranquillo studioso era stato rimpiazzato da un super uomo da un grande condottiero da uno spirito dominatore che poteva piegare ogni mente al suo volere sì amici hanno bisogno del nostro aiuto tutto può ancora finire bene ma dobbiamo affrettarci o sarà troppo tardi sì sì stiamo arrivando queste ultime parole erano rivolte ad alcuni atterriti atlantidei apparsi sulla porta che ci facevano segno di affrettarci era un fatto inopugnabile come aveva detto Scanlan che avevamo dimostrato più volte di aver maggiore forza di carattere e di essere più pronti all'azione di quel popolo solitario per cui anche nel momento dell'ora suprema si aggrappavano a noi udì un mormorio sommesso di gioia e di sollievo al nostro ingresso nel salone affollato e poi quando ci sedemmo nei posti che ci erano stati riservati in prima fila era ora che arrivassimo se volevamo essere di qualche aiuto il terribile essere si trovava già sulla piattaforma e fronteggiava la folla che tremava dinanzi a lui con un sorriso demoniaco e crudele sulle labbra sottili mi tornò in mente guardandoli il paragone di Scanlan di un branco di conigli davanti ad una donnola si facevano piccoli stringendosi l'uno all'altro in preda al panico guardando con gli occhi sbarrati la possente figura che torreggiava su di loro e li scrutava con uno sguardo spietato scolpito nel volto non riuscirò mai a dimenticare la vista di quella platea semicircolare fila dopo fila stipata di visi stravolti e terrorizzati che guardavano con occhi pieni di orrore in un'unica direzione la pedana centrale sembrava che Baal avesse già pronunciato la loro condanna e che essi attendessero all'ombra della morte il suo compimento Manda stava in piedi dinanzi a lui in atteggiamento sottomesso difendendo con accenti accorati la sua gente ma si vedeva chiaramente che le sue parole non facevano altro che accrescere il perverso piacere del mostro che lo guardava ghignando Baal interruppe poi Manda con poche parole e sollevò in alto la mano destra mentre un grido di disperazione prorompeva dalla folla fu in quell'istante che il professor Maracot balzò sulla pedana era sorprendente vederlo sembrava che un prodigio lo avesse trasformato aveva il portamento e i gesti di un giovane eppure il suo viso splendeva di una tale potenza quale mai ho potuto vedere in lineamenti umani si avvicinò a grandi passi al gigante che lo fissava sbalordito ebbene ometto cos'hai da dirmi gli chiese quello devo dirti esclamò Maracot che la tua ora è giunta è suonata da un pezzo oramai va via sprofonda nell'inferno che ti aspetta da tanto sei un principe delle tenebre va allora dove la tenebra è sovrana gli occhi del demone splendevano come nere fiamme mentre rispondeva quando verrà la mia ora se mai verrà non sar certo dalle miserabili labbra di un mortale che la saprò di che potere disponi tu che hai osato porti per un attimo a colui che ha penetrato i più riposti segreti della natura potrei distruggerti ora subito e qui se lo volessi Maracot guardava con gli occhi spaventosi senza tremare anzi mi sembrava quasi che fosse il gigante ad evitare lo sguardo del professore oh essere infelice gridò Maracot sono io che ho il potere di distruggerti dove ti trovi troppo a lungo hai avvelenato il mondo con la tua presenza sei stato un bubbone che ha infettato ogni cosa bella e buona i cuori degli uomini saranno più leggeri quando te ne sarai andato e il sole brillerà più luminoso che cosa dici chi sei balbettò quella creatura parli di una conoscenza segreta devo essere io a dirti qual è l'intima essenza di tale sapere è una verità semplice e profonda in ogni cosa in ogni fenomeno in ogni forma dell'essere in ogni pensiero in ogni azione il bene è più potente del male e l'angelo sconfiggerà il demone adesso io sono nella situazione in cui ti sei trovato tu per moltissimo tempo adesso sono io che posseggo il potere del conquistatore dato che ho fatto prevalere il bene questa è la forza che mi è stata data per questo ti dico ancora muori sprofonda nell'inferno a cui appartieni muori sprofonda nel tuo inferno e il miracolo avvenne per un minuto o forse più come è possibile tener conto del tempo in simili circostanze i due esseri l'uomo ed il demone si fronteggiarono rigidi ed immobili come statue fissando l'uno gli occhi dell'altro ognuno teso a far prevalere la sua volontà il male ed il bene poi di un tratto il gigante nero indietreggiò col volto sconvolto dall'ira e dalla rabbia e sollevò le mani artigliando l'aria sei tu guarda maledetto ho riconosciuto la tua mano maledetto che tu sia maledetto guarda maledetto la sua voce si spense quindi in lontananza l'alta cupa figura cominciò a dissolversi la testa si abbassò sul petto le ginocchia si piegarono si abbassava e rimpiccioliva sempre di più cambiando orribilmente aspetto da prima sembrò una forma umana rannicchiata poi un'informe massa scura ed infine si disfece del tutto trasformandosi in un disgustoso mucchio di nera putredine che colava sul pavimento della pedana ammorbando l'aria allora io e Scanlan ci lanciammo in avanti salendo sulla piattaforma perché il professor Maracott sfinito si era accasciato con un lungo gemito colpito da un collasso che sembrava irrimediabile abbiamo vinto abbiamo vinto mormorò un attimo dopo aveva perso i sensi e gianceva esanime sul pavimento fu così che la colonia di Atlantide si salvò dal più spaventoso pericolo che mai l'avesse minacciata mentre una forza demoniaca veniva bandita per sempre dal mondo per alcuni giorni il professor Maracott non fu in condizioni di raccontare quello che era accaduto e quando lo fece la sua storia fu talmente incredibile che se non avessimo assistito al terrificante epilogo l'avremmo considerata il delirio di un folle tuttavia era evidente che il misterioso potere che lo aveva sorretto in quella circostanza lo aveva ormai lasciato e che era tornato ad essere il tranquillo e gentile uomo di scienza che avevamo conosciuto cosa doveva capitarmi esclamò proprio a me un materialista convinto una persona talmente immersa nello studio della materia e delle scienze esatte da avere praticamente escluso l'invisibile ed il soprannaturale della sua filosofia le convinzioni di tutta una vita sono crollate in pochi istanti in un certo senso siamo tutti tornati a scuola un'altra volta disse Skandan se mai farò ritorno alla mia piccola città avrò qualcosa da raccontare ai bambini meno direte e meglio sarà sempre che non vogliate passare per il più grande bugiardo d'America sorrisi se qualcuno ci avesse raccontato una simile storia pensate che gli avremmo creduto ma forse no sentite professore sembra che ne sappiate più di tutti quanti noi su questa faccenda quel lazzarone ha avuto il fatto suo dopo che lo avete messo fuori combattimento come non ho mai visto in tutta la mia vita non ci sarà un bis l'avete letteralmente cancellato dalla faccia della terra non ho idea di dove sia andato adesso ma di sicuro non è un posto adatto a Bill Scanlan va bene vi racconterò esattamente come sono andate le cose lo interruppe il professore ricorderete che ad un certo punto mi ritirai nel mio studio non nutrivo soverchi e speranze ma a suo tempo lessi molti trattati di magia nera e arti oscure per cui sapevo che la magia bianca può sempre vincere la magia nera a patto che riesca a raggiungere lo stesso livello di volontà e di forza e lui purtroppo si trovava su un piano molto più forte non dico più elevato questo era il problema cruciale non riuscivo a vedere una via di uscita mi lasciai cadere sul divano e cominciai a pregare sì io il materialista convinto pregavo perché il cielo mi aiutasse quando ci si trova al di là di ogni umana possibilità cos'altro possiamo fare se non protendere le mani in preghiera nelle nebbie che ci vorticano intorno supplicando un aiuto e così pregai e la mia supplica ricevette una meravigliosa risposta improvvisamente mi resi conto di non essere più solo nella stanza davanti a me si argeva un'alta figura scura come la presenza malefica che stavamo combattendo ma il suo volto gentile incorniciato dalla barba irradiava compassione e amore sentivo anche in essa un potere non inferiore a quello di Baal ma questo era il potere del bene il potere dinnanzi a cui le forze del male si dissolvono come nebbia al sole mi guardava con occhi gentili mentre mi tiravo su osservandolo con meraviglia troppo sbalordito per riuscire a parlare qualcosa nel mio intimo o una profonda intuizione o ispirazione mi diceva che questo doveva essere lo spirito del grande e saggio Atlantideo che aveva combattuto il male finché era vissuto e che quando non poteva evitare la distruzione della sua terra fece sì che i più meritevoli si salvassero e sopravvivessero anche quando Atlantide si inabissò nell'oceano questo essere meraviglioso interveniva ancora per evitare la rovina della sua opera e la distruzione dei suoi figli in un improvviso faremito di speranza mi resi conto di tutto ciò come se me lo avesse detto lui stesso con le sue parole allora sempre sorridendo si avvicinò e mi poggiò le mani sul capo senza dubbio mi stava trasmettendo il suo potere e la sua forza lo sentì come un fuoco che mi scorreva nelle vene in quell'attimo niente mi sembrò impossibile avevo la forza e il potere di operare miracoli fu allora che udì la campana suonare avvertendo che il momento critico era ormai giunto mentre mi alzavo dal letto sorridendo per incoraggiarmi lo spirito scomparde subito dopo mi unì a voi e il resto lo conoscete bene gli dissi credo che vi siate creato un'eccellente reputazione se voleste installarvi qui come un dio penso che non incontrereste alcuna difficoltà eh sì aggiunse Scanlan lo avete sistemato proprio bene ma ditemi professore come mai questo delinquente non sapeva quello che stavate per fargli con me è stato assai svelto quando ho preso la pistola eppure ce l'avete fatta suppongo che la spiegazione consista in questo voi volevate combatterlo sul piano della materia mentre io l'ho affrontato su quello dello spirito rispose il professore pensosamente in fondo questi fatti insegnano ad essere umili è soltanto quando raggiungiamo questi vertici spirituali che ci rendiamo conto di quanto siamo piccoli nel quadro della creazione ho imparato la lezione spero di poter dimostrare nella vita che mi resta che l'ho appresa bene e così finì quella nostra straordinaria avventura qualche tempo dopo concepimmo l'idea di inviare le nostre notizie in superficie e più tardi escogitammo il modo di tornare nel mondo per mezzo dei globi di fibra di vetro riempiti di levigeno cosa che attuammo nel modo ormai noto oggi il professor Maracott dice di voler tornare laggiù perché desidera chiarire qualche problema di tologia riguardo a Bill Scannan ho sentito che ha sposato il suo passerotto di filadelfia e che è stato promosso direttore dei cantieri Marybank sicché non va più in cerca di avventure quanto a me beh l'abisso del mare mi ha regalato una perla davvero preziosa e non chiedo niente di più grazie per l'ascolto se vuoi supportare il canale e far crescere la qualità degli audiolibri puoi fare una piccola donazione su Paypal o Ko-Fi tramite il link che trovi in descrizione inoltre se vuoi ascoltare questi racconti più comodamente quando sei in giro puoi trovarli anche su Spreaker Spotify ed Apple Podcast grazie ancora e ci sentiamo al prossimo racconto grazie a tutti